Libro ottavo. Mitia. Kuzma Sansonov. Nel frattempo, Dmitri Fyodorovic, al quale Grushenka al momento di prendere il volo verso una nuova vita, aveva ordinato di dare il suo ultimo saluto e di ricordare per sempre l'oretta del suo amore, in quello stesso istante, completamente all'oscuro di quanto stesse avvenendo a lei, si trovava in uno stato di grave turbamento e scompiglio. In quegli ultimi due giorni aveva vissuto una tale e inimmaginabile condizione di spirito che avrebbe potuto facilmente ammalarsi di febbre cerebrale, come ebbe a dire egli stesso in seguito. Agliosha non era stato capace di scovarlo la mattina precedente, mentre il fratello Ivan non era riuscito a combinare l'incontro con lui al ristorante. I padroni dell'appartamento in cui viveva avevano nascosto le sue tracce secondo le disposizioni da lui ricevute. Quanto a lui, aveva trascorso quegli ultimi due giorni correndo letteralmente da una parte all'altra, in lotta con il proprio destino nel tentativo di salvare se stesso, come ebbe egli stesso ad esprimersi in seguito. Aveva persino fatto un salto di qualche ora fuori città, per affari urgenti, per quanto fosse terribile per lui perdere di vista Grushenka anche per un solo minuto. Tutto questo in seguito fu spiegato nei dettagli e confermato da prove documentarie, ma per il momento indicheremo solo i fatti necessari a ricostruire la storia dei due terrificanti giorni della sua vita che precedettero la catastrofe, che doveva improvvisamente abbattersi sul suo destino. Grushenka lo aveva amato per un'oretta di amore vero e sincero, questo sì, ma allo stesso tempo lo aveva tormentato con spietata crudeltà. E il peggio era che egli non riusciva in alcun modo a decifrare le intenzioni di lei. Non era nemmeno possibile estorcegliele con la forza o con la dolcezza. Ella non avrebbe ceduto in nessun caso, si sarebbe solo adirata e allontanata da lui del tutto. Questo lui lo capiva bene. Aveva avuto il sospetto, del tutto fondato, che anche lei avesse ingaggiato una lotta con se stessa, che si trovasse in uno stato di estrema indecisione e che stesse dunque ponderando una decisione senza risolversi a prenderla. Per questo, con la morte nel cuore, egli aveva formulato l'ipotesi, anche questa non priva di fondamento, che alle volte ella odiasse senza mezzi termini lui e il suo amore. E forse era proprio così. Ma per che cosa esattamente si angosciascia Grushenka? Egli non riusciva in alcun modo a capirlo. Quanto a lui, la questione che gli dava il tormento si riassumeva tutta nell'alternativa. O lui, Mitia, o Fyodor Pavlovich. A questo punto dobbiamo notare un fatto certo. Egli era fermamente convinto che Fyodor Pavlovich avrebbe immancavilmente proposto, se non l'aveva già fatto, un matrimonio in piena regola a Grushenka e neanche per il momento aveva pensato che il vecchio libertino sperasse di cavarsela solo con 3.000 rubli. Mitia era giunto a queste conclusioni conoscendo Grushenka e il suo carattere. Ecco perché a volte gli sembrava che tutto il tormento e l'indecisione di Grushenka derivasse esclusivamente dal fatto di non sapere quale dei due scegliere e quale dei due le convenisse di più. Invece, al prossimo ritorno dell'ufficiale, di quell'uomo così fatale nella vita di Grushenka e il cui arrivo ella attendeva con tanta trepidazione e paura, strano a dirsi. Egli non aveva pensato minimamente in quei giorni. Vero si è che Grushenka non aveva fatto parola su quell'argomento in quegli ultimi giorni. Eppure, egli era stato messo perfettamente al corrente da lei stessa della lettera ricevuta un mese prima dal suo ex seduttore. Ne conosceva in parte anche il contenuto. In un momento di perfidia, Grushenka gli aveva mostrato quella lettera, ma con meraviglia di lei egli non le aveva dato alcun peso. E sarebbe stato molto difficile spiegare questa sua reazione. Forse, essa era dovuta al fatto che, prostrato dall'infamia e dall'orrore della propria lotta con il padre a causa di quella donna, egli non poteva immaginare nulla di più terribile e pericoloso, almeno per il momento. A quel fidanzato, saltato fuori dal nulla dopo un'assenza di cinque anni, egli semplicemente non dava credito, soprattutto al fatto che sarebbe tornato presto. Inoltre, in quella prima lettera dell'ufficiale mostrata a Grushenka, si parlava in termini molto vaghi dell'arrivo di questo nuovo rivale. La lettera era molto oscura, molto ampollosa e traboccante di sentimentalismo. È comunque degno di nota che Grushenka quella volta gli avesse nascosto le ultime righe della lettera, nelle quali si diceva qualcosa di più preciso sul suo ritorno. Grushenka ebbe modo di ricordare, in seguito, che in quel momento aveva colto nel viso di Grushenka addirittura una sfumatura di involontario e altero disprezzo verso quella missiva giunta dalla Siberia. Grushenka poi non aveva più informato Mitienka degli ulteriori contatti intercorsi tra lei e il nuovo rivale. In tal modo, egli aveva finito a poco a poco con il dimenticarsi dell'ufficiale e pensava soltanto che, qualunque cosa fosse accaduta, comunque la faccenda fosse andata, lo scontro finale con Fiodor Paolovis era imminente e doveva essere risolto prima di ogni altra cosa. Con il fiato sospeso, egli aspettava di minuto in minuto la decisione di Grushenka, sempre convinto che questa sarebbe sopraggiunta all'improvviso, sull'impulso del momento. Ella gli avrebbe detto «Prendimi, son tua per sempre» e tutto sarebbe finito. «Egli l'avrebbe presa e portata in capo al mondo, in un battibaleno. Oh, l'avrebbe condotta immediatamente il più lontano possibile, se non proprio in capo al mondo, certo in qualche angolo remoto della Russia. E lì l'avrebbe sposata e si sarebbe stabilito in incognito, in maniera che nessuno venisse a sapere nulla di loro, né qui, da noi, né là, né da nessun'altra parte. Allora, oh, allora sì che sarebbe iniziata una vita completamente nuova». Egli sognava costantemente e come in estasi quest'altra vita, rinnovata e virtuosa, assolutamente, assolutamente virtuosa. Egli bramava questa resurrezione e questo rinnovamento. L'abominevole vortice nel quale era precipitato per suo stesso volere era troppo ripugnante ed egli, come anche molti altri, nella sua stessa situazione confidava soprattutto nell'idea di cambiare luogo. Se solo non ci fosse stata questa gente, se solo non fossero esistite quelle circostanze, se solo fosse scappato via da quel postaccio maledetto, la vita tutta ne sarebbe stata rigenerata e sarebbe ripartita da zero. Ecco, in che cosa credeva e per che cosa si struggeva. Ma questo sarebbe accaduto solo nel primo caso, nel caso di un esito felice della questione. Esisteva anche l'altra alternativa, si presentava anche l'altra, orribile soluzione. Se ella gli avesse detto a bruciapelo, va via, ho appena preso accordi con Fiodor Paolovi e sposerò lui, tu non mi servi più. Allora, allora, e ti aperò, non sapevo a che cosa sarebbe accaduto in quel caso, non lo seppe fino all'ultimo momento, in questo bisogna rendergli giustizia. Non aveva progetti precisi, nessuna premeditazione di delitto. Egli si limitava a pedinare, spiare e tormentarsi. Tuttavia, si preparava soltanto al primo esito, quello felice per il suo destino. Ricacciava persino l'altro pensiero. Ma a quel punto cominciava un tormento di altro genere. Si affacciava a una circostanza del tutto nuova e secondaria, ma al tempo stesso fatale e senza via di uscita. Nel caso in cui ella gli avesse detto, sono tua, portami via, come avrebbe fatto a portarla via? Dove li trovava i mezzi necessari? Dove trovava il denaro? Proprio in quel periodo erano venuti a cessare i proventi che per tutti quegli anni aveva ininterrottamente incassato dalle mance di Fiodor Paolović. Naturalmente, Grushenka aveva del denaro da parte sua, ma Mitienka su questo punto rivelava un orgoglio senza pari. Voleva condurla via per cominciare con lei una nuova vita, con i propri mezzi, non con quelli di lei. Non poteva nemmeno immaginare di accettare denaro da lei e a questo pensiero soffriva fino a provarne una repulsione intollerabile. Non starò qui a dilungarmi su questo fatto, non lo analizzerò. Prendo nota soltanto che era questo il suo stato d'animo in quel momento. Certo, esso poteva derivare indirettamente e quasi inconsciamente dal segreto rimorso di coscienza per essersi appropriato come un ladro del denaro di Caterina Ivanovna. Sono stato mascalzone con una e faccio subito subito la stessa figura di mascalzone con l'altra, pensava allora, come ebbe modo di ammettere in seguito e se Grushenka lo scoprisse sarebbe lei stessa non volere un simile mascalzone. E allora, dove procurarsi i mezzi necessari? Dove prendere quel denaro così fatale? Altrimenti tutto sarebbe stato perduto e nulla si sarebbe realizzato e soltanto per la mancanza di denari. Oh, che vergogna! Faccio un piccolo salto in avanti. Egli forse sapeva dove procurarsi quei soldi, anzi, forse sapeva anche dove si trovavano. Non dirò nulla di più per il momento, già che si spiegherà ogni cosa in seguito. Ma in cosa consisteva il vero guaio, lo dirò sia pur vagamente. Per poter prendere quel denaro che si trovava in quel certo posto, per avere il diritto di prenderlo, doveva prima restituire i 3.000 rubli a Caterina Ivanovna. Altrimenti, diceva tra sé e sé, sarei un tagliaborse, un mascalzone e non voglio cominciare una nuova vita da mascalzone. Così aveva deciso Mitia, quindi si era proposto di smuovere mari e monti, se fosse stato necessario, per restituire quei 3.000 rubli a Caterina Ivanovna, a qualunque costo e prima di tutto. La fase finale di questa risoluzione, per così dire, aveva avuto luogo in quelle ultimissime ore, proprio dopo l'ultimo incontro con Agliosha, due sere prima, per strada, dopo che Grushenka aveva offeso Caterina Ivanovna e Mitia, udito il resoconto dell'accaduto dalla voce di Agliosha, aveva ammesso di essere un mascalzone e aveva ordinato ad Agliosha di riferirlo a Caterina Ivanovna, ammesso che questo le potesse essere in qualche modo di conforto. Quella sera stessa, una volta lasciato il fratello, nel suo stato di frenesia, aveva sentito che sarebbe stato meglio uccidere e derubare qualcuno, piuttosto che non restituire il debito a Katia. Preferisco essere un assassino e un ladro davanti a colui che avrò ammazzato e derubato e davanti agli uomini tutti e quindi andare in Siberia, piuttosto che permettere che Katia abbia il diritto di dire che l'ho tradita. Le ho rubato i soldi e con quei soldi sono fuggito per cominciare una nuova vita con Grushenka. Questo non lo permetterò. Così aveva deciso Mitia digrignando i denti e in alcuni momenti egli pensava davvero che il suo cervello avrebbe finito col cedere, ma per il momento continuava a lottare. Strano a dirsi, sebbene si potesse supporre che una volta presa una simile decisione, non gli rimanesse altro da fare che disperarsi, giacché dove mai avrebbe potuto procurarsi tanti soldi uno squattrinato come lui. Eppure, fino alla fine, egli non smise mai di sperare che avrebbe trovato quei tremila rubli, che essi sarebbero arrivati a lui, sarebbero piovuti su di lui in qualche modo, fosse anche dal cielo. Ma proprio questo accade a coloro che nella loro vita hanno saputo solo sperperare e gettare ai quattro venti il denaro lasciato loro in eredità, senza avere alcuna idea di come si faccia a guadagnarlo, esattamente come nel caso di Dmitri Fiodorovic. Il vortice più fantastico si era sollevato nel suo cervello, subito dopo essersi separato dagli oscia due giorni prima, un vortice che aveva gettato nello scompiglio tutti i suoi pensieri. E fu così che egli cominciò dalla più disperata delle imprese e forse, a uomini simili in circostanze simili, sono le imprese più impossibili e fantastiche che vengono in mente per prime e sembrano le più facili. Egli decise di recarsi su due piedi dal mercante Samsonov, il protettore di Grushenka, e di proporgli un piano grazie al quale avrebbe ottenuto da lui, in un sol colpo, l'intera somma necessaria. Dal punto di vista commerciale, egli non nutriva alcun dubbio sul proprio piano. I suoi dubbi riguardavano invece l'opinione che Samsonov si sarebbe fatto di quella trovata, se avesse voluto considerarlo da un punto di vista non strettamente commerciale. Mitya conosceva di vista quel mercante, ma non gli era stato mai presentato e non aveva mai scambiato una parola con lui. Ma per qualche ignoto motivo si era venuta rafforzando in lui, eppure da molto tempo, la convinzione che quel vecchio corruttore, che allora aveva l'anima appesa a un filo, forse in quel momento non si sarebbe opposto all'idea che Grushenka si costituisse in qualche modo una vita onesta e si sposasse con un uomo affidabile, anzi, egli era convinto che non solo non si sarebbe opposto, ma che era proprio quello che egli desiderava e, se se ne fosse presentata l'occasione, avrebbe fatto di tutto per dare lui stesso una mano. In base a qualche voce o forse a qualche parola sfuggita a Grushenka, aveva inoltre concluso che forse il vecchio avrebbe preferito lui a Fyodor Paulovic. Probabilmente, a molti lettori di questa storia, il ricorso a un simile aiuto e l'intenzione di prendere la propria sposa, diciamo così, dalle mani del suo protettore, potrebbero sembrare troppo rozzi e privi di tato da parte di Dmitri Fyodorovic. A questo proposito, noterò soltanto che il passato di Grushenka per Mitia era soltanto passato e passato una volta per tutte. Egli guardava quel passato con infinita compassione e aveva deciso, con tutto l'ardore della sua passione, che una volta che Grushenka gli avesse dichiarato di amarlo e di essere disposta a seguirlo, ella sarebbe di colpo diventata una Grushenka diversa e insieme a lei sarebbe nato un nuovo Dmitri Fyodorovic, senza più vizi, dotato di sole virtù. Ognuno di loro avrebbe perdonato l'altro e avrebbero cominciato una nuova vita, partendo da zero. Quanto a Kuzma Sansonov, egli lo considerava un uomo che aveva esercitato un influsso fatale nella precedente vita, ormai sprofondata nel passato di Grushenka, un uomo che ella però non aveva mai amato e che soprattutto era una cosa del passato, finita e quindi inesistente nel presente. Inoltre, Mithia in quel momento non lo considerava nemmeno un uomo, già che era noto a tutti in città che egli si era ridotto a un rudere malconcio che manteneva con Grushenka rapporti puramente paterni, diciamo così, su basi completamente diverse da prima ed era più di un anno che le cose stavano in questo modo. in ogni caso, in tutto questo c'era molta ingenuità da parte di Mithia, già che malgrado tutti i suoi difetti egli rimaneva un uomo molto ingenuo. In conseguenza di questa sua ingenuità, egli era fermamente convinto, fra l'altro, che il vecchio Kuzma, accingendosi a passare a miglior vita, provasse un sincero pentimento per il proprio passato con Grushenka e che in quel momento per lei non ci fosse protettore e amico più devoto di quel vecchio ormai innocuo. Nel giorno successivo alla conversazione avuta con la Yosha fra i campi, dopo il quale Mithia non aveva chiuso occhio, egli si era presentato a casa di Sansonov verso le dieci di mattina e aveva chiesto di essere annunciato. La casa era vecchia, cupa, molto spaziosa, a due piani, con dipendenza e un'ala annessa. Al piano inferiore vivevano i due figli sposati di Sansonov con le loro famiglie, l'anziana sorella e una figlia zitella. Nella dipendenza erano sistemati i suoi due commessi, una dei quali con famiglia numerosa. Sia i figli sia i commessi stavano molto stretti nelle loro abitazioni, eppure il vecchio riservava a sé tutto il piano superiore della casa e non permetteva neanche alla figlia che lo accudiva di vivere con lui, tanto che quella era costretta a correre su da lui a orari prestabiliti e ogni volta che il padre la chiamava, nonostante la sua asma di vecchia data. Il piano superiore constava di una moltitudine di grandi camere di rappresentanza, arredate secondo il vecchio stile dei mercanti, con lunghe e monotone file disgraziate sedie e poltroncine di mogano lungo le pareti, lampadari di cristallo ricoperti da fodere e cupi specchi alle pareti fra le finestre. Tutte quelle stanze rimanevano completamente vuote e disabitate, poiché il vecchio malato si era ormai ridotto in un'unica stanza, la sua piccola e remota stanza da letto, dove era servito da una vecchia cameriera con i capelli raccolti sotto un fazzoletto e da un garzone che di solito sedeva su una panca dell'ingresso. Il vecchio non era quasi più in grado di camminare a causa del gonfiore alle gambe, solo di rado si alzava dalla sua poltrona di pelle e la vecchia che lo sorreggeva sotto braccio lo accompagnava su e giù per la stanza. Egli era severo e taciturno persino con quella vecchia. Quando gli riferirono dell'arrivo del capitano, egli sulle prime si rifiutò di riceverlo. Mamitia insisté e chiese di essere annunciato un'altra volta. Kuzma Kuzmie sottopose il garzone a un puntiglioso interrogatorio. Gli domandò che aspetto avesse l'ospite, che fosse ubriaco, se avesse l'aria di voler attaccar briga. gli fu risposto che il capitano era sobrio ma non intendeva andarsene. Il vecchio si rifiutò ancora una volta di riceverlo. Allora Amitia, che aveva previsto questo rifiuto e che si era provvisto di carta e matita proprio per questa evenienza, scrisse a chiare lettere su un pezzo di carta la seguente frase «Per un affare della massima importanza» che riguarda da vicino a Grafina Aleksandrovna e lo mandò al vecchio. Dopo averci riflettuto, Samsonov ordinò al garzone di introdurre il visitatore nel salone. Poi mandò la vecchia al piano di sotto da suo figlio minore con l'ordine di presentarsi immediatamente di sopra. Il figlio minore, un uomo alto due metri e dotato di eccezionale forza fisica, rasato e vestito alla maniera tedesca, Samsonov invece indossava il caffetano e portava la barba, salì immediatamente senza fiatare. Tremavano tutti davanti al padre. Il padre aveva convocato quel giovane non tanto per paura del capitano. Il coraggio non gli faceva certo difetto, ma così per ogni evenienza, più che altro per avere un testimone. In compagnia del figlio che lo teneva sotto braccio e del garzone, egli finalmente comparve nel salone. Va detto che egli era molto incuriosito. Il salone nel quale Mitia lo attendeva era enorme, cupo, angosciante, aveva un doppio ordine di finestre, una galleria, pareti rivestite di marmo e tre enormi lampadari di cristallo avvolti nelle fodere. Mitia stava seduto su una sediolina presso la porta e attendeva che si compisse il suo destino in nervosa trepidazione. Quando apparve il vecchio dalla parte opposta, a una ventina di metri di distanza dalla sua sedia, Mitia scattò in piedi e gli andò incontro con il suo lungo e deciso passo militare. Mitia era vestito con cura, indossava una finanziera abbottonata fino al collo e teneva in mano un cappello rotondo e i guanti neri, esattamente come si era presentato tre giorni prima al monastero dello Starec, alla riunione di famiglia con Fiodor Paolovic e i fratelli. Il vecchio lo attese fermo in piedi, con aria grave e severa, e Mitia si accorse che mentre avanzava quello lo esaminava da capo a piedi. Mitia fu colpito dal modo in cui il viso di Cusma Cusmie si era gonfiato in quegli ultimi tempi. Il labbro inferiore, già carnoso di per sé, sembrava una grossa frittella penzolante. Egli si inchinò all'ospite con aria grave, senza dire una parola e gli indicò la poltrona accanto al divano. Poi, appoggiandosi al braccio del figlio e gemendo per i dolori, andò lentamente a sedersi sul divano di fronte a Mitia, tanto che quello, vedendo gli sforzi dolorosi del vecchio, avvertì in cuor suo un repentino pentimento e una certa vergogna per la sua nullità dinnanzi alla personalità così importante che aveva osato disturbare. «In che cosa posso esservi utile, signore?» disse il vecchio in tono lento, cadenzato, severo ma cortese, dopo essersi seduto. Mitia trasalì, fece per scattare in piedi, ma poi si risedette. Cominciò a parlare con voce alta, rapida, nervosa, gesticolando, era molto agitato. Si vedeva che era un uomo arrivato al limite estremo, sull'orlo del precipizio, alla ricerca di un'ultima via d'uscita e che se non fosse riuscito a trovarla sarebbe corso ad annegarsi. Il vecchio Sansonov, probabilmente, capì tutto questo in un batter d'occhio, anche se l'espressione del suo viso rimase inalterata e fredda, come quella di una statua. «Rispettabilissimo Kuzma Kuzmie, probabilmente avrete sentito parlare più di una volta delle mie dispute con mio padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, che mi ha derubato dell'eredità lasciatemi da mia madre, da che la città intera spettegola su questo, perché tutti qui spettegolano su ciò che non dovrebbero. inoltre, potreste averne avuto notizia da Grushenka, chiedo scusa, da Agrafena Aleksandrovna, che io stimo e rispetto in sommo grado, così esordimitia, interrompendosi sin dalla prima parola, ma non staremo a riportare il suo discorso per filo e per segno, ne faremo soltanto un riassunto». Egli raccontò che, tre mesi prima, egli si era consultato con esplicita intenzione, disse proprio con esplicita intenzione e non intenzionalmente con un avvocato della capitale del distretto, un avvocato di chiara fama, Kuzma Kuzmie, Pavel Paolović Kornéplodov, la signoria l'avrà sentito nominare, un uomo di vaste conoscenze, un cervello da statista, egli vi conosce, parla di voi con la massima considerazione. Si interruppe un'altra volta, mitia, ma le interruzioni non gli impedivano di andare avanti, le scavalcava e proseguiva. Kornéplodov dopo averlo interrogato nei dettagli e dopo aver esaminato i documenti che mitia era stato in grado di presentargli, sui documenti mitia fu piuttosto vago e particolarmente precipitoso, aveva concluso che riguardo alla tenuta di Ernasnia che avrebbe dovuto appartenere a lui, a mitia come parte dell'eredità della madre, si poteva intentare un'azione legale e così prendere alla sprovvista il vecchio spudorato, già che non tutte le porte erano chiuse e la giustizia avrebbe individuato la fessura dalla quale penetrare. Insomma, avrebbe potuto sperare su una somma aggiuntiva di ben 6.000 rubli da parte di Fiodor Paolovic, di 7.000 persino, nel momento che Ermasnia valeva non meno di 25.000 e forse anche 28.000, 30.000, 30.000, Cusma Cusmia, e io, immaginate, non ho avuto nemmeno 17.000 rubli da quell'uomo spietato. Ma io, mitia, diceva, ho lasciato stare la faccenda, c'è che ho poca dimestichezza con la giustizia. Però, una volta giunto in città, sono rimasto di stucco a causa di una controquerela asporta contro di me. A questo punto, mitia si confuse ancora una volta e fece nuovamente un grosso balzo in avanti nel suo discorso. Quindi, non vorreste voi, rispettabilissimo Cusma Cusmia, assumervi tutti i miei diritti contro quel mostro, versando a me la somma di soli 3.000 rubli. In nessun caso potreste venire a perderci, lo giuro, sul mio onore, sul mio onore, anzi, potreste guadagnarne 6.000 o 7.000 rubli invece di 3. Quel che conta è concludere oggi stesso. Concluderei l'affare da un notaio o come vorrete. Insomma, sono disposto a tutto. Vi darò tutti i documenti che vorrete. Firmerò tutto. Potremmo stendere il documento ora se fosse possibile, se solo fosse possibile questa mattina stessa. Voi mi dareste quei 3.000 rubli dal momento che non esiste in questa cittaduzza un capitalista che possa stare alla pari con voi e così mi salvereste da... Insomma, salvereste la mia povera testa per una nobilissima causa, per una causa elevata potrei dire che nutro i più nobili sentimenti per una certa persona che conoscete benissimo e per la quale siete come un padre. Altrimenti non sarei venuto se voi non foste stato come un padre per lei. E infatti questo è uno scontro a 3 se che il destino è una cosa terribile Cusma Cusmie la vita reale Cusma Cusmie la vita reale e dal momento che voi siete fuori combattimento da un pezzo allora è uno scontro a 2 mi esprimo goffamente forse ma non sono uomo di lettere io cioè uno sono io e l'altro è Fyodor Paulovic quel mostro quindi sta a voi scegliere me oppure il mostro è tutto nelle vostre mani adesso tra i destini e la felicità di due persone scusate ho perduto il filo ma voi capirete vedo dai vostri rispettabili occhi che avete capito e se non avete capito oggi stesso sarò perduto ecco Mitia interruppe il suo sgraziato discorso con quell'ecco e scattò in piedi in attesa di una risposta alla sua stupida offerta ma mentre pronunciava l'ultima frase egli aveva sentito con disperazione di aver fatto un buco nell'acqua e soprattutto di aver detto delle terribili sciocchezze strano mentre venivo qui mi sembrava che il discorso filasse alla perfezione e invece si è ridotto a un cumulo di sciocchezze fu questo pensiero che si affacciò la sua mente disperata per tutto il tempo che Mitia aveva parlato il vecchio era rimasto seduto immobile e lo aveva osservato con uno sguardo glaciale dopo averlo tenuto un po' in sospeso Kuzma Kuzmia disse con il tono più deciso e sconfortante scusate signore ma noi non intraprendiamo affari del genere Mitia si sentì di colpo mancare la forza nelle gambe che cosa mi resta da fare allora Kuzma Kuzmia mormorò con un pallido sorriso adesso sono perduto voi che ne dite scusate signore Mitia rimaneva in piedi a fissarlo immobile quando notò un repentino guizzo sul viso del vecchio e gli trasalì vedete signore affari di questo genere non ci piacciono molto spiegò lentamente il vecchio si ha a che fare con giudici avvocati una vera rovina ma se volete qui c'è una persona alla quale potreste rivolgervi Dio mio chi è? voi mi resuscitate Kuzma Kuzmia valbetò Mitia non è di qui ma in questo momento si trova da queste parti è di origine contadina e commerza in legna si chiama gli agavi di soprannome è in trattative da un anno intero con Fyodor Pavlovich per quel vostro boschetto a Hermasnia si dice che non si mettono d'accordo sul prezzo forse l'avete sentito adesso è ritornato e sta presso il curato di Jinskoe a una dozzina di verste dalla stazione di Volovia cioè nel villaggio di Jinskoe ha scritto anche a me a proposito dello stesso affare per chiedermi consiglio in merito al boschetto Fyodor Pavlovich stesso ha intenzione di andarci a parlare quindi se voi anticipaste Fyodor Pavlovich e proponeste gli agavi quello che avete proposto a me forse sarebbe possibile idea geniale lo interruppe entusiasta Mitia è l'uomo che fa per me andrò dritto da lui è in trattative gli chiederanno una cifra alta e invece avrà in mano il documento che gli intesterà la proprietà stessa e Mitia scoppiò a ridere della sua secca risatina legnosa del tutto in attesa tanto che Samsono stesso sussultò con il capo come posso ringraziarvi Cusma Cusmie gridò Mitia con calore ma vi pare signore rispose Samsono abbassando il capo ma voi non sapete voi mi avete salvato è stato un presentimento a portarmi sino a voi e così adesso andrò da quel pope non occorre che mi ringraziate signore andrò lì di volata ho abusato della vostra salute non lo dimenticherò mai è un uomo russo che ve lo dice Cusma Cusmie un uomo russo sicuro Mitia era sul punto di afferrare la mano del vecchio per stringerla quando un'espressione maligna balenò negli occhi dell'altro Mitia ritirò la mano ma si rimproverò immediatamente per la propria volubilità sarà stanco pensò è per lei per lei Cusma Cusmie voi capite che è per lei ruggì per tutta la sala poi si inchinò girò rapidamente sui tacchi e si diresse verso l'uscita a passi lunghi e veloci come prima senza più voltarsi tremava per l'eccitazione sembrava che fosse tutto perduto ed ecco che l'angelo custode mi ha salvato gli venne in mente e se è un uomo d'affari come quel vecchio un vecchio rispettabilissimo e che dignità mi ha indicato quella via allora allora il successo è assicurato partirò immediatamente tornerò prima di notte tornerò anche stanotte ma la faccenda sarà felicemente conclusa oppure quel vecchio ha voluto prendersi gioco di me esclamava Mitia mentre si recava al suo appartamento ed egli in vero non poteva pensarla diversamente cioè o si trattava di un consiglio pratico da parte di un uomo d'affari di quel calibro che conoscevo l'affare in questione e conosceva quegli agavi che strano cognome oppure il vecchio si prendeva gioco di lui ahimè questa seconda trattativa era quella giusta in seguito molto tempo dopo quando la catastrofe si era già compiuta il vecchio Sanson lo stesso ammetteva ridendo che allora si era preso gioco del capitano era un vecchio perfido freddo e sarcastico soggetto per di più a violente antipatie forse l'aspetto esagitato del capitano o la stupida convinzione di quello sciallacquatore e dissipatore che lui Sansonov avrebbe accettato una corbelleria come quel suo piano o ancora forse la gelosia nei confronti di Grushenka il nome della quale quello scapestrato si era recato da lui con quella stupida idea di ottenere denaro non so precisamente quali di questi motivi avesse stuzzicato particolarmente il vecchio ma nel momento in cui Mitia gli stava dinnanzi sentendo che gli veniva meno la forza nelle gambe e gridando cose prive di senso a proposito della sua rovina in quell'istante il vecchio gli aveva accettato uno sguardo di sconfinata malignità e gli era saltato in mente di prenderlo in giro quando Mitia fu uscito Kusma Kusme pallido di rabbia ordinò al figlio di prendere provvedimenti che quello straccione non si presentasse mai più e che non fosse mai più ammesso nemmeno un cortile altrimenti egli non espresse ad alta voce che cosa gli avrebbe fatto in caso contrario ma perfino il figlio che l'aveva visto spesso adirato tremò dalla paura dopo per un'ora intera il vecchio rimase tremante per la rabbia e verso sera si sentì tanto male che mandarono a chiamare il dottore gli agavi e così bisognava galoppare di gran carriera ma non aveva neanche una copeca per i cavalli cioè aveva solo venti copeche era tutto quel che gli rimaneva dopo tanti anni di prosperità ma a casa aveva un vecchio orologio d'argento che aveva smesso di funzionare da un pezzo lo afferrò e lo portò da un orologiaio ebreo che si era piazzato con la sua bancarella nella piazza del mercato quello gli diede sei rubli non mi aspettavo tanto gridò Mitia in visibilio si trovava ancora in quello stato di visibilio prese i suoi sei rubli e corse a casa a casa rimpinguò la somma prendendo in prestito tre rubli dai padroni di casa che gli ridettero con piacere nonostante fossero gli ultimi soldi a loro disposizione tanto era il bene che gli volevano Mitia nello stato di eccitazione in cui si trovava rivelò loro lì per lì che si stava decidendo il suo destino e raccontò con una fretta precipitosa si intende quasi tutto il suo piano come lo aveva appena esposto a Samsonov poi riferì anche la decisione di Samsonov e le proprie speranze per il futuro e così via anche in precedenza i padroni di casa erano stati messi a parte di molti suoi segreti e per questo non lo consideravano affatto un signore superbo ma uno di loro racimolati in questo modo nove rubli Mitia mandò a prendere i cavalli di posta che lo avrebbero condotto sino alla stazione di Volovia e fu così che venne ricordato e segnalato il fatto che alla vigilia di un certo evento a mezzogiorno Mitia non aveva nemmeno una copeca tanto che per procurarsi del denaro aveva venduto l'orologio e preso tre rubi in plestito dai padroni di casa e tutto questo in presenza di testimoni sto sottolineando questo fatto in anticipo il motivo sarà chiaro in seguito mentre si recava a gran galoppo alla stazione di Volovia sebbene fosse raggiante per il felice presentimento che finalmente avrebbe concluso e dipanato tutte quelle faccende non di meno tremava dalla paura che cosa avrebbe combinato Grushenka in sua assenza e se si fosse decisa ad andare da Fiodor Paolovic proprio quel giorno ecco perché era partito senza dirle nulla e aveva chiesto ai padroni di casa di non rivelare a nessuno da quel momento in poi che fine avesse fatto nel caso che qualcuno fosse andato a chiedere notizie di lui devo tornare assolutamente assolutamente questa sera si ripeteva sobbalzando sul carro e dovrei cercare pure di trascinare quelli gavi in città per perfezionare l'atto legale ecco quello che fantasticava Amitia con il fiato sospeso ma ahimè i suoi sogni non erano destinati a realizzarsi secondo il suo piano in primo luogo egli perse molto tempo dopo aver imboccato la strada vicinale dalla stazione di Volovia quella strada risultò a lunga non dodici ma diciotto verste in secondo luogo non trovò il curato di Linskoe in casa perché questi si trovava in un villaggio vicino partì per quel villaggio con gli stessi cavalli esausti e mentre lo cercava si fece quasi notte il curato un ometto dall'aspetto timido e cortese gli spiegò subito che quegli agavi sebbene si fosse davvero fermato da lui inizialmente in quel momento si trovava a Sukhoi Paselok dove avrebbe pernottato nell'isba del guardiaboschi dal momento che anche lì commersava in legna alle pressanti richieste di mitia di accompagnarlo immediatamente dagli agavi in questo modo l'avrebbe salvato il curato dopo i tentenamenti iniziali alla fine accettò di condurlo a Sukhoi Paselok evidentemente incuriosito ma sfortunatamente consigliò che si andasse a piedi dal momento che si trattava di una versta o poco più mitia naturalmente fu d'accordo e si avviò con il suo lungo passo tanto che il povero curato fu quasi costretto a correre gli dietro era un uomo non ancora vecchio e molto prudente anche con lui mitia si mise a parlare dei suoi progetti con ardore chiedendogli nervosamente consigli riguardo agli agavi parlò per tutto il tragitto il curato ascoltava con attenzione ma dette ben pochi consigli alle domande di mitia rispondeva evasivamente non so non so come faccio a saperlo e così via quando mitia si mise a parlare dei propri contrasti con il padre riguardo all'eredità allora il curato si spaventò persino dal momento che con Fiodor Paolovic egli si trovava in un rapporto quasi di dipendenza poi si informò sulla ragione per la quale egli chiamasse gli agavi quel contadino commerciante che in realtà si chiamava Gorskin e fu costretto a spiegare a mitia che gli agavi era e non era il vero nome di quell'uomo nessuno lo chiamava mai così perché si sarebbe seriamente offeso e quindi doveva assolutamente chiamarlo Gorskin altrimenti non avrebbe combinato un bel nulla con lui quello non gli avrebbe nemmeno dato retta conclusa il curato mitia ne fu un po' stupito all'inizio e spiegò che era stato Samsonov a chiamarlo così sentendo questo fatto il curato lasciò subito cadere l'argomento anche se avrebbe fatto meglio a mettere a parte Dimitri Fiodorovic del suo dubbio se Samsonov stesso lo aveva mandato da quel contadino chiamandolo gli agavi forse aveva l'intenzione di prendersi gioco di lui e quindi la faccenda poteva prendere una brutta piega ma mitia non aveva tempo di soffermarsi su quei dettagli egli procedeva a passo sostenuto e soltanto quando arrivò a Sukhoi Poselok si rese conto che avevano camminato non per una versta e nemmeno per una versta e mezza ma per ben tre verste a occhio e croce e questo lo irritò ma mantenne il controllo entrarono nell'isba il guardia boschi un conoscente del curato viveva in una metà dell'isba mentre nell'altra metà quella migliore dall'altra parte dell'andito alloggiava Gorskin e si entrarono in questa seconda parte e la illuminarono con una candela di sego l'isba era surriscaldata sul tavolo di pino c'erano il samovar spento un vassoio con alcune tazze una bottiglia vuota di rum un'altra bottiglia di vodka quasi vuota e degli avanzi di pane di frumento l'ospite se ne stava sdraiato lungo lungo su una panca con il soprabbituccio arrotolato sotto la testa a mo' di cuscino e russava pesantemente Mitya rimase perplesso naturalmente dovremmo svegliarlo il mio affare è troppo importante e mi sono precipitato qui e voglio tornare in città il più presto disse Mitya allarmato ma il curato e il guardia boschi rimanevano in silenzio senza esprimere la propria opinione Mitya si avvicinò e cercò di svegliarlo da sé lo fece persino con una certa energia ma il dormiente non reagiva è ubriaco concluse Mitya ma che devo fare signore mio che devo fare e all'improvviso preso da una terribile impazienza cominciò a tirarlo per le braccia per le gambe gli scuoteva la testa lo sollevava e lo metteva seduto sulla panca dopo tutti quegli sforzi però ottenne soltanto grugniti senza senso e imprecazioni violente ma confuse no fareste meglio ad aspettare disse infine il curato evidentemente non si trova nelle condizioni giuste non ha fatto che bere tutto il giorno disse il guardia boschi dal canto suo santo cielo gridò Mitya se solo sapeste com'è importante questo per me e come sono disperato adesso no è meglio che aspettiate fino a domani mattina ripete il curato fino a domani mattina ma abbiate pietà non è possibile e in preda alla disperazione stava per fare l'ennesimo tentativo di svegliare l'ubriaco ma desiste immediatamente comprendendo l'inutilità di tutti quegli sforzi il curato taceva e guardia boschi assonnato aveva un'aria cupa che terribili tragedie ordisce la vita reale per gli uomini disse Mitya al colmo della disperazione il sudore gli colava dalla fronte approfittando del momento buono il curato disse con molto giudizio che anche se fosse riuscito a svegliare il dormiente quello sarebbe stato pur sempre ubriaco e incapace di sostenere alcuna conversazione mentre il vostro è un affare importante ti fareste meglio rimandare a domani mattina Mitya allargò le braccia in un gesto sconsolato e fu d'accordo con lui padre io resterò qui al lume di candela e coglierò il momento buono quando si sveglierà comincerò a ti pagherò per la candela disse rivolgendosi al guardia boschi e anche per il pernottamento ti ricorderai di Dimitri Karamazov ecco solo che non so come farete voi padre dove dormirete no io tornerò a casa signore prenderò la sua cavalla disse indicando il guardia boschi e ora vi dico addio vi auguro il pieno successo dei vostri progetti fu deciso fu deciso così il curato partì sulla cavalla contento di essersi finalmente sbarazzato da quel fastidio continuando tuttavia a scuotere il capo mentre valutava se fosse il caso di informare l'indomani per tempo di quel curioso episodio il suo benefattore Fiodor Paolovic altrimenti se malauguratamente lo venisse a sapere se la prenderebbe con me e mi toglierebbe il suo favore il guardia boschi tornò nella sua parte di Isba grattandosi e senza dire una parola mentre Mitia si sedette sulla panca per cogliere il momento buono come aveva detto lui stesso una profonda angoscia avvolse come una densa nebbia la sua anima una profonda terribile angoscia e gli stava seduto a pensare ma non riusciva a venire a capo di nulla la candela ardeva un grillo si mise a frinire la stanza surriscaldata stava diventando insopportabilmente soffocante all'improvviso gli venne in mente il giardino il passaggio dietro al giardino la porta della casa del padre che si apre misteriosamente e in quella porta si intruffola gruschenca balzò in piedi una tragedia disse diglignando i denti poi si avvicinò macchinalmente al dormiente e prese ad esaminargli il volto era un contadino segaligno di mezza età con un viso molto allungato i capelli ricci castani e una barbetta sottile rossiccia indossava una camicia di indiana e un panciotto nero dalla tasca del panciotto spuntava la catenella dell'orologio d'argento mitia guardava quella fisionomia con indicibile odio gli era particolarmente odioso il fatto che avesse i capelli rizzi chissà perché ma quello che più gli sembrava intollerabile era il fatto che lui mitia stava lì con il suo affare improrogabile dopo aver fatto tanti sacrifici aver abbandonato ogni cosa patito tanti tormenti mentre quel parassita dal quale in quel momento dipendeva tutto il mio destino russava come se niente fosse come se stesse su tutt'altro pianeta oh ironia del destino esclamò mitia e all'improvviso quasi perdendo la testa tentò di nuovo di svegliare il contadino ubriaco lo scrollava con una specie di ferocia lo scuoteva lo spingeva lo batteva perfino ma dopo cinque minuti di vani tentativi tornò alla sua panca e si risedette disperato che stupido che stupido esclamò mitia e che vergogna tutto questo soggiunse all'improvviso gli sa per quale ragione cominciò a dolergli terribilmente il capo dovrei forse lasciar perdere andare via gli venne in mente no rimarrò sino al mattino rimarrò apposta per quale motivo sono venuto e poi non ho mezzi per andare via di qui adesso oh che idiozia intanto la testa gli doleva sempre di più sedeva immobile senza rendersene conto si assopì e si addormentò lì sulla panca dormì un paio d'ore forse di più si svegliò per un terribile dolore alla testa tanto intollerabile da farlo urlare gli battevano le tempie il vertice del capo gli doleva ci mise molto tempo prima di svegliarsi del tutto e capire quello che gli stava accadendo finalmente capì che la stanza surriscaldata era satura di anidride carbonica e che così avrebbe potuto morire il contadino ubriaco invece continuava a stare estraiato e a russare la candela si era consumata e stava per spegnersi del tutto mitia lanciò un urlo e si precipitò barcollando attraverso l'andito della stanza del guardia boschi quello si svegliò di soprassalto ma quando sentì che l'altra stanza era satura di gas con grande sorpresa e irritazione di mitia accolse la notizia con strana indifferenza e comunque si alzò per prendere provvedimenti ma sei morto sei morto che ne sarà di me gridò mitia davanti a lui preso dalla frenesia spalancarono le porte aprirono le finestre aprirono il fumaiolo mitia trascinò dall'andito un secchio d'acqua e prima si inumidì la testa poi avendo trovato uno straccio lo immerse nell'acqua e lo appoggiò sulla fronte di gli agavi il guardia boschi continuava a comportarsi in maniera quasi sprezzante e aprendo una finestra disse cupamente va bene anche così e tornò a dormire lasciando a mitia una lanterna di ferro accesa mitia si dette da fare per una buona mezz'ora con l'ubriaco asfissiato continuava a inumidirgli la testa ed era già seriamente intenzionato a non chiudere occhio per tutta la notte quando esausto si sedette un attimo per riprendere fiato e chiuse gli occhi per un momento senza rendersene conto si allungò sulla panca e si addormentò di sasso quando si alzò era terribilmente tardi dovevano essere le nove di mattina il sole risplendeva attraverso le due finestrelle dell'isba il contadino ricciuto del giorno prima sedeva sulla panca con la poddevca indosso davanti a lui c'era un altro samovar e un'altra bottiglia di vodka quella di ieri se l'era già scolata e quella appena stappata era vuota più che a metà mitia fece un balzo e capì subito che il maledetto contadino era di nuovo ubriaco irreparabilmente ubriaco fradicio mitia lo guardò per un minuto strabuzzando gli occhi il contadino invece lo osservava in silenzio con un'aria furba e una pacatezza quasi offensiva anzi persino con una certa alterigia sprezzante così parve a mitia si scagliò contro di lui scusatemi vedete io voi forse l'avrete sentito dal guardiaboschi che vive in quest'isba io sono il tenente Dmitry Karamazov figlio del vecchio Karamazov dal quale state comprando il boschetto tu stai mentendo replicò con pacata fermezza il contadino come mentendo conoscete Fiodor Paolović non conosco nessun Fiodor Paolović disse il contadino articolando pesantemente la lingua il boschetto state contrattando per il suo boschetto ma svegliatevi tornate in voi padre Paolović mi ha condotto qui avete scritto anche a Sansonov ed è stato lui a mandarmi da voi disse mitia trafelato stai mentendo ripetegli agavi scandendo le sillabe mitia si sentì raggelare le gambe per l'amor del cielo questo non è mica uno scherzo forse siete un po' brillo tuttavia potete almeno parlare capire altrimenti altrimenti io non ci capisco niente è un tintore per l'amor del cielo sono Karamazov Dimitri Karamazov ho una proposta da farvi una proposta vantaggiosa molto molto vantaggiosa proprio riguardo a quel boschetto il contadino si accarezzava la barba con aria grave no tu hai preso l'appalto e ti sei rivelato un mascalzone sei un mascalzone vi assicuro che vi sbagliate disse mitia tormentandosi le mani disperato il contadino continuava ad accarezzarsi la barba ed un tratto aguzzò gli occhi con aria furba no adesso mi devi dimostrare mi devi dimostrare quale legge mai consente di fare delle canagliate hai capito sei un mascalzone hai capito mitia arretrò con aria tenebrosa ed ebbe la sensazione che qualcosa lo colpisse dritto in fronte come ebbe a dire in seguito in un attimo avvenne una specie di illuminazione nella sua mente si accese una lucina nella mia mente e compresi tutto rimaneva impalato incapace di capire come avesse fatto lui che era una persona tutto sommato intelligente a sottoporsi a una follia del genere a farsi trascinare in una simile impresa e perseverare in quella farsa per quasi 24 ore andosi pure tanto da fare per quegli agavi a bagnare il capo e tutto il resto quest'uomo è ubriaco ubriaco fradicio e continuerà a bere per una settimana intera a che serve aspettare qui e se samsonov mi avesse mandato qui apposta e se lei mio dio che cosa ho combinato pensava e contadino restava seduto lo guardava e rideva sotto i baffi in un'altra occasione mitia forse avrebbe ucciso quell'imbecille in un accesso di collera e invece si sentiva completamente privo di forze come un bambino si avvicinò lentamente alla panca prese il cappotto lo indossò in silenzio e uscì dall'isba nell'altra parte dell'isba non trovò i guardi a boschi non c'era nessuno egli prese di tasca 50 copecche in moneta e le posò sul tavolo come pagamento del posto per la notte della candela e del disturbo uscito dall'isba vide che tutto intorno era solo bosco e nient'altro egli partì in una direzione a casaccio non ricordava nemmeno da quale parte svoltare se a destra o a sinistra dell'isba la notte prima mentre si affrettava in compagnia del curato non aveva prestato attenzione alla strada non c'era ombra di vendetta nel suo cuore neanche nei confronti di Samsonov egli camminava per l'angusta sentierino del bosco senza pensare perduto con la sua idea perduta senza preoccuparsi della strada in quel momento anche un bambino avrebbe potuto abbatterlo tanto si era infiacchito nel corpo e nello spirito in un modo o nell'altro riuscì comunque ad uscire dal bosco davanti ai suoi occhi si allungavano distese sconfinate di campi falciati spogli dopo il raccolto che desolazione che aria di morte dappertutto continuava a ripetersi avanzando passo dopo passo fu salvato da alcuni passanti un vetturino conduceva per una strada vicinale uno che aveva l'aria di essere un vecchio mercante quando si trovarono fianco a fianco mitia chiese la strada e risultò che anche loro erano diretti a volovia presero accordi e fecero salire anche mitia come passeggero dopo tre ore circa giunsero a destinazione alla stazione di volovia mitia ordinò immediatamente dei cavalli di posta per tornare in città e si rese conto di avere una fame spaventosa mentre attaccavano i cavalli gli prepararono una bella frittata la divorò in un sol boccone divorò pure una grossa fetta di pane del salame e si scolò tre bicchierini di vodka rinfocillatosi si sentì rinvigorito e anche il suo stato d'animo si rischierò mentre tornava di volata in città sollecitando il vetturino ad andare più in fretta di colpo concepì un nuovo piano definitivo per procurarsi entrosera quel maledetto denaro e pensare che per colpa di quegli stupidi 3.000 rubli il destino di un uomo può andare in rovina esclamò con tono sprezzante oggi stesso sistemerò la questione e se non fosse stato per il pensiero di Grushenka che non lo abbandonava mai e per la preoccupazione che le fosse accaduto qualcosa forse si sarebbe persino rallegrato ma il pensiero di lei traffiggeva costantemente la sua anima come una lama tagliente finalmente giunsero in città e Mitia senza indugi corse da Grushenka le miniere d'oro era appunto quella la visita di Mitia della quale Grushenka aveva parlato tanto impaurita a Rakitin e la stava aspettando la staffetta ed era molto contenta che Mitia non si fosse fatto vivo né quel giorno né il giorno prima e sperava che volesse il cielo egli non venisse affatto prima della sua partenza quando ecco che all'improvviso quello irruppe da lei ciò che seguì è già noto ai lettori per liberarsi di lui le aveva subito convinto ad accompagnarla da Kuzma Samsonov facendo finta di doversi assolutamente recare lì per sistemare i conti e quando Mitia l'ebbe prontamente accompagnata mentre si congedava da lui presso il portone di Kuzma gli aveva fatto promettere che sarebbe andato a prenderla a mezzanotte per riaccompagnarla a casa anche Mitia fu contenta di quell'accordo se si trattiene da Kuzma vuole dire che non andrà da Fiotr Paolovic a meno che non mi stia mentendo pensò ma aveva l'impressione che lei non stesse mentendo infatti Edi era uno di quei gelosi che nel separarsi dalla donna amata si metteva a pensare a Dio solo sa quante cose orribili le sarebbero potute accadere e di come ella lo avrebbe tradito ma nel momento in cui tornava di corsa da lei sconvolto sconfitto definitivamente convinto che ella lo avesse già tradito al primo sguardo al viso di lei al viso sorridente allegro e dolce di quella donna egli si sentiva rinascere rimetteva da parte ogni sospetto e con una vergogna piena di gioia si rimproverava la propria gelosia dopo aver accompagnato Grushenka egli corse a casa quante cose doveva riuscire a fare in quella giornata ma almeno si era tolto un peso dal cuore devo soltanto informarmi al più presto tramite smerdyakov se è accaduto qualcosa ieri sera se per caso lei non sia andata da Fyodor Paolovic gli passò per la mente quindi prima ancora di arrivare al proprio appartamento la gelosia si era già risvegliata nel cuore che non si dava pace la gelosia Otello non è geloso è fiducioso osservava Puskin e basta quest'unica osservazione a testimoniare la straordinaria profondità di ingegno del nostro grande poeta l'anima di Otello fu frantumata e la sua intera concezione del mondo fu annebbiata perché il suo ideale era stato distrutto ma Otello non si nasconde non spia non sorveglia egli è fiducioso al contrario dovettero manipolarlo spingerlo e aizzarlo con enormi sforzi perché egli potesse concepire l'idea del tradimento ben diverso è il vero geloso non è neanche possibile immaginare il vello di infamia e degradazione morale al quale è capace di scendere il geloso senza provare alcuno scrupolo di coscienza il che non significa che i gelosi abbiano tutti un animo volgare e meschino al contrario un uomo di sentimenti elevati che nutre un amore pure pieno di abnegazione può essere nel contempo capace di nascondersi sotto i tavoli assoldare mascalzoni matricolati e adattarsi alla bieca ignominia di spiare e origliare hotello non sarebbe mai sceso a patti con il tradimento a nessun costo l'avrebbe perdonato ma non sarebbe mai sceso a patti con esso sebbene la sua anima fosse innocente e priva di malizia come quella di un bambino con il geloso questo non accade è difficile persino immaginare a che cosa sia capace di adattarsi un geloso con che cosa egli sia disposto a scendere a patti e a chiudere un occhio i gelosi sono i primi a perdonare e questo le donne lo sanno bene il geloso può dimenticare con straordinaria rapidità dopo una terribile scenata iniziale ovviamente ed è disposto a perdonare per esempio un tradimento quasi definitivamente provato a bracci e baci visti con i propri occhi a condizione che si convinca in qualche modo che questa è davvero l'ultima volta e che il suo rivale da questo momento in poi sparirà e se ne andrà in capo al mondo oppure potrebbe condurlo egli stesso in un posto dal quale quel terribile rivale non farà più ritorno si intende la riconciliazione non durerà più di un'ora perché seppure il rivale sparisse per davvero il geloso il giorno dopo se ne inventerebbe subito un altro uno nuovo e sarebbe geloso di lui ci si potrebbe domandare che cosa si trovi in un amore nel quale bisogna stare sempre allerta che valore abbia un amore che richiede una sorveglianza così indefessa ma il vero geloso non lo capirà mai eppure anche fra i gelosi si trovano persone dal nobile cuore è da notare inoltre che proprio queste persone dal nobile cuore nascoste in qualche stanzino a origliare e spiare sebbene se ne rendano conto in virtù del loro nobile cuore del livello di degradazione al quale sono scese per la loro stessa volontà eppure almeno nel momento in cui si trovano in quello stanzino non provano mai rimorsi di coscienza nel momento in cui Mitia aveva visto Grushenka la gelosia era svanita e in un batter d'occhio egli era divenuto fiducioso e nobile d'animo e si era persino disprezzato per i cattivi sentimenti provati ma questo significava soltanto che nel suo amore per quella donna si racchiudeva qualcosa di molto più elevato di quello che egli stesso immaginava non c'era soltanto la passione né soltanto le curve del suo corpo delle quali aveva parlato ad Agiosha eppure bastava che Grushenka scomparisse dalla sua vita che Mitia riprendeva a sospettarla di tutte le bassezze e le perfidie del tradimento e la coscienza non gli rimordeva affatto e così la gelosia ribolliva di nuovo in lui in ogni caso bisognava affrettarsi la prima cosa da fare era procurarsi almeno un po' di soldi a prestito i nove rubli del giorno prima erano stati quasi interamente spesi per il viaggio e come si sa senza il becco di un quattrino non si può fare nemmeno un passo ma durante il viaggio oltre al suo nuovo piano aveva anche pensato a come procurarsi un prestito egli possedeva un paio di buone pistole da duello con le relative cariche che non aveva mai impegnato sino ad allora perché erano l'oggetto più caro che avesse nella trattoria la capitale qualche anno prima aveva conosciuto un giovane impiegato e sempre in quella stessa trattoria era venuto a sapere che questi era uno scapolo benestante appassionato di armi comprava pistole revolver pugnali le appendeva qua e là alle pareti di casa le mostrava ai conoscenti se ne vantava era un maestro nello spiegare il funzionamento di un revolver come si carica come si spara e così via senza pensarci più tanto Mitia si diresse dritto a casa di quell'impiegato e gli propose di prendere impegno alle pistole in cambio di 10 rubli il funzionario tutto contento cercò di convincerlo a vendergli ma Mitia non accettò allora l'altro gli dette 10 rubli dichiarando che per nulla al mondo avrebbe chiesto gli interessi si lasciarono da amici Mitia aveva fretta si diresse velocemente a casa di Fiodor Paolovic verso il retro della casa al suo chioschetto per chiamare al più presto possibile Smerdiakov ma così era tornata a verificarsi la circostanza che a 3-4 ore da quel certo fatto del quale si parlerà ampiamente più tardi Mitia non aveva nemmeno una copeca tanto da vedersi costretto a impegnare il suo bene più caro mentre 3 ore più tardi improvvisamente si trovò per le mani la somma di migliaia di rubli ma sto correndo troppo la Maria contra Tevne la vicina di Fiodor Paolovic lo attendeva la notizia del malore di Smerdiakov notizia che lo colpì e confuse oltre ogni dire egli ascoltò con attenzione la storia dell'incidente in cantina dell'attacco di Malcaduco della visita del dottore delle preoccupazioni di Fiodor Paolovic apprese con interesse che il fratello Ivan Fiodorovic era già partito quella mattina per Mosca dunque è passato prima di me da Volovia pensò Dimitri Fiodorovic ma la notizia del malore di Smerdiakov lo aveva gettato nel panico che succederà adesso chi farà la guardia chi mi riferirà quel che accade e incominciò a interrogare avidamente quelle donne per sapere se avessero notato qualche cosa la sera prima quelle capirono fin troppo bene dove voleva andare a parare e lo disingannarono del tutto non era venuto nessuno Ivan Fiodorovic aveva passato la notte a casa era tutto perfettamente in ordine Mitia si fece pensieroso senza dubbio occorreva fare la guardia anche quel giorno ma dove? lì dal padre o presso la casa di Smerdi? Amsonov decise che doveva stare allerta sia qui che lì a seconda dell'occorrenza ma nel frattempo nel frattempo il fatto era che adesso aveva quel nuovo piano concepito poco prima un piano sicuro questa volta che aveva ideato durante il viaggio di ritorno in città e la cui realizzazione non poteva in alcun modo posporre Mitia decise di sacrificare un'ora a questo scopo nel giro di un'ora avrò risolto tutto avrò saputo tutto e allora allora prima andrò a casa di Smerdi per sapere se Grushenka si trova lì e poi verrò di nuovo qui veloce come un fulmine e ci resterò fino alle undici e poi un'altra volta da lei da Smerdi per accompagnarla a casa ecco come aveva deciso volò a casa si lavò si pettinò ripulì l'abito si vestì e si diresse dalla signora Cioclacova ahimè era quello il nuovo piano aveva deciso di prendere 3000 rubli in plestito da quella signora e quel che è peggio gli era balenato alla mente così tutto a un tratto la strana convinzione che quella non glieli avrebbe rifiutati ti si potrebbe domandare come mai se era così convinto non si fosse recato prima in quello che diciamo così era il suo ambiente invece di andare da Samsonov un uomo di mentalità estranea alla sua alla quale non sapeva nemmeno come rivolgersi il fatto era che aveva quasi smesso del tutto di frequentare la Cioclacova in quell'ultimo mese è vero anche prima si erano frequentati poco e soprattutto egli sapeva molto bene che la signora in questione non poteva proprio soffrirlo e la aveva preso a detestarlo sin dall'inizio semplicemente perché era il fidanzato di Caterina Ivanovna e a lei invece era venuto improvvisamente il desiderio che Caterina Ivanovna lo lasciasse e sposasse il caro Ivan Fiodorovich educato da vero gentiluomo e dotato di magnifiche maniere invece odiava cordialmente le maniere di Mitia Mitia dal canto suo la prendeva in giro e una volta aveva persino detto di lei che quella signora era tanto vivace e disinvolta quanto ignorante ed ecco che quella mattina durante il viaggio di ritorno lo aveva illuminato un'idea brillantissima ma se è così contraria che io sposi Caterina Ivanovna contraria fino a questo punto e sapeva che ella era contraria fino all'isterismo perché mai dovrebbe rifiutarmi adesso questi 3.000 rubli visto che proprio grazie a quei soldi me ne andrei per sempre da qui lasciando Katia queste dame viziate dell'alta società se si impicciano di qualche cosa non risparmiano nulla pur di ottenere quello che vogliono e per di più lei è ricca ragionava Mitia per quanto riguardava il piano in senso stretto era sempre lo stesso di prima proporre i propri diritti su Hermasnia non già a scopo speculativo come aveva proposto a Samsonov il giorno prima cioè senza allettare quella signora con la possibilità di beccarsi invece di 3.000 rubli un gruzzolo due volte superiore di 6-7.000 rubli ma semplicemente come nobile garanzia a fronte di un debito mentre sviluppava questo nuovo piano Mitia ne fu addirittura entusiasmato ma questo gli succedeva con tutte le sue iniziative e con tutte le decisioni improvvise egli si gettava anima e corpo in ogni nuova impresa non di meno mentre saliva ai gradini del terrazzino di ingresso della casa della signora Cioclacova egli si sentì correre un brivido di paura su per la schiena solo in quel momento egli si rese pienamente conto con una certezza quasi matematica che quella era la sua ultima speranza che se avesse fallito non gli sarebbe rimasto nient'altro al mondo tranne che ammazzare e derubare qualcuno di 3.000 rubli nient'altro che quello erano le sette e mezza quando egli suonò il campanello sul principio la fortuna sembrò ridergli non appena fu annunciato lo ricevettero con inconsueta premura come se mi stesse aspettando belenò in mente Amitia e poi non appena fu introdotto in salotto la padrona per poco non gli corse incontro dicendogli apertamente che lo stava aspettando vi stavo aspettando anche se non avevo alcuna ragione di supporre che sareste venuto da me ne converrete anche voi tuttavia vi aspettavo potete stupirvi del mio istinto di Amitia Piotrovic per tutta la mattina ho avuto la certezza che oggi sareste venuto c'è veramente da stupirsi signora osservò Amitia mettendosi a sedere in maniera un po' goffa ma io sono venuto per una questione della massima importanza una questione di estrema importanza per me cioè signora per me soltanto e mi affretto ma so che siete qui per una questione della massima importanza Dimitri Fiodorovi e in questo caso non si tratta di presentimenti di retrograde velleità di miracoli avete sentito dello stare Zosima qui qui si tratta di matematica non potevate non venire da me dopo tutto quello che è accaduto a Caterina Ivanovna non potevate è questione di matematica è la vita reale signora ecco qui cos'è mi permettete che vi esponga tuttavia proprio la vita reale Dimitri Fiodorović adesso sono completamente a favore del realismo ho avuto una dura lezione a proposito dei miracoli avete sentito che lo stare che lo stare Zosima è morto no signora è la prima volta che lo sento Mitia fu lievemente stupito gli ballenò in mente l'immagine di Agliosha la notte scorsa figuratevi un po' signora signora la interrupe Mitia io mi figuro soltanto che mi trovo in una situazione disperatissima e che se voi non mi aiuterete tutto andrà in fumo io per primo scusate la banalità dell'espressione ma io ardo ho la febbre lo so lo so che avete la febbre so tutto e non potreste trovarvi in una diversa condizione di spirito e qualunque cosa mi diciate io la so già in anticipo ho ponderato a lungo sul vostro destino Dmitri Fiodorovic lo sto osservando e studiando credetemi sono un dottore provetto dell'anima Dmitri Fiodorovic signora se voi siete un dottore provetto in compenso io sono un malato provetto disse Mitia sforzandosi di essere gentile e ho il presentimento che se siete tanto attenti al mio destino allora gli darete una mano nel momento della rovina ma per far questo permettetemi finalmente di esporvi il piano che mi sono arrischiato a sottoporvi e quello che mi aspetto da voi sono venuto signora non state ad esporre nulla è di secondaria importanza quanto all'aiuto non siete il primo al quale do una mano Dmitri Fiodorovic forse avrete sentito parlare di mia cugina la Belmesova suo marito era distrutto era andato in fumo come avete pittorescamente detto voi Dmitri Fiodorovic ebbene io gli consigliai di darsi all'allevamento di cavalli e adesso va a gonfie vele ve ne intendete un po' di allevamento di cavalli Dmitri Fiodorovic neanche un po' signora oh signora neanche un po' gridò Mitia nervosa impaziente e fece persino per alzarsi dal posto vi supplico soltanto di ascoltarmi signora concedetemi due soli minuti in cui possa esprimermi liberamente affinché vi possa esporre tutto l'intero progetto ho una fretta terribile gridò estericamente Mitia intuendo che l'altra avrebbe riattaccato a parlare nella speranza di zittirla sono venuto qui disperato al limite estremo della disperazione per chiedervi in prestito 3000 rubli ma a fronte di un pegno sicuro sicurissimo signora a fronte di una garanzia sicurissima permettetevi solo che vi esponga ma tutto questo dopo dopo disse la signora cioclacova agitando a sua volta la mano per chiedere silenzio e poi qualunque cosa mi chiediate io lascio già in anticipo ve l'ho già detto voi mi chiedete una certa somma vi servono tre mirarubli ma io vi darò di più incomparabilmente di più io vi salverò Mitri Fiodorovic ma voi dovete darmi retta Mitri sobbalzò sul posto un'altra volta signora siete davvero tanto buona esclamò con straordinario ardore dio mio voi mi avete salvato voi salvate un uomo signora da una morte violenta da un colpo di pistola la mia eterna gratitudine vi darò infinitamente infinitamente di più di 3000 rubli strillò la signora cioclacova accogliendo con un sorriso raggiante l'entusiasmo Dimitia infinitamente ma non ho bisogno di così tanto mi servono soltanto quei fatali 3000 rubli e da parte mia sono venuto a garantire per quella somma con infinita gratitudine e vi propongo un piano che basta Dimitri Fiodorovic farò quello che ho detto taglio a corto la signora cioclacova con una pudica solennità da benefattrice vi ho promesso di salvarvi e vi salverò salverò a voi come ho fatto con Belmesov che cosa ne pensate delle miniere d'oro Dimitri Fiodorovic delle miniere d'oro signora non ne ho mai pensato un bel niente in compenso ci ho pensato io per voi ci ho pensato e ripensato è un mese intero che vi osservo con questo scopo vi ho guardato cento volte quando venivate qui ripetendo a me stessa ecco un uomo energico che dovrebbe andare alle miniere d'oro ho studiato a fondo anche la vostra camminata quest'uomo troverà molte miniere in base alla camminata signora disse Mitea sorridendo certo anche in base alla camminata potete forse negare che il carattere di una persona si possa riconoscere anche dal modo di camminare le scienze naturali lo confermano adesso sono una realista Dimitri Fiodorovic da oggi dopo tutta quella storia al monastero che mi ha tanto sconvolta sono realista al cento per cento e voglio lanciarmi nell'attività pratica sono guarita basta come ha detto Turgenev ma signora quei 3000 rubli che avevate così tenerosamente promesso di prestarmi non vi mancheranno Dimitri Fiodorovic da interruppe subito la signora Ciochlakova quei 3000 rubli è come se li aveste in tasca e non solo 3000 ma 3 milioni di rubli Dimitri Fiodorovic e in men che non si dica vi esporrò l'idea che fa per voi voi troverete le miniere d'oro farete milioni tornerete diventerete un personaggio importante e spronerete anche noi indirizzandoci verso il bene dovremmo forse lasciare tutto in mano agli ebrai voi fonderete edifici e imprese di ogni genere aiuterete i poveri e quelli vi benediranno questo è il secolo delle strade ferrate Dimitri Fiodorovic diventerete famoso e indispensabile al ministero delle finanze che attualmente versa in gravi difficoltà la caduta del rublo non mi lascia dormire Dimitri Fiodorovic da questo punto di vista non mi si conosce molto signora, signora la interruppe di nuovo Dimitri Fiodorovic attanagliato da un inquietante presentimento io con molta probabilità seguirò il vostro consiglio il vostro intelligente consiglio signora e forse mi recherò là in quelle miniere e tornerò ancora da voi per parlarvene anche molte volte ma adesso quei 3000 rubliche con tanta generosità oh mi libererebbero e se fosse possibile oggi stesso cioè vedete adesso non c'è nemmeno un'ora nemmeno un'ora da perdere basta Dimitri Fiodorovic basta lo interruppe imperterrita la signora Cioclacova la questione è solo questa ci andrete le miniere oppure no avete deciso una volta per tutte rispondete con certezza matematica si andrò signora dopo andrò dove vorrete signora ma adesso aspettate gridò la signora Cioclacova poi balzò in piedi si precipitò al suo magnifico bureau dai molteplici cassettini e cominciò ad estrarre un cassettino dopo l'altro in cerca di qualcosa con una fretta indiavolata i 3.000 rubli pensò Mitia con il fiato sospeso e adesso senza alcun documento senza atti legali è davvero un gesto da gentiluomo che donna magnifica se solo non fosse così loquace ecco esclamò felice la signora Cioclacova tornando da Mitia ecco quello che cercavo si trattava di una minuscola icona d'argento legata a un cordoncino di quelle che talvolta si portano direttamente sul petto insieme alla croce viene da Kiev Mitri Fiodrovich proseguiva con devozione dalle reliquie della protomartire Barbara permettete che sia io stessa a mettervela al collo in segno di benedizione per la vostra nuova vita e le vostre nuove imprese e davvero si accinse a mettergli l'immaginetta al collo e cominciò ad aggiustargiela estremamente imbarazzato Mitia si piegò per aiutarla e finalmente l'immaginetta fu accomodata sul petto sotto la cravatta e il colletto della camicia ecco adesso potete andare dichiarò la signora Cioclacova risiedendosi solennemente al suo posto signora sono così commosso e non so nemmeno come ringraziarvi per tali sentimenti ma se sapeste quanto è prezioso il tempo per me in questo momento quella somma che attendo con tanta trepidazione dalla vostra generosità oh signora se siete così buona così generosa nei miei confronti esclamò ad alta voce come ispirato allora permettete che io vi riveli quello che del resto sapete da molto tempo che io amo una creatura qui ho tradito Katia Katrina Ivanovna voglio dire oh mi sono comportato in modo disumano e disonorevole davanti a lei ma io qui mi sono innamorato di un'altra di una donna che forse voi disprezzate perché voi sapete già tutto ma che io non posso lasciare per nulla al mondo per nulla al mondo ecco perché adesso questi 3000 lasciate tutto Dmitri Fiodorovic lo interruppe la signora Soklakova in tono perentorio lasciate tutto in particolare le donne il vostro obiettivo sono le miniere e là non è il caso di portare delle donne in seguito quando tornerete ricco e famoso troverete una compagna del cuore nell'alta società sarà una ragazza moderna istruita e senza pregiudizi per quell'epoca la questione femminile che ora si sta affermando sarà ormai matura e sarà apparsa una donna nuova signora non si tratta di questo non si tratta di questo Dmitri Fiodorovic fece per giungere le mani in un gesto implorante è invece di questo che si tratta proprio di quello di cui avete bisogno quello che bramate senza saperlo voi stesso non sono affatto contraria all'attuale questione femminile Dmitri Fiodorovic l'evoluzione della donna e persino il ruolo politico della donna nel prossimo futuro questo è il mio ideale anch'io ho una figlia Dmitri Fiodorovic e pochi mi conoscono sotto questo aspetto a questo proposito ho scritto allo scrittore Shedrin quello scrittore che mi ha insegnato così tanto così tanto sulla vocazione della donna che l'anno scorso gli ho mandato una lettera anonima composta da due righe vi abbraccio e vi bacio caro scrittore per la donna contemporanea continuate così e ho firmato una madre avrei voluto firmare una madre contemporanea ero indecisa ma poi mi sono fermata madre è moralmente più bello Dmitri Fiodorovic e poi la parola contemporanea avrebbe potuto ricordargli la rivista Il Contemporaneo un ricordo doloroso a causa della censura attuale a mio Dio che avete signora balzò finalmente in piedi Miti aggiungendo le mani davanti a lei con un tono di debole supplica voi mi costringete a piangere signora se rimanderete ciò che tanto generosamente e piangete Dmitri Fiodorovic piangete pure è un nobile sentimento si apre un tale cammino davanti a voi le lacrime vi alleggeriranno poi tornerete e sarete felici correrete apposta qui da me dalla Siberia per dividere con me la vostra felicità ma permettete di parlare anche a me strillò Miti all'improvviso vi supplico per l'ultima volta ditemi posso ricevere oggi stesso da voi la somma che mi avete promesso e se no quando posso venire a prenderla quale somma Dmitri Fiodorovic i 3000 rubli che mi avete promesso che voi tanto generosamente 3000 rubli oh no ma io non posseggo 3000 rubli annunciò la signora Cioclacova con pacato stupore Miti rimase di stucco come? orora mi avete detto avete detto persino di far conto di averli già in tasca oh no mi avete frainteso Dmitri Fiodorovic se dite così mi avete frainteso io parlavo delle miniere è vero io vi ho promesso di più infinitamente di più di 3000 adesso ricordo ma mi riferivo unicamente alle miniere e il denaro e 3000 rubli esclamò Dmitri Fiodorovic come stordito se parlavate di denaro beh io non ne ho in questo momento non ho neanche una copeca Dmitri Fiodorovic sto giusto litigando con il mio amministratore in questo periodo e giorni fa ho dovuto prendere in prestito da Miusof 500 rubli no no non ho i soldi e sapete Dmitri Fiodorovic anche se li avessi avuti non ve li avrai dati in primo luogo io non presto denaro prestare denaro vuol dire litigare ma soprattutto a voi a voi non li avrai dati perché vi voglio bene non ve li avrai dati per la vostra salvezza non ve li avrai dati perché voi avete bisogno solo di una cosa miniere 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 oh all'inferno rugì Mitia e batte il pugno sul tavolo con tutte le sue forze ai cacciò un urlo la signora Cioclacova spaventata e volò dall'altro capo del salotto Mitia sputò e a passi lesti uscì dalla stanza dalla casa fuori nell'oscurità camminava fuori di sé colpendosi il petto in quello stesso punto che aveva colpito due giorni prima in presenza di Agliosha quando si era incontrato con lui l'ultima volta di sera nell'oscurità per la strada che significato avessero quei colpi al petto in quel punto e che cosa volesse indicare egli con quel gesto per il momento era ancora un segreto che non conosceva nessuno al mondo nemmeno Agliosha ma in quel segreto si racchiudeva qualcosa che era peggio dell'infamia si racchiudeva la rovina e il suicidio egli aveva già preso questa decisione nel caso in cui non fosse riuscito a trovare i 3000 rubli da consegnare a Caterina Ivanovna per potersi levare dal petto da quel punto del petto l'infamia che portava e che tanto opprimeva la sua coscienza tutto ciò verrà spiegato in seguito al lettore ma in quel momento dopo che era svanita la sua ultima speranza quell'uomo dal fisico così potente allontanandosi solo di qualche passo dalla casa della cioclacova prorruppe in lacrime come un bambino camminava e dimentico di tutto si asciugava le lacrime con il pugno in quello stato giunse alla piazza quando all'improvviso sentì di avere sbattuto contro qualcosa con tutto il corpo udì il gemito stridulo di una vecchietta che per poco non aveva fatto cadere per terra Dio mio per un pelo non mai ammazzata sta attento a dove metti i piedi furfante ma siete voi esclamò Mitia scrutando la vecchietta nell'oscurità era la stessa vecchia serva che accudiva Kuzma Samsonov e che Mitia aveva notato molto bene il giorno prima e voi chi siete Batiusca disse la vecchia con un tono di voce completamente diverso con questo buio non vi riconosco voi vivete da Kuzma Kuzmie siete al suo servizio proprio così Batiusca ho solo fatto un salto da prociorie ma non riesco ancora a capire chi siete ditemi Matiusca Agrafena Aleksandrovna si trova da voi in questo momento domandò Mitia con il fiato sospeso poco fa l'ho accompagnata io stesso c'è stata Batiusca è venuta è rimasta per un po' e se n'è andata come se n'è andata gridò Mitia quando se n'è andata subito dopo essere arrivata è stata solo un minutino fra noi ha raccontato a Kuzma Kuzmie una storiella che lo ha fatto ridere e poi è corsa via stai mentendo maledetta strillò Mitia ai ai gridò la vecchietta ma Mitia si era già dileguato egli corse più veloce che poteva a casa della Morozova in quel lasso di tempo Grushenka era partita per Mokroe era passato non più di un quarto d'ora dalla sua partenza Fenia stava con sua nonna la cuoca matregna in cucina quando all'improvviso irruppe il capitano Fenia cacciò un fortissimo urlo nel vederlo gridi eh strillò Mitia dov'è lei? ma senza dare il tempo di rispondere a Fenia ammutolita per la paura egli scigetò ai suoi piedi Fenia in nome di nostro signore Gesù Cristo dimmi lei dov'è? Batiusca non so niente caro Dimitri Fiodorovic non so niente anche se mi ammazzate io non so niente giurava e spergirava Fenia voi stesso poco fa siete andato via con lei ma lei è tornata indietro? no caro non è tornata giuro su dio non è tornata tu menti gridava Mitia mi basta vedere il tuo spavento per capire dov'è e si precipitò fuori dalla casa Fenia tutta spaventata era contenta di essersela cavata a buon mercato ma aveva capito molto bene che se non fosse stato per la fretta Dimitri Fiodorovic forse sarebbe finita male per lei ma mentre correva via egli aveva colpito l'attenzione sia di Fenia sia della vecchia matregna con un gesto del tutto inaspettato sul tavolo sarà un mortaio di ottone con un pestello un piccolo pestello in ottone lungo appena una ventina di centimetri Mitia aveva già messo la mano sulla porta per uscire quando con l'altra mano afferrò al volo il pestello del mortaio se lo mise nella tasca laterale e se ne andò così ah signore quello vuole uccidere qualcuno gridò Fenia battendo le mani in un gesto disperato nelle tenebre dove stava correndo? è chiaro? dove può essere lei se non da Fiodor Paolovic? da casa di Samson è corsa dritta dritta da lui adesso è tutto chiaro tutto l'intrigo tutto l'inganno adesso sono chiari un vortice di pensieri gli muninava nel cervello evitò di passare dal cortile che portava da Maria a Contratevna non c'è bisogno di andare lì non c'è affatto bisogno di mettere in allarme qualcuno andrebbero subito ad avvertire subito ad avvertire Maria Contratevna è d'accordo con loro si vede e anche Smerdyakov sono tutti comprati aveva formulato un altro piano d'azione fece il giro largo intorno alla casa di Fiodor Paolovic attraversò un vicoletto corse lungo la Dmitrovskaia superò di volata il ponticello e finì dritto nel vialetto deserto alle spalle della casa vuoto e disabitato delimitato da un lato dalla siepe dell'orto dei vicini e dall'altro dallo steccato alto e solido che circondava il giardino di Fiodor Paolovic da lì scelse un punto forse quello stesso attraverso il quale secondo la storia che anche lui conosceva Elisabeth Smerdyaskaja aveva scavalcato lo steccato quella volta se sia riuscita lei perché non dovrei riuscirci anch'io a scavalcarlo gli passò per la mente chissà per quale ragione e di fatti fece un salto e riuscì immediatamente a raggiungere con la mano la sommità dello steccato poi si tirò su con la forza e dopo un solo tentativo si trovò a cavalcioni dello steccato non lontano nel giardino c'era la casetta del bagno ma alla sommità dello steccato si vedevano anche le finestre illuminate della casa è lì la luce della camera da letto del vecchio è accesa lei è lì e così dallo steccato salto giù in giardino pur sapendo che Grigori era malato e che forse anche Smerdiakov era malato sul serio e quindi nessuno poteva sentirlo istintivamente si nascose rimase immobile e teso all'ascolto ma tutto intorno regnava un silenzio di morte e come farlo apposta una quiete assoluta non soffiava neanche un alito di vento nulla tranne il bisbiglio del silenzio gli balenò nella mente quel verso per qualche ragione a meno che non mi abbia sentito qualcuno mentre scava il cavolo steccato ma credo di no dopo una breve sosta egli si avviò pian piano per il giardino sull'erba aggirando gli alberi e i cespugli camminò a lungo attutendo ogni passo e con l'orecchio teso nel giro di cinque minuti egli raggiunse la finestra illuminata si ricordò che proprio sotto quelle finestre c'erano alcuni grossi arbusti solidi e alti di Sambuco e Fiburno la porta che introduceva la casa in giardino sul lato sinistro della facciata era chiusa aveva controllato attentamente mentre ci passava accanto finalmente giunse all'altezza degli arbusti e si nascose dietro di essi tratteneva respiro adesso devo aspettare pensò se hanno sentito i miei passi e sono rimasti in ascolto devo rassicurarli speriamo che non mi venga da tossire o sternutire aspettò un paio di minuti ma il cuore gli batteva all'impazzata in alcuni momenti non riusciva nemmeno a prendere fiato no questi battiti del cuore non cesseranno pensò non posso aspettare di più egli stava all'ombra di un arbusto la parte anteriore dell'arbusto era rischiarata dalla finestra il Fiburno le bacche come sono rosse murmurò senza sapere il perché piano piano a passetti impercettibili egli si avvicinò alla finestra e si alzò in punta di piedi l'intera camera da letto di Fyodor Pavlovich si presentò davanti ai suoi occhi come nel palmo della sua mano era una stanzetta di modeste dimensioni divisa in due parti da un paravento rosso cinese così lo chiamava Fyodor Pavlovich il paravento cinese balenò alla mente di Mitia e dietro il paravento grushenka si mise a scrutare Fyodor Pavlovich questi indossava una nuova veste da camera di seta a righe che Mitia non gli aveva mai visto stretta in vita anch'essa da un cordoncino di seta con nappine da sotto il bavero della vestaglia spuntava biancheria linda e elegante una fine camicia di tela d'olanda con bottoncini d'oro in testa Fyodor Pavlovich portava quella stessa benda rossa con la quale lo aveva visto agli oscia si è messo in ghingheri pensò Mitia Fyodor Pavlovich stava in piedi presso la finestra evidentemente assorto nei propri pensieri quando a un tratto voltò bruscamente la testa rimasi in ascolto per un attimo e non sentendo nulla si avvicinò al tavolo si versò mezzo bicchierino di cognac dalla caraffa e lo beve d'un fiato poi emise un forte sospiro stette fermo in piedi ancora per un poco si avvicinò distrattamente allo specchio appeso sulla parete tra le due finestre con la mano destra sollevò leggermente la benda sulla fronte e si mise ad esaminare i lividi e le escoriazioni che non erano ancora guariti è solo pensò Mitia con ogni probabilità egli è solo Fiodor Paolovic si allontanò dallo specchio si voltò bruscamente verso la finestra e scrutò attraverso di essa Mitia istantaneamente fece un balzo all'indietro nell'oscurità forse lei sta dietro al paravento forse sta già dormendo questo pensiero gli trafisse il cuore Fiodor Paolovic si allontanò dalla finestra ma sta guardando dalla finestra per vedere lei dunque lei non è qui altrimenti perché dovrebbe guardare nell'oscurità l'impazienza lo divora Mitia scivolò rapidamente verso la finestra e il prese a guardare dentro il vecchio stava già seduto davanti al suo tavolino con un'aria palesemente delusa finalmente puntò un gomito sul tavolo e poggiò la guancia sul palmo della mano Mitia lo osservava avidamente è solo è solo ripete un'altra volta se lei fosse qui lui avrebbe tutt'altra espressione strano a dirsi nel suo cuore ribollì all'improvviso un'irrazionale e bizzarrastizza per il fatto che ella non si trovasse lì non per il fatto che non sia qui si affrettò a spiegare a se stesso immediatamente ma per il fatto che non riesco ad appurare con sicurezza se ella è qui oppure no Mitia stesso ricordò in seguito che in quel momento egli era straordinariamente lucido e che valutava ogni circostanza nei minimi dettagli prendendo nota di ogni particolare ma l'angoscia l'angoscia dell'incertezza e dell'indecisione cresceva nel suo cuore un istante dopo l'altro una volta per tutte lei è qui oppure no questa domanda gli ribolliva rabbiosamente nel cuore finalmente si decise allungò la mano e batte pian piano allo stipite della finestra e gli batte il segnale convenzionale che il vecchio aveva mostrato a Smerdiakov i primi due colpi più piano e gli altri tre più veloce toc 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 il segnale che significava Grushenka è arrivata il vecchio trasalì voltò la testa balzò in piedi e si precipitò alla finestra Mitia scivolò rapidamente nell'ombra Fyodor Polovic aprì la finestra e si sporse con tutta la testa Grushenka sei tu sei tu vero? disse in un bisbiglio trepidante dove sei tesoruccio angioletto mio dove sei? era in preda a una forte eccitazione respirava fatica è solo conclusa Mitia ma dove sei? scrumò il vecchio che si sporse ancora più in fuori con la testa si sporse con le spalle guardandosi intorno in tutte le direzioni a destra e a sinistra vieni qui ti ho preparato un regalino vieni che te lo faccio vedere intende il plico con i 3000 rubli venne in mente a Mitia ma dove sei? sei alla porta? adesso vengo ad aprirti e il vecchio per poco non si sporse tutto fuori dalla finestra guardando a destra dal lato della porta che dava in giardino scrutando nelle tenebre un secondo più tardi sarebbe sicuramente corso ad aprire la porta senza aspettare la risposta di Grushenka Mitia lo guardava di fianco e non si muoveva tutto il profilo di lui che gli era tanto odioso il suo pomodadamo cadente il suo naso aquilino contratto dal sorrisetto di attesa lasciva le sue labbra tutto veniva illuminato chiaramente dalla luce obliqua della lampada che proveniva dalla parte sinistra della stanza un terribile impeto d'odio montò all'improvviso nel cuore di Mitia eccolo il suo rivale l'uomo che lo tormentava che tormentava la sua vita era l'impeto di quella stessa rabbia improvvisa vendicativa e furiosa che come in una sorta di presentimento egli aveva annunciato nella conversazione con Agliosha nel chioschetto quattro giorni prima quando aveva risposto alla domanda di Agliosha come puoi dire che ucciderai nostro padre io non lo so non lo so aveva risposto allora forse non lo ammazzerò forse lo ammazzerò temo che ad un tratto mi diverrà odioso il suo viso stesso in quel preciso momento odio il suo pomodadamo il suo naso i suoi occhi la sua risatina impudente provo un'avversione fisica per lui ecco quello che temo ecco quello che non riuscirai a sopportare l'avversione era diventata intollerabile Mitia aveva quasi completamente perduto il controllo di sé e all'improvviso agguantò il pestello di ottone che aveva in tasca Dio stava vegliando su di lui come disse Mitia in seguito proprio in quel momento Grigori Vasilievich si svegliò dal suo letto di malato verso sera si era sottoposto a quella famosa cura che Smerdiakov aveva descritto a Ivan Fyodorovich cioè con l'aiuto della moglie si era frizionato tutto con vodka mescolata a un certo preparato segreto e molto potente e aveva bevuto il resto mentre la moglie mormorava presso di lui una certa preghierina e si era colicato anche Marfa Inategna ne aveva assaggiato un po' e dal momento che non era abituata a bere si era addormentata di sasso accanto al marito ma ecco che del tutto inaspettatamente Grigori si svegliò all'improvviso nel cuore della notte si soffermò a riflettere un minuto e sebbene avesse avvertito subito una fitta penetrante alle reni si sollevò sul letto dopodiché indugiò a riflettere su qualcosa si alzò e si vestì in fretta forse gli rimordeva la coscienza perché mentre dormiva la casa rimaneva senza sorveglianza in un momento così pieno di pericoli Smerdiakov prostrato dall'attacco di Malcaduco giaceva immobile nello stanzino accanto Marfa Inatevna non dava segni di vita la vecchia si è indebolita pensò Grigori Vasilievich dandole un'occhiata poi uscì brontolando sul terrazzino d'ingresso naturalmente voleva soltanto dare un'occhiata dal terrazzino perché non era in grado di camminare il dolore alle rene e alla gamba destra era insopportabile ma in quel momento gli sovvenne che la sera prima non aveva chiusa a chiave la porticina che dava sul giardino era il più ordinato e scrupoloso degli uomini e gli si atteneva sempre allo stesso immutabile ordine delle cose e ad abitudini decennali zoppicando e gemendo per il dolore egli scese dal terrazzino e si diresse verso il giardino ed era proprio così la porticina era spalancata entrò macchinalmente nel giardino forse gli era venuto in mente qualcosa forse aveva sentito qualche rumore ma gettando uno sguardo verso sinistra vide la finestra della camera del padrone aperta nessuno però era alla finestra nessuno stava guardando da quella finestra perché mai sarà aperta non è mica estate pensò Grigori e all'improvviso in quello stesso istante dritto davanti a lui valenò qualcosa di inconsueto a distanza di una quarantina di passi gli sembrò di vedere un uomo che correva nell'oscurità una specie di ombra che si muoveva molto rapidamente santo il dio disse Grigori e fuori di sé dimentico del dolore alle reni si lanciò per tagliare la strada al fuggitivo prese una scorciatore evidentemente conosceva quel giardino meglio del fuggitivo quello si stava dirigendo verso la casetta del bagno la oltrepassò e dritto verso il recinto Grigori lo seguiva senza perderlo d'occhio mentre correva a rotta di collo raggiunse lo steccato proprio nel momento in cui il fuggitivo stava per scavalcarlo Grigori gettò un urlo come fuori di sé si scagliò contro quell'uomo e si aggrappò con entrambe le mani alla sua gamba sì il suo presentimento non lo aveva ingannato lo aveva riconosciuto era lui il mostro parricida parricida gridò il vecchio così forte da farsi sentire da tutto il vicinato ma aveva appena fatto in tempo a cacciare quell'urlo quando stramazzò a terra come colpito da un fulmine Miti abbalzò indietro nel giardino e si piegò sopra il caduto nelle mani aveva il pestello d'ottone che lanciò macchinalmente nell'erba il pestello cadde a due passi da Grigori non sull'erba ma sul sentierino nel posto più in vista osservò per alcuni secondi l'uomo che giaceva davanti a sé la testa del vecchio era tutta insanguinata Miti allungò una mano e cominciò a tastarla in seguito ricordò con molta chiarezza che in quel momento avrebbe fermamente voluto accertarsi del tutto se avesse davvero fracassato il cranio del vecchio o se lo avesse solo stordito con il pestello ma il sangue fiottava fiottava da far spavento e in un batter d'occhio bagnò con il suo fiotto caldo le dita tremanti di Mitia e gli ricordò di aver preso dalla tasca il suo nuovo fazzoletto bianco del quale si era provvisto in occasione della visita alla Cioclacova e di averlo appoggiato sulla fronte del vecchio nel tentativo irrazionale di asciugargli il sangue dalla fronte e dal viso ma anche il fazzoletto in men che non si dica fu zuppo di sangue Signore Dio ma perché faccio questo pensò a Miti tornando in sé se gli ho fracassato il cranio come faccio a saperlo adesso e che differenza può fare adesso soggiunse all'improvviso disperato se l'ho ucciso l'ho ucciso ci sei cascato e restai lì disse voce alta e si slanciò verso lo steccato che scavalcò per saltare nel vicolo poi si mise a correre tenendo il fazzoletto zuppo di sangue raggomitolato nel pugno destro e mentre correva lo infilò nella tasca posteriore della finanziera correva rotta di collo e quei pochi passanti che lo incrociarono nell'oscurità per le strade della città ricordarono in seguito di aver incontrato un uomo che correva all'impazzata volava un'altra volta a casa della Morozova poco prima Fenia dopo che Miti se n'era andato si era precipitata dal vecchio portinaio Nazari Vanovie e gli aveva chiesto per l'amor del cielo di non lasciare più passare il capitano né oggi né domani Nazari Vanovie l'aveva ascoltata e le aveva garantito di eseguire l'ordine ma per sfortuna dovette andare dalla sua padrona che lo aveva chiamato all'improvviso e mentre si recava da lei disse a suo nipote un ragazzo sui vent'anni che era appena arrivato dalla campagna di prendere il suo posto in portineria ma si dimenticò di menzionare il capitano arrivato di corsa al portone Miti abusò il ragazzo lo riconobbe subito più di una volta Miti gli aveva dato la mancia per il tè gli aprì immediatamente il portoncino lo lasciò entrare storridendo fabilmente si affrettò ad informarlo che Agrafena Aleksandrovna in quel momento non era in casa e allora dov'è Procor? domandò Miti fermandosi di colpo è andata via un paio d'ore fa con Timofei a Mokroi a far che? gridò Miti questo non posso saperlo signore da un certo ufficiale qualcuno l'ha mandata a prendere da lì e ha mandato i cavalli Miti lo lasciò e corse come un pazzo da Fenia una decisione improvvisa quella stava in cucina con la nonna confidando in Nazale Ivanovich ancora una volta non si erano chiuse dall'interno Miti e ruppe nella stanza si scagliò su Fenia e la strinse forte alla gola parla adesso parla dov'è lei adesso con chi sta adesso Mokroi urlò in ferocito entrambe le donne si misero a strillare ve lo dirò Dmitri Fiodorovic caro adesso ve lo dirò non vi nasconderò nulla gridò Fenia spaventata a morte parlando molto rapidamente è andata a Mokroi dall'ufficiale quale ufficiale urlò Miti il suo ufficiale quello di prima proprio quello che aveva prima quello che la abbandonò e partì ci calò con la stessa rapidità Fenia Dmitri Fiodorovic allentò la presa intorno al collo stava dinanzi a lei pallido come un cadavere e muto ma dai suoi occhi era evidente che egli aveva capito ogni cosa di colpo tutto ad un colpo da una mezza parola aveva capito tutto fino all'ultimo particolare e aveva intuito l'intera situazione certo la povera Fenia non era in grado di osservare in quel momento se quello avesse capito oppure no quella così come stava quando Miti aveva fatto irruzione nella stanza e cioè seduta sulla cassa panca così restava in quel momento tutta tremante ancora con le mani impietrite davanti a sé nel tentativo di difendersi le pupille dilatate dal terrore erano fisse immobili su di lui e a peggiorare le cose egli aveva tutte e due le mani sporche di sangue per strada mentre correva doveva essersi toccato anche la fronte per togliere il sudore dal viso infatti sia la fronte sia la guancia destra erano impiastricciate di sangue Fenia era sull'orlo di una crisi isterica mentre la vecchia cuoca era balzata in piedi e guardava come impazzita quasi senza coscienza Dmitry Fedorovic esitò per un momento poi si lasciò cadere macchinalmente sulla sedia accanto a Fenia egli si era seduto ma non per riflettere piuttosto sembrava spaventato impietrito ma tutto era chiaro come il sole egli sapeva di quell'ufficiale sapeva tutto alla perfezione lo aveva saputo da Grushenka stessa sapeva che un mese prima egli gli aveva mandato una lettera quindi era un mese un mese intero che quella faccenda era andata avanti nel segreto più assoluto per lui sino all'arrivo di quel nuovo uomo e lui Mitia non ci aveva nemmeno dato peso ma come aveva potuto come aveva potuto non dargli peso come mai se ne era dimenticato a quel modo perché aveva cancellato quell'ufficiale subito dopo averne avuto notizia erano queste le domande che gli stavano dinnanzi come a una specie di mostruosità ed egli osservava quella mostruosità veramente spaventato raggelato dal terrore ma ad un tratto si mise a parlare con Fenia in tono calmo e carezzevole come un bambino calmo e buono come se avesse completamente dimenticato di averla appena spaventata offesa e si mise ad interrogare Fenia con una precisione straordinaria stupefacente vista la condizione in cui si trovava e Fenia da parte sua anche se guardava terrorizzata le mani insanguinate di lui gli rispondeva con una premura e una prontezza sorprendenti come impaziente di rivelargli la verità vera a poco a poco persino con una specie di contentezza cominciò a disporgli tutti i particolari e non già ammossa del desiderio di tormentarlo ma come affrettandosi con tutte le proprie forze a rendergli un servizio di tutto cuore gli raccontò fin nei dettagli gli avvenimenti della giornata la visita di Rakiting e Ayosha di come la Efenia aveva fatto la guardia e poi la partenza della signora e di come la signora aveva gridato dalla finestra ad Ayosha di salutare lui Mitienka e di dirgli di ricordare per tutta la vita che lo aveva amato un'oretta quando sentì del saluto Mitia sorrisa all'improvviso e sulle palli de guance avvampò un repentino rossore in quel momento Efenia gli domandò senza il minimo timore di essere invadente ma che vi è successo alle mani Dimitri Fiodorovic sono tutte sporche di sangue sì rispose macchinalmente Mitia guardandosi distrattamente le mani e dimenticando subito sia le mani sia la domanda di Fenia affondò un'altra volta nel suo silenzio dal momento in cui era entrato erano passati una ventina di minuti lo spavento di poco prima gli era evidentemente passato ma una nuova implacabile risoluzione sembrava aver preso il possesso di lui di un tratto di un tratto si alzò e sorrisa e con aria pensosa padrone che cosa vi è successo domandò Fenia indicandogli ancora una volta le mani parlava con compassione come se fosse lei la creatura che gli era più vicina in quel momento nel suo dolore Mitia tornò a guardarsi le mani è sangue Fenia disse guardandola con una strana espressione è sangue umano e dio mio perché mai è stato versato ma Fenia c'è uno steccato qui la guardava come se le proponesse un indovinello uno steccato alto è terribile a vedersi ma domani all'alba quando si leverà il sole Mitienka scavalcherà quello steccato non capisci Fenia di che steccato si tratta ma non fa nulla fa lo stesso domani lo sentirai e capirai tutto ma adesso addio non la ostacolerò mi farò da parte saprò farmi da parte vivi gioia mia mi hai amato solo per un'oretta e ricorda così per sempre Mitienka Karamazov mi chiamava sempre Mitienka ti ricordi e con queste parole usci lesto dalla cucina e quel suo modo di uscire spaventò Fenia quasi di più del suo ingresso di poco prima quando si era scagliato contro di lei esattamente dieci minuti dopo Mitri Piotrovich si trovava in casa di quel giovane impiegato Piotr Ilil Perschorkin al quale aveva dato impegno alle pistole erano già le otto e mezza e Piotr Ilie dopo aver bevuto il tè a casa sua si era appena infilato la finanziera per andare alla trattoria la capitale a giocare a biliardo Mitia lo colse sulla porta di casa nel vederlo con la faccia tutta macchiata di sangue quello esclamò Dio mio ma che vi è successo ecco disse Mitia rapidamente sono venuto a riprendermi le pistole vi ho riportato i soldi mi sono grato ma ho fretta Piotr Ilie per favore fate presto Piotr Ilie era sempre più stupito nelle mani di Mitia intravide all'improvviso un mucchietto di soldi e la cosa notevole è che egli teneva quei soldi in mano ed era pure entrato in casa in quella posizione come nessuno li terrebbe o entrerebbe in una casa teneva tutte quelle banconote nella mano destra come per mostrarle con il braccio dritto davanti a sé il ragazzo il servitore dell'impiegato che aveva fatto entrare Mitia in anticamera raccontava in seguito che egli era entrato in quel modo in casa con quei soldi in mano quindi anche per la strada li aveva portati in quella maniera nella mano destra tesa davanti a sé le banconote erano tutte da cento rubli iridate ed egli le teneva fra le dita insanguinate alle domande che gli furono poste in seguito da chi di dovere per esempio quanti soldi esattamente aveva Dmitri Fiodorovic esattamente in quel momento Piotr Ilie dichiarò che sarebbe stato difficile indicare la somma precisa forse erano duemila forse tremila rubli ma il mazzetto era grosso cospicuo quanto a Dmitri Fiodorovic come testimoniò in seguito egli era come fuori di sé non ubriaco ma piuttosto eccitato molto distratto e nello stesso tempo come concentrato come se stesse ponderando qualcosa cercando qualcosa ma incapace di decidere aveva molta fretta rispondeva a scatti in maniera strana e in alcuni momenti non sembrava affatto addolorato ma persino allegro ma che cosa vi prende cosa c'è che non va adesso esclamò un'altra volta Piotr Ilie guardando stupefatto il suo ospite come mai siete tutto insanguinato siete caduto ma guardatevi lo afferrò per un gomito e lo condusse davanti a uno specchio vedendo il proprio viso macchiato di sangue egli trassalì e si accigliò stizzito al diavolo ci mancava anche questa borbottò con stizza passando rapidamente le banconote dalla mano destra alla sinistra ed estraendo febbrilmente il fazzoletto dalla tasca ma anche il fazzoletto era tutto intriso di sangue con quello stesso fazzoletto aveva tentato di pulire la testa e il viso di Grigori quasi quasi non c'era nemmeno un angolino bianco e il fazzoletto non solo aveva iniziato a seccarsi ma si era come indurito in una palla raggrinzita che non riusciva più a svolgere Mitealo scaraventò con rabbia sul pavimento al diavolo non avreste uno stofinaccio qualsiasi per darmi una pulita così vi siete solo macchiato non siete ferito fareste meglio lavarvi disse Piotr Illich disse a un lavabo vi verserò dell'acqua un lavabo va bene solo che questi dove li metto e con una perplessità oltremodo strana lì gli indicò a Piotr Illich il mucchietto delle banconote da cento rubli guardandolo con aria interrogativa come se toccasse all'altro decidere dove lui doveva mettere il proprio denaro infilatele in tasca oppure poggiatele su quel tavolo non si perderanno in tasca? sì in tasca va bene no vedete questa è una stupidaggine esclamò come uscendo dal suo stato di distrazione vedete prima concludiamo la faccenda delle pistole voi me le restituite ecco il denaro perché ne ho estremo estremo bisogno e invece non ho un attimo un attimo da perdere e prendendo la prima banconota da cento rubli dal mucchietto la porse all'impiegato ma non ho il resto osservò quello non avreste spiccioli? no rispose Mitia riguardando il mucchietto e come se non fosse sicuro della sua osservazione controllò le prime due o tre banconote no sono tutte da cento soggiunse e guardò un'altra volta con aria interrogativa Piotr Illitz ma come avete fatto a diventare così ricco? gli domandò quello aspettate mandò un attimo il ragazzo dai Plotnikov loro chiudono tardi per vedere se possono cambiare eh Misha gridò in direzione dell'anticamera alla bottega dei Plotnikov magnifica idea esclamò Mitia come folgorato da un'idea ehi Misha si rivolse al ragazzo che entrava ascolta fa un salto dai Plotnikov e di che Dmitri Fiodorovic porge i suoi saluti e fra poco verrà di persona e ascolta ascolta che preparino dello champagne per il mio arrivo tre dozzine di bottiglie che le mettono nelle casse come l'altra volta che sono andato a Mocroe quella volta ne presi quattro dozzine si rivolse di scatto a Piotr Illitz sanno quel che devono fare non ti preoccupare Misha disse rivolgendosi un'altra volta al ragazzo e ascolta ancora di dimetterci del formaggio patè di Strasburgo lavarelli affumicati prosciutto caviale e tutto tutto quello che hanno per la somma di 100 a 120 rubli come quella volta ascolta ancora che non dimentichino i dolci i confetti pere due o tre angurie o meglio quattro no un'anguria sarà sufficiente e poi cioccolata caramelle mon pensier fondant tutto quello che mi misero la volta che andai a Mocroë in modo che compreso lo champagne la somma ammonti a 300 rubli beh che sia tutto come l'altra volta e ricordati Misha se ti chiami Misha si chiama Misha non è vero? e si rivolse nuovamente a Piotr Illitz ma aspettate lo interruppe Piotr Illitz che lo osservava e ascoltava preoccupato fareste meglio ad andarci di persona a ordinare tutto questo lui si confonderà di certo si confonderà è vero si confonderà ehi Misha ero sul punto di baciarti per la commissione che mi facevi se non ti confonderai 10 rubri saranno per te al galoppo forza lo champagne è la prima cosa che devono andare a prendere anche il cognac e del rosso del bianco tutto come l'altra volta loro lo sanno come facciamo l'altra volta ma ascoltatemi lo interruppe impaziente Piotr Illitz io credo che sia meglio che il ragazzo corra a cambiare i soldi e dica di non chiudere poi voi stesso andrete e ordinerete datemi la vostra banconota corri Misha a gambe elevate sembrava che Piotr Illitz si fosse affrettato a sbarazzarti di Misha di proposito perché quello era rimasto lì imparato con la stessa faccia che aveva fatto nel vedere entrare l'ospite con gli occhi spalancati su quel viso coperto di sangue e quelle mani insanguinate con il mucchietto di soldi fra le dita tremanti e la bocca spalancata per lo stupore e la paura e forse comprendendo ben poco di tutto quello che gli ordinava Misha bene adesso andiamo a lavarci disse in tono severo Piotr Illitz poggiate i soldi sul tavolo e infilateli in tasca ecco così andiamo e toglietevi la finanziera e si mise ad aiutarlo a levarsi la finanziera quando a un tratto esclamò guardate avete anche la finanziera sporca di sangue non non è la finanziera è solo un pochino la manica ecco solo qui dove stava il fazzoletto deve essere filtrato dalla tasca da Fenia mi ero seduto proprio sul fazzoletto si affrettò a spiegare Mithia con un candore stupefacente Piotr Illitz ascoltava con aria ciliata avrete combinato qualcosa vi sarete battuto con qualcuno mormorò cominciarono il lavaggio Piotr Illitz reggeva la brocca e versava l'acqua poco a poco Mithia andava di fretta e fece per insaponarsi appena appena le mani le mani gli tremavano come ricordò in seguito Piotr Illitz Piotr Illitz gli ordinò di insaponarsi ancora e di sfregarsi meglio sembrava aver acquisito su Mithia una certa autorità che cresceva di momento in momento noteremo a questo proposito che il giovanotto aveva un carattere fermo guardate non vi siete lavato sotto le unghie adesso sfregatevi il viso ecco lì sulle basette vicino all'orecchio partirete con quella camicia ma dove credete di andare guardate avete tutto il polsino della manica destra sporco di sangue si sporco di sangue notò Mithia osservando il polsino della camicia allora cambiatevi la camicia non ho tempo vedete io proseguì Mithia con lo stesso candore di prima asciugandosi già il viso e le mani con l'asciugamani e indossando la finanziera ecco arrotolerò l'orlo della manica così non si vedrà da sotto la finanziera guardate adesso ditemi dove avete combinato tutto questo vi siete battuto con qualcuno non sarà avvenuto ancora in trattoria come l'altra volta non sarà stato ancora una volta con quel capitano che quella volta picchiaste e tiraste per la barba gli ricordò Piotr Ilici in tono di rimprovero che altro avete picchiato o ammazzato forse sciocchezze disse Mithia come sciocchezze non è il caso che vi preoccupiate disse Mithia sorridendo all'improvviso ho appena schiacciato una vecchietta sulla piazza avete schiacciato una vecchietta un vecchio gridò Mithia guardando Piotr Ilici dritto in faccia ridendo e gridando come se l'altro fosse sordo al diavolo un vecchio una vecchia avete ucciso qualcuno abbiamo fatto pace abbiamo litigato e poi abbiamo fatto pace in un posto che conosco ci siamo lasciati da amici un imbecilla mi ha perdonato adesso mi ha perdonato sicuramente se si fosse rialzato non mi avrebbe perdonato amicò Mithia all'improvviso ma sapete che va dal diavolo mi sentite? Piotr Ilici che va dal diavolo non è il caso che vi preoccupiate in questo momento non ne voglio sapere niente dagli ho accorto bruscamente Mithia ecco mi riferivo proprio al gusto che avete di attaccare briga con tutti come quella volta con il capitano per uno nulla avete fatto a botte e ora vi precipitate a gozzovigliare ecco il vostro carattere tre dozzine di bottiglie di champagne ma che ve ne fate? bravo adesso datemi le pistole quanto è vero il Dio non c'è tempo da perdere avrei voglia di fermarmi a parlare con te caro mio ma non ho tempo e poi non servirebbe a niente è troppo tardi ma dov'è il denaro? dove l'ho messo? gridò e cominciò a frugare nelle tasche lo avete poggiato sul tavolo voi stesso eccolo là ve ne eravate dimenticato per voi il denaro è come immondizia o acqua ecco le vostre pistole strano soltanto alle sei di quest'oggi le avete impegnate per dieci rubli ed ora ecco ne avete a migliaia saranno due o tremila tremila esatto scoppiò a ridere Mithia pigiando i soldi nella tasca laterale dei pantaloni ma così li perderete avete forse trovato una miniera d'oro una miniera una miniera d'oro gridò Mithia a squarciagola e si sbellicò dalle risa vorreste andare alle miniere d'oro perciotin c'è giusto una signora qui che sborserebbe tremila rubli se solo partiste per le miniere l'ha fatto anche con me va pazza per le miniere conoscete la cioclacova non di persona ne ho sentito parlare la conosco di vista è stata forse lei a darvi quei tremila rubli ve li ha sborsati così Piotrilli ce lo guardava incredulo e voi domani non appena si leverà il sole non appena Febo eternamente giovane sorgerà a lode e gloria di Dio domani andateci da lei dalla cioclacova e domandateglielo voi stesso se mi ha sborsato tremila rubli oppure no scopritelo da voi non conosco i vostri rapporti dal momento che lo affermate con tanta sicurezza vuol dire che ve li ha date e voi stesso che avete i soldini nelle vostre grinfie invece di andare in Siberia con tutti quei tremila a proposito ma dove state andando a Mocroe a Mocroe ma se è buio una volta Mastriuk aveva tutto e ora è rimasto a becco asciutto replicò di scatto Mitia come a becco asciutto con migliaia di rubli di te a becco asciutto non parlo dei rubli al diavolo il denaro sto parlando del carattere delle donne infida è l'indole delle donne volubile e colma di vizio sono d'accordo con Ulisse è lui che dice così non vi capisco sono ubriaco per caso ubriaco no peggio sono ubriaco nello spirito Piotr Illich sono ubriaco nello spirito ma adesso basta basta ma che fate caricate la pistola carico la pistola aperto l'astuccio delle pistole Mitia aveva davvero stappato il corno con la polvere da sparo che aveva accuratamente versato e compresso nella carica poi aveva preso una pallottola e prima di inserirla l'aveva sollevata tra due dita davanti a sé sopra una candela perché esaminate la pallottola domandò Piotr Illich mentre lo osservava con inquieta curiosità così per una certa idea se aveste intenzione di spararvi una pallottola nel cervello non guardereste la pallottola prima di caricare la pistola a che scopo guardarla dal momento che deve entrare nel mio cervello sarebbe interessante darci un'occhiettina per vedere come è fatta ma del resto sono delle sciocchezze delle sciocchezze del momento ecco fatto soggiunse inserendo la pallottola e spingendola con lo stoppaccio Piotr Illich caro sono sciocchezze tutte sciocchezze e solo sapeste fino a che punto sono delle sciocchezze datemi qua un pezzo di carta adesso eccola no un foglio liscio pulito per scriverci sopra ecco così e Mitya afferrata la penna dal tavolo scrisse rapidamente due righe sul foglio lo piegò in quattro e lo infilò nel taschino del panciotto ripose le pistole nell'astuccio lo chiuse con la chiavetta e prese l'astuccio in mano dopo di che guardò Piotr Illich e gli sorrisse a lungo pensierosamente adesso possiamo andare disse andare dove? no aspettate avete forse intenzione di sparartela nel cervello? quella pallottola intendo domandò Piotr Illich turbato ma stavo scherzando con quella pallottola voglio vivere io amo la vita sappilo questo amo Febo dai riccioli d'oro e la sua luce ardente caro Piotr Illich tu sai farti da parte? in che senso farmi da parte? lasciare la strada libera a una persona cara e a un'altra che odi a fare in modo che quella che odi ti diventi cara ecco lasciare la strada libera in questo senso di dir loro e Dio vi benedica andate passate pure mentre io mentre voi basta andiamo quanto è vero Dio dirò a qualcuno disse Piotr Illich guardandolo che non vi permettano di andare a che vi serve andare a Mocro adesso? c'è una donna lì una donna e adesso basta Piotr Illich chiudi il becco ascoltate per quanto siete un tipo selvaggio mi siete sempre piaciuto ecco perché mi preoccupo grazie fratello selvaggio dici selvaggi selvaggi lo dico sempre anch'io selvaggi ma ecco Misha me ne ero quasi dimenticato Misha entrò in tutta fretta con il mucchietto dei soldi cambiati e riferì che dai Plotnikov si davano tutti un gran da fare stavano portando su bottiglie pesce tè sarebbe stato tutto pronto in un baleno Mitya afferrò una banconota da dieci rubli e la diede a Piotr Illich poi ne prese un'altra dello stesso valore e la lanciò a Misha non vi permettete gridò Piotr Illich in casa mia non si fanno queste cose è un pessimo vezzo questo mettete via i vostri soldi ecco bocciateli qua perché buttarli via in questo modo potranno tornarvi utili domani stesso potreste venire anche domani a chiedermi dieci rubli ma perché continuate a infilare le banconote nella tasca laterale così le perderete ascolta amico mio andiamo insieme a Mocro che ci vengo a fare io allora stappiamo una bottiglia adesso per brindare alla vita vuoi? ho voglia di bere e ho voglia di bere proprio con te non ho mai bevuto insieme a te vero? bene possiamo bere alla trattoria andiamo ero giusto diretto lì per la trattoria non ho tempo andiamo alla bottega dei Plotnikov nella stanza sul retro se vuoi ti proporrò un indovinello forza allora Mitya estrasse dalla tasca del panciotto il suo foglietto lo svolse e glielo mostrò a caratteri grossi e ben distinti c'era scritto condanno me stesso per tutta la vita punirò tutta la mia vita parlerò sicuramente con qualcuno andrò a parlarci subito disse Piotr Illich dopo aver letto il foglietto non farai in tempo caro andiamo a bere march la bottega dei Plotnikov si trovava all'angolo della strada a una casa o giù di lì di distanza dalla casa di Piotr Illich era la drogheria principale della nostra città apparteneva a ricchi commercianti e come negozio non era affatto male c'era tutto quello che si poteva trovare in una drogheria della capitale vino imbottigliato dai fratelli e le sieve frutta, sigari, tè, zucchero, caffè e così via in negozio c'erano fissi tre commessi e due garzoni per le commissioni anche se la nostra zona si è impoverita i proprietari italieri sono andati via il commercio ha subito una battuta d'arresto tuttavia la drogheria andava a gonfie vele come prima anzi migliorava di anno in anno i clienti non mancavano mai per quella merce alla bottega Mitia era atteso con impazienza ricordavano molto bene di come due o tre settimane prima egli avesse comprato vini e merci di ogni tipo per la montare di alcune centinaia di rubli incontanti naturalmente non gli avrebbero mai fatto credito ricordavano che anche allora come adesso nella mano gli spuntava un intero mucchietto di banconote iridate che sperperava di qua e di là a casaccio senza contrattare sul prezzo senza riflettere né voler riflettere a cosa gli servisse tutta quella merce quel vino e così via più tardi in tutta la città girava voce che quando era partito per Mokro in compagnia di Grushenka aveva accettato al vento in una sola notte e il giorno successivo ben tremila rubli ed era tornato dai bagordi senza il becco di un quattrino così come lo aveva fatto la mamma aveva invitato un intero accampamento di zigani che transitavano dalle nostre parti in quel periodo e questi per due giorni interi li avevano spillato mentre era ubriaco denaro in quantità incalcolabile e avevano bevuto i migliori vini in quantità incalcolabile la gente andava raccontando ridendo alle spalle di Mitia Chiamo Crow aveva offerto champagne a rozzi contadini aveva sfamato donne e ragazze di campagna a base di dolci e patè di Strasburgo lo prendevano in giro soprattutto alla trattoria per l'ingenua ammissione fatta in pubblico da Mitia stesso secondo la quale come ricompensa per quella escapade da Grushenka era riuscito ad ottenere soltanto il permesso di baciarle il piedino niente di più ovviamente non lo prendevano in giro in sua presenza già che sarebbe stato molto pericoloso farlo quando Mitia e Piotr Illich raggiunsero la bottega presso l'ingresso trovarono tre cavalli già pronti e attaccati a un carro coperto con le campanelle e il sonaglio e il vetturino andrei in attesa di Mitia alla bottega avevano quasi finito di confezionare una cassa di merce e aspettavano soltanto l'arrivo di Mitia per sigillarla e sistemarla sul carro Piotr Illich si meravigliò ma come hai fatto a procurarti così in fretta quel carro domandò Mitia mentre correvo da te ecco che ti incontro Andriei così gli ho ordinato di farsi trovare direttamente qui presso la bottega non c'è tempo da perdere la volta scorsa sono andato con Timofiei ma questa volta Timofiei se l'è battuta mi ha preceduto con una certa ammaliatrice Andriei faremo troppo ritardo arriveranno lì solo un'oretta prima di noi e anche meno forse vedrete che ci precederanno di appena un'oretta si affrettò a rispondere Andriei Timofiei l'ho mandato io e so a che velocità va il loro passo non sarà uguale al nostro Dimitri Fiodorovic e come potrebbe essere non ce la faranno a sgraffignarci nemmeno un'oretta soggiunse con calore Andriei era un vetturino ancora giovane un tipo rossiccio segaligno che indossava la podevka e un grosso gabbano sul braccio sinistro 50 rubli per la vodka se arriveremo soltanto un'ora più tardi di loro vi garantisco un'ora Dimitri Fiodorovic ma no quelli non ci precederanno nemmeno di mezz'ora altro che un'ora Mitia si dava un grande affare per impartire le necessarie disposizioni però parlava e dava ordine in maniera strana sconnessa senza logica cominciava a dire una frase e dimenticava di finirla Piotr Illich si sentì in dovere di intervenire in suo aiuto per 400 rubli non meno di 400 che sia tutto esattamente come l'altra volta comandava Mitia quattro dozzine di bottiglie di champagne non una di meno ma a che te ne servono tante ferma strillò Piotr Illich che cos'è questa cassa che cosa c'è dentro non vorrete dirmi che dentro c'è roba per 400 rubli immediatamente gli affacendati commessi si misero a spiegargli con smancerosa eloquenza che in quella prima cassa c'erano soltanto mezza dozzina di bottiglie di champagne e merci varie di prima necessità antipasti dolci malpensier e cose del genere mentre l'occorrente principale sarebbe stato impacchettato e spedito immediatamente ma a parte come l'altra volta in un carro speciale anche quello tirato da tre cavalli che sarebbe arrivato in tempo forse non più tardi di un'ora dopo l'arrivo di Dmitri Fiodorovic non più di un'ora che non sia più di un'ora e metteteci quanti più pensieri fondant potete alle ragazze là piacciono molto insisteva con calore mitia che vada per il fondant ma quattro dozzine di bottiglie a che ti servono ne basta una Piotr Illich era sul punto di perdere la pazienza si mise a mercanteggiare richiese il conto non voleva darsi pace tuttavia riuscì a salvare soltanto un centinaio di rubli si accordarono sul fatto che la merce fornita non ammontasse a più di 300 rubli è andata il diavolo adesso il doppio a Trillich ripensandoci su non sono mica fatti miei getta pure al vento il tuo denaro se non ti costa niente vieni qua economo mio su non te la prendere e mi ti allutirò nel retrobottega adesso ci serviranno una bottiglia qui e noi la assaggeremo su Piotr Illich vieni con me sei una persona simpatica del genere che piace a me Mitia si sedette su una seggiolina di vimini davanti a un minuscolo tavolino coperto da una tovaglietta lurida Piotr Illich gli sedette di fronte e un attimo dopo fu servito lo champagne chiesero se i signori gradissero delle ostriche ostriche di primissima qualità appena arrivate al diavolo le ostriche non le mangerò no non voglio niente grugnì Piotr Illich quasi con rabbia non c'è tempo per le ostriche osservò Mitia e poi non ho nemmeno appetito sai caro amico gli disse poi con sentimento non mi è mai piaciuto questo disordine e chi lo ama tre dozzine di bottiglie e per i contadini ma fammi il piacere questo farebbe rabbia a chiunque non sto parlando di questo sto parlando di un ordine superiore in me non c'è ordine ordine superiore ma è tutto finito non c'è nulla da rimpiangere è tardi al diavolo tutta la mia vita è trascorsa nel disordine e occorre mettere ordine sto facendo giochi di parole vero stai vaneggiando altro che giochi di parole gloria al signore che è nel mondo gloria al signore che è in me questi versetti mi sono nati dal cuore una volta non sono versi ma lacrime li ho inventati io ma non quando tiravo per la barba quel capitano perché perché ad un tratto parli di lui perché parlo di lui ad un tratto ma è una sciocchezza tutto finisce tutto si pareggia un trettino e ha il totale sai continuano a venirmi in mente le tue pistole anche le pistole sono una sciocchezza bevi e non stare a fantasticare amo la vita sono troppo innamorato della vita vergognosamente troppo basta alla vita mio caro beviamo alla vita propongo un brindisi alla vita perché mai sono soddisfatto di me sono un mascalzone ma sono soddisfatto di me eppure mi tormento di essere un mascalzone soddisfatto di me stesso benedico la creazione adesso sono pronto a benedire Dio e la sua creazione ma bisogna eliminare un insetto pericoloso per timore che strisciando vada a guastare la vita degli altri beviamo alla vita fratello caro che cosa ci può essere di più caro della vita niente niente alla vita e alla regina delle regine e allora beviamo alla vita eppure alla tua regina beverò un bicchiere a testa seppure eccitato ed espansivo mitia sembrava triste come se una preoccupazione insormontabile penosa gravasse su di lui miscia è il tuo miscia che è entrato miscia caro miscia vieni qui bevimi questo bicchiere a febo dai riccioli d'oro a domani ma perché offri dello champagne a lui gridò Pietro Illich irritato ma dai perché ne ho voglia miscia traccannò il bicchiere fece un inchino scapò via si ricorderà più a lungo di me osservò mitia amo una donna una donna che cos'è la donna la regina della terra sono triste triste Pietro Illich ti ricordi Amleto sono così triste così triste Orazio ah povero Ioric forse sono io Ioric sì in questo momento sono Ioric e poi sarà un teschio Pietro Illich ascoltava in silenzio tacque anche mitia che cagnolino avete lì domandò all'improvviso al commesso notando casualmente un minuscolo cagnetto maltese dagli occhi neri è di far vara alexandrevna della padrona rispose il commesso ha portato lei stessa qui e poi se l'ha dimenticato bisognerà riportarglielo e ha visto uno tale e quale al reggimento disse mitia pensierosamente solo che quello aveva una zampetta posteriore rotta Pietro Illich volevo proprio domandarti hai mai rubato qualcosa nella tua vita ma che domanda è mai questa così tanto per dire dalla tasca di qualcuno capisci non parlo del denaro dello stato quello lo sgrafiniano tutti anche tu certamente ma va il diavolo parlo del denaro altrui dritto dalla tasca di un altro dal borsellino una volta rubai una monetina da venti copè che a mia madre dal tavolo avevo nove anni la presi pian pianino e la strinsi nella mano e poi e poi niente la conservai tre giorni provai vergogna confessai e la restituì e allora naturalmente mi picchiarono ma perché me lo chiedi hai rubato qualcosa tu? ho rubato amico maliziosamente mitia che cosa hai rubato indagò Pietro Illich una moneta da venti copecchi a mia madre avevo nove anni dopo tre giorni la restituì detto questo mitia si alzò di colpo Dmitri Fiodorovic non dobbiamo affrettarci gli domandò all'ingresso della bottega a Andriei tutto pronto? partiamo si avviò a mitia di scatto ancora qualche parola e Andriei su un bicchierino di vodka il bicchiere della staffa dategli pure del cognac oltre alla vodka un bicchierino quell'astuccio con le pistole mettetelo da me sotto il sedile addio Piotr Illich non serbarmi rancore ma tornerai domani vero? certamente vorreste saldare il conticino adesso? si avvicinò ad un balzo uno dei commessi ah sì il conto certamente e gli tirò fuori nuovamente dalla tasca il suo mucchietto di banconote ne prese tre da cento rubli le gettò sul bancone e uscì di corsa dalla bottega lo seguirono tutti lo accompagnarono franchini saluti e auguri di buon viaggio Andriei dopo aver bevuto il suo cognac tiraschiò la gola e balzò a cassetta Mitia stava per prendere posto quando all'improvviso del tutto inaspettatamente si trovò davanti Fenia era arrivata di corsa tutta trafelata con un grido aveva giunto le mani davanti a lui e si era gettata ai suoi piedi Batiuska Dimitri Piodorovic caro non fate del male alla padrona sono stata io a raccontarvi tutto e non uccidete neanche lui è venuto prima di voi è quello suo adesso sposerà Grafena Aleksandrovna per questo è tornato dalla Siberia Batiuska Dimitri Piodorovic non rovinate la vita altrui ma guarda un po' ecco di che si tratta allora hai proprio intenzione di compinare qualche guaio laggiù mormorò fra sé e sé Piotr Illich adesso capisco tutto come non capire adesso Dimitri Piodorovic dammi subito le pistole se intendi comportarti da uomo esclamò poi a voce alta rivolgendosi a Mitia hai capito Dimitri le pistole aspetta un po' amico mio le cetterò in una fossa durante il tragitto rispose Mitia Fenia alzati non stare in ginocchio davanti a me Mitia non ucciderà nessuno questo stupido uomo non farà più male a nessuno d'ora in poi ascolta Fenia le gridò dopo essersi seduto poco fa ti ho offesa perdonami ti prego perdona un mascalzone e se non mi perdonerai fa lo stesso perché a questo punto fa lo stesso frusta Andriei vola a tutta velocità Andriei frustò i cavalli e i campanelli si misero a tintinnare addio Piotr Illich la mia ultima lacrima è per te non è ubriaco eppure spara certe assurdità pensò Piotr Illich guardandolo andar via aveva mezza intenzione di fermarsi a controllare come avrebbero preparato per il viaggio il carro anche quello un tiro a tre con il resto delle provviste e dei vini giacché prevedeva che quelli avrebbero imbrogliato e derubato Mitia ma poi irritato con se stesso sputò e si diresse alla trattoria a giocare a biliardo è un imbecille però è un bravo ragazzo robottava fra sé e sé durante il tragitto avevo già sentito di quel certo ufficiale quello che stava prima con Grushenka ma se è già arrivato allora ah quelle pistole ma al diavolo non sono mica la sua balia io che se le tenga e poi non succederà nulla sono una masnada di buffoni nient'altro si ubriaccheranno si piccheranno si piccheranno e faranno la pace non è gente che fa sul serio quella che cosa voleva dire con quel mi farò da parte e poi mi punirò non concluderà un bel nulla ha gridato migliaia di volte frasi del genere alla trattoria ma adesso non era ubriaco ubriaco nell'anima ai mascalzoni piacciono le belle frasi ma non sono mica la sua balia io sicuramente sarà preso a botte con qualcuno aveva tutto il muso insanguinato ma con chi ne saprò qualcosa alla trattoria e anche il fazzoletto era insanguinato al diavolo è ancora sul pavimento di casa mia ma io me ne infischio arrivò la trattoria di pessimo umore e si mise subito a fare una partita la partita gli fece tornare il buon umore ne cominciò un'altra e su due piedi si mise a raccontare a uno dei suoi compagni di gioco che Dmitri Fiodorovic si era trovato un'altra volta con un mucchio di soldi 3.000 rubli ci sarebbe da chiedersi se non abbia derubato il vecchio 3.000 è qualcosa che non torna si vantava davanti a tutti ad alta voce che avrebbe ucciso il padre l'hanno sentito tutti qui parlava proprio a proposito di 3.000 rubli Piotr Illich ascoltava e ad un tratto iniziò a dare risposte secche e concise alle domande che gli ponevano non fece parola del sangue sul viso e sulle mani di Mitia mentre sulle prime aveva pensato di dirlo cominciarono la terza partita e a poco a poco si smise di parlare di Mitia ma dopo aver terminato la terza partita Piotr Illich non ebbe più voglia di giocare posò la stecca e lasciò la trattoria senza cenare contrariamente a quanto aveva deciso in precedenza giunto alla piazza egli rimase perplesso e quasi meravigliato di se stesso si era reso conto all'improvviso di voler andare subito da Fiodor Paolovic per sapere se gli fosse accaduto qualcosa e io dovrei svegliare una casa di persone che non conosco per una cosa che si rivelerà senz'altro una sciocchezza e così provocare uno scandalo ma insomma sono forse la sua balia di pessimo umore si avvicinò a casa sua quando all'improvviso gli sovvenne il ricordo di Fenia dannazione se le avessi chiesto qualche informazione poco fa pensò stizzito avrei saputo tutto e il desiderio di parlare e quindi di scoprire come stessero le cose divenne così pressante e insistente che a metà strada egli svoltò bruscamente verso la casa della Morozova dove alloggiava Grushenka arrivato al portone bussò ma i rintocchi che si levarono nella quiete della notte lo ricondussero alla ragione e lo irritarono per di più non rispose nessuno dormivano tutti finirò con il sollevare uno scandalo anche qui pensò con una stretta penosa al cuore ma invece di andarsene una volta per tutte bussò un'altra volta e con tutte le sue forze il rumore fragoloso si udì per tutta la strada non vengono ad aprire e allora busserò busserò finché non si sveglieranno borbottava ogni colpo e se la prendeva contro se stesso esasperato ma nel contempo raddoppiava i colpi alla porta ecco che arrivo anch'io nel frattempo Dmitri Fiodrovic volava verso la sua destinazione Mocroi si trovava a poco più di venti verste ma i tre cavalli di Andrei galopavano così spediti che avrebbero potuto coprire quella distanza in un'ora e un quarto il ritmo sostenuto del viaggio corroborò Mitia l'aria era fresca e pungente nel cielo terzo brillavano enormi le stelle era la stessa notte e forse la stessa ora in cui Agiosha trollato a terra aveva giurato in estasi che avrebbe amato la terra nei secoli dei secoli ma nell'anima di Mitia c'era confusione solo confusione e sebbene molte cose stessero lacerando la sua anima eppure in quel momento tutto il suo essere era irresistibilmente attratto soltanto da lei dalla sua regina da colai verso la quale stava volando per guardarla per l'ultima volta una cosa sola posso dire di certo e in cuor suo non ebbe un attimo di risentimento forse non mi si crederà quando dirò che è quell'uomo nel temperamento geloso in quel momento non nutriva la minima gelosia per quel nuovo uomo quel nuovo rivale venuto fuori dal nulla per quell'ufficiale se chiunque altro fosse apparso sulla scena egli ne sarebbe stato immediatamente geloso e probabilmente si sarebbe ancora una volta macchiato le mani di sangue mentre nei confronti di quello di quel primo uomo di lei in quel momento mentre viaggiava nel suo tiro a tre non solo non provava gelosia ma nemmeno alcun sentimento di ostilità vero è comunque che non l'aveva mai visto qui non c'è niente da discutere qui sono entrambi nel pieno diritto e in questo caso il suo primo amore che ella non ha dimenticato per cinque anni vuol dire che in questi cinque anni non ha amato altri che lui quindi io che centro che diritti posso accampare io in questo caso Mitea fatti da parte e lascia la strada libera che cosa rappresento io adesso tanto più che adesso anche senza l'ufficiale sarebbe tutto finito anche se quello non fosse nemmeno ricomparso sarebbe tutto finito lo stesso ecco con quali parole approssimativamente avrebbe potuto esprimere i propri sentimenti se solo fosse stato in grado di ragionare ma allora non era in grado di ragionare la sua decisione di quel momento era nata senza ragionamenti in un batter d'occhio era nata da un sentimento improvviso ed era stata accettata tutta ad un pezzo con tutte le relative conseguenze proprio poco prima quando era da Fenier dopo le prime parole che lei aveva pronunciato eppure nonostante avesse già preso quella decisione la confusione regnava nel suo cuore una confusione che lo faceva quasi soffrire neanche quella decisione gli dava pace aveva troppe cose alle spalle che lo tormentavano e a momenti gli pareva strana di aver scritto di proprio pugno la propria sentenza di morte con tanto di carta e penna condanno me stesso e punirò tutta la mia vita e quel foglietto era lì nella sua tasca bello e pronto la pistola era già carica aveva già deciso il modo in cui l'indomani avrebbe accolto il primo raggio ardente di febo dai riccioli d'oro eppure non riusciva a chiudere i conti con il passato con tutto quello che gli stava alle spalle e lo tormentava lo sentiva fino a soffrirne e questo pensiero gli colmava l'anima di disperazione ci fu un attimo durante il viaggio in cui avrebbe voluto fermare Andriei saltare giù dal carro prendere la pistola carica e farla finita senza aspettare l'alba ma quell'attimo suonì all'istante come una scintilla e poi i cavalli andavano al galoppo divorando lo spazio e man mano che si avvicinava al suo obiettivo il pensiero di lei di lei sola gli germiva l'anima sempre più prepotentemente e ricacciava tutti gli altri terribili fantasmi dal suo cuore oh che voglia aveva di vederla anche solo per un attimo anche solo da lontano lei adesso è con lui ecco darò solo un'occhiata per vedere come sta con lui con il suo primo amore voglio soltanto questo mai quella donna che pure aveva così fortemente influenzato il suo destino aveva suscitato un tale amore nel suo cuore un sentimento così nuovo e ignoto un sentimento inatteso anche per lui un sentimento di tenerezza che sfiorava i limiti della devozione dell'autoannullamento davanti a lei e io mi annullerò disse all'improvviso in un impeto di eccitazione isterica galoppavano da quasi un'ora mi ti attaceva e anche Andriei che pur era un contadino loquace diceva una parola come se avesse paura di attaccare discorso si limitava a incitare le sue rozze i suoi tre cavalli bai smilzi ma vivaci quando a un tratto Mitia preoccupatissimo esclamò Andriei che facciamo se stanno dormendo quell'idea lo aveva come stordito all'improvviso fino a quel momento non ci aveva ancora pensato potrebbe essere Dmitri Fiodorovic e si sono già coricati Mitia sacigliò dolorato lui sarebbe arrivato di corsa lì con quei sentimenti mentre quelli già dormivano dormiva anche lei forse là stesso un sentimento di perfidia gli ribollì nel cuore andiamo avanti Andriei frusta Andriei più in fretta gridò come fuori di sé ma potrebbe pure essere che non si sono ancora coricati riconsiderò Andriei dopo una pausa Timofei mi ha detto che c'era un sacco di gente alla stazione no non alla stazione dai Plastunov alla locanda dove affittano i cavalli ho capito così dici che c'è molta gente lì come mai chi sono esclamò Mitia molto allarmato dalla notizia sì mi diceva Timofei che sono tutti signori di città due dalla nostra città chi sono non lo so Timofei mi ha soltanto detto che c'erano due signori di queste parti e poi altri due che devono essere forestieri e forse qualcun altro ma non ho fatto tante domande diceva che si erano messi a giocare a carte a carte allora forse non staranno dormendo se stanno giocando a carte a pensarci bene in fin dei conti saranno appena le undici non più tardi frusta Andriei frusta non cito ancora nervosamente Mitia posso farvi una domanda signora e sordi nuovamente Andriei dopo una breve pausa solo che ho paura che vi arrabbierete padrone che vuoi poco fa Fedosia Markorovna si è gettata ai vostri piedi e vi ha supplicato di non fare del male alla sua padrona e a qualcun altro così vedete signore io vi sto portando proprio là perdonate signore è la mia coscienza forse ho detto una sciocchezza Mitia lo afferrò di colpo per le spalle tu sai un vetturino un vetturino domandò freneticamente un vetturino allora tu lo sai che bisogna lasciare la strada libera che cosa diresti a qualcuno che non vuole lasciare la strada libera ma continua ad andare dritto per la sua strada investendo gli altri non devi investire la gente non devi rovinare la vita agli altri e se hai rovinato la vita degli altri devi punire te stesso se l'hai solo rovinata se hai distrutto la vita di qualcuno devi condannare te stesso e andare via questo fiume di parole proruppe dalle labbra di Mitia come se fosse stato in preda una crisi isterica pur sorpreso da quello che diceva il padrone andrei sostenne la conversazione è vero Batiuska Dimitri Fiodorovic avete ragione che non bisogna investire la gente e neanche farla soffrire così come con tutte le creature perché ogni creatura è stata creata da dio prendi il cavallo per esempio ci sono quelli che gli spezzano la schiena anche fra noi i vetturini non hanno nessun freno e sferzano sferzano tutto spiano sino all'inferno lo interruppe Mitia all'improvviso e scoppiò nella sua brusca risatina andrei anima semplice e lo strinse forte per le spalle un'altra volta dimmi un po' l'anima di Dimitri Fiodorovic Karamazov andrà o no all'inferno tu che ne dici non lo so caro mio dipende tutto da voi perché voi qui da noi vedete signore quando il figlio di dio fu crocefisso e morì sulla croce scese dalla croce andò dritto all'inferno a liberare tutti i peccatori dalle pene e l'inferno si lamentava perché pensava che non sarebbe andato più nessuno lì nessun peccatore allora il signore disse all'inferno non piangere inferno perché da te verranno tutti i potenti della terra i governanti i giudici e i ricconi e sarai pieno di peccatori come è stato nei secoli fino al giorno in cui tornerò io ecco disse proprio queste parole è una leggenda popolare bellissima frusta quello di sinistra andriei così signore avete visto per chi è l'inferno proseguì andriei frustando il cavallo di sinistra ma voi signore siete come un bambino piccolo ecco come vi consideriamo noi e anche se siete irascibile signore e dio vi perdonerà per la vostra ingenuità e tu tu mi perdonerai andriei e che cosa vi dovrai perdonare voi non mi avete fatto niente no tu solo in nome di tutti qui adesso qui sulla strada mi perdoni in nome di tutti parla anima di uomo semplice oh signore ho paura di portarvi là parlate così strano ma mitia non ascoltava e gli stava pregando freneticamente e murmurava selvaggiamente tra sé e sé signore accoglimi nonostante tutto il mio disprezzo per la legge ma non mi giudicare lasciami andare senza sottopormi al tuo giudizio non mi giudicare perché mi sono già giudicato da me oh signore sono abietto ma ti amo se mi manderai all'inferno ti amerò anche là e anche da là urlerò che ti amo nei secoli dei secoli ma lasciami amare fino alla fine qui adesso lasciami amare ancora per queste cinque ore che ci restano prima del tuo raggio ardente perché amo la regina della mia anima la amo e non riesco a non amarla tu leggi chiaramente dentro al mio cuore caro però da lei cadrò ai suoi piedi e le dirò fai bene a passarmi accanto senza fermarti addio e dimentica la tua vittima non ti dare più pensiero a causa mia mokroe gridò Andriei indicando davanti a sé con la frusta attraverso la pallida oscurità della notte le reggò all'improvviso una massa compatta di edifici che si estendevano per un vasto spazio il villaggio di mokroe era di duemila anime ma a quell'ora dormivano tutti e soltanto qua e là brillavano nell'oscurità radi focherelli corri corri Andriei sto arrivando gridò mitia febbrilmente non stanno dormendo disse ad un tratto Andrei indicando con la frusta la locanda dei platzunov che si trovava all'ingresso del villaggio e aveva le sei finestre che davano sulla strada illuminate a giorno non stanno dormendo ripete felice mitia fa rumore Andrei arriva il galoppo fa suonare i campanelli facciamo un gran trambusto arrivando che tutti sappiano che sono arrivato arrivo ecco che arrivo anch'io gridava mitia freneticamente Andrei frustò al galoppo i tre cavalli sfiancati ed arrivò davvero con un gran trambusto all'alta scalinata d'ingresso dove fermò i cavalli fumanti di sudore senza fiato mitia saltò giù dal carro proprio nel momento in cui il padrone della locanda che era andato a dormire stava sbirciando dal terrazzino per vedere chi fosse arrivato a quel modo trifon borisier sei tu il padrone della locanda si piegò guardò attentamente corse giù per le scale rotta di collo e con ossequioso entusiasmo si inchinò al nuovo ospite batiusca dimitri piadrovic quale onore rivedervi qui questo trifon borisier era un contadino florido robusto di media statura con un viso piuttosto grassoccio un aspetto severo e intransigente soprattutto con i contadini di Mocroe ma dotato delle capacità di atteggiare immediatamente la faccia all'espressione più servile quando affiutava di ricavarne un profitto si vestiva alla russa portava la camicia con la bottonatura laterale e la podevka aveva accumulato un bel gruzzoletto ma sognava costantemente di migliorare la propria posizione teneva nelle sue grinfie una buona metà dei contadini e nei dintorni tutti erano in debito con lui dai proprietari tarrieri prendeva in affitto oppure addirittura comprava la terra dove poi faceva lavorare i contadini a pagamento dei debiti che quelli non riuscivano mai a riscattare era vedove e aveva quattro figlie grandi una già vedova viveva con lui e con i nipotini di pochi anni e lavorava a giornata nella sua locanda un'altra era sposata con un impiegato una specie di scrivano che si era accattivato alla benevolenza di qualcuno e sulla parete di una delle camere della locanda si poteva vedere fra le fotografie di famiglia una fotografia in miniatura di quell'impiegatuccio in uniforme con tanto di spalline le due figlie e due figlie più giovani alla festa del patrono oppure quando andavano a far visita indossavano abiti azzurri e verdi cuciti secondo la moda stretti sul di dietro e con lo strascico lungo un metro ma il giorno dopo si svegliavano come tutti gli altri prima dell'alba e con gli scopini di betulla in mano spazzavano le stanze portavano via la sciacquatura dei piatti e toglievano la spazzatura dopo la partenza dei clienti nonostante avesse già accumulato migliaia di rubli Trifon Borisier amava ancora svuotare le tasche dei clienti che cozvigliavano da lui e ricordando che meno di un mese prima nel giro di un giorno e di una notte aveva spillato a Dmitri Fiodolovic durante i suoi bagordi con Grushenka più di 200 ribletti se non 300 anche questa volta lo accolse con gioia e premura dal momento che considerato solo il modo in cui Mitia era arrivato all'ingresso della sua locanda e gli aveva di nuovo fiutato un bel guadagno ma ti uscite a Dmitri Fiodolovic abbiamo l'onore di ospitarvi un'altra volta aspetta Trifon Borisier esordì Mitia prima di tutto la cosa più importante lei dov'è? Agrafena Aleksandrovna capì al volo il locandiere fissando Mitia in faccia sì e qui anche lei sta con chi? con chi? dei clienti forestieri uno deve essere un impiegato un polacco a giudicare dall'accento è stato lui a mandare i cavalli da qui a prenderla l'altro è un suo amico un compagno di viaggio chi lo sa sono in borghese stanno facendo baldoria eh? hanno molto denaro ma che baldoria baldoria? niente di speciale Dmitri Fiodorovic niente di speciale e gli altri chi sono? gli altri vengono dalla città due signori sono di ritorno da Ahern e si sono fermati qui uno quello giovane deve essere parente del signor Miusov solo che ha dimenticato come si chiama e l'altro credo che lo conoscerete è il possidente Maximov dice che è stato in pellegrinaggio lì al vostro monastero e viaggia con quel giovane parente del signor Miusov sono soltanto loro? sì soltanto loro aspetta sta zitto Trifonbris dimmi la cosa più importante dai che fa come sta? beh è arrivata da poco e sta con loro è allegra? ride? no non mi sembra che ride a granché sembra piuttosto annoiata stava pettinando i capelli a quello giovane al polacco all'ufficiale? ma quello non è mica giovane e poi non è nemmeno un ufficiale no signore non ha quello ha quel nipote di Miusov quello giovane solo che ho dimenticato il nome Kalganov proprio lui va bene me la vedo io stanno giocando a carte prima giocavano adesso hanno smesso hanno bevuto il tè l'impiegato ha chiesto dei liquori aspetta Trifonbori si aspetta anima mia me la vedo io adesso risponde alla domanda più importante non ci sono gli zigani gli zigani non stanno più qui Dimitri Fiodorovic le autorità li hanno cacciati ma abbiamo degli ebrai al villaggio che suonano i cemboli e i violini a Natale quelli si potrebbero mandare a chiamare anche adesso verrebbero mandali a chiamare mandali a chiamare subito gridava Mitia e fa alzare le ragazze come la volta scorsa soprattutto Maria e anche Stepanida Rina 200 rubli per il coro per tutti quei soldi ti farò svegliare l'intero villaggio anche se stanno già ronfando ma da fumare i sigari ai villani delle nostre parti come hai fatto tu quelli sono un branco di scellerati puzzolenti e le ragazze tutte quante sono piene di pidocchi ti faccio svegliare le mie ragazze gratis altro che per quella somma si sono appena coricate darò loro un calcio nel fondo schiena e le farò cantare per te l'altra volta hai dato da bere lo champagne ai contadini eh Trifonboriciè stava solo fingendo con passione per mitia quella volta infatti aveva imboscato mezza dozzina di bottiglie di champagne e aveva raccolto da sotto il tavolo una banconota da cento rubli e se l'era stretta nel pugno e lì era rimasta Trifonboriciè ho gettato al vento più di un migliaio di rubli l'altra volta qui ti ricordi? si che li avete gettati al vento caro mio come non ricordarlo ci avete rimesso un tremila rubli forse e anche questa volta sono venuto con la stessa somma vedi? e gli prese sventola proprio sotto il naso del locandiere il suo pacchetto di banconote adesso ascolta e cerca di seguirmi tra un'ora arriveranno il vino gli antipasti il patè i dolci fa portare tutto di sopra quella cassa che Andrea è fa portare pure anche quella subito di sopra aprila e servi subito lo champagne e la cosa più importante sono le ragazze le ragazze e Maria assolutamente si tirò verso il carro e tirò fuori l'astuccio con le pistole da sotto il sedile allora Andrea facciamo i conti eccoti 15 rubli per il trasporto ed eccotene 50 per la vodka per la solerzia e per il tuo affetto ricordati del signor Karamazov ho paura padrone tentano Andrea accetterò se volete darmeli 5 rubli di mancia per il tè ma non prenderò una copeca di più trifonborisiemi è testimone e scusate le mie stupide parole di che cosa hai paura lo squadro da capo a piedi Mitia beh va al diavolo sai così urlò gettandogli addosso 5 rubli adesso trifonborisie portami su zitto zitto e fammi prima dare un'occhiettina a tutti loro ma in modo che quelli non mi vedano dove sono nella camera azzurra trifonborisie guardò Mitia con apprensione ma eseguì ubbidientemente quello che gli veniva ordinato lo condusse pian pianino nell'andito entrò lui da solo nella prima grande camera attigua a quella dove stavano gli ospiti e portò fuori una candela poi introdusse pian pianino Mitia e lo fece mettere in un angolo al buio da lì poteva comodamente osservare quelli che conversavano senza essere visto ma Mitia non restò a guardare a lungo in realtà non riusciva nemmeno a distinguere bene non appena vide lei il cuore cominciò a battergli all'impazzata e la vista gli si annebbiò stava seduta di fianco rispetto al tavolo in una poltrona e sul divano accanto a lei sarà Kalganov un ragazzo delizioso e ancora molto giovane lo teneva per mano e sembrava che ridesse mentre quello come irritato diceva qualcosa ad alta voce senza guardarla a Maximov seduto dall'altra parte del tavolo di fronte a Grushenka anche Maximov rideva della glossa per qualcosa sul divano era seduto lui e al lato del divano su una sedia presso la parete sedeva un altro sconosciuto quello sul divano stava rilassato fumava la pipa e Mitia ebbe l'impressione che fosse un omino grassoccio e dalla faccia larga probabilmente non molto alto e che fosse irritato per qualcosa invece il suo compagno l'altro sconosciuto a Mitia sembrò eccezionalmente alto ma non riuscì a vederlo bene gli mancava respiro non riuscì a resistere un minuto di più poggiò l'astuccia sul comò e si diresse raggelando e con il fiato sospeso dritto nel salotto azzurro dove quelli stavano conversando ah lanciò un urlo di spavento Grushenka che fura prima a vederlo il primo è l'indiscutibile con i suoi lunghi e rapidi passi Mitia puntò dritto verso il tavolo signori esordì a voce alta quasi urlando ma inceppandosi ad ogni parola io va tutto bene non temete esclamò va tutto bene tutto bene e si voltò di colpo verso Grushenka che si era rannicchiata nella poltrona dalla parte di Kalganov aggrappandosi stretta alla mano di quello io anche io sono in viaggio mi trattengo qui fino a domani mattina signori permettete a un viaggiatore di passaggio di rimanere con voi sino a domani mattina solo sino a domani mattina per l'ultima volta in questa stessa camera terminò così il suo discorso rivolgendosi all'omino grassoccio seduto sul divano con la pipa quello si levò la pipa dalle labbra e con aria grave disse in tono severo pane noi siamo qui in privato ci sono altre stanze ma siete voi Dmitri Fiodorovic ma che dite replicò Kalganov all'improvviso accomodatevi qui con noi salve salve caro amico impagabile amico ho sempre avuto stima di voi replicò a sua volta mitia con gioia e sollecitudine torgendogli la mano attraverso il tavolo ah che stretta possente mi avete fracassato le dita scoppiò a ridere Kalganov stringe sempre la mano in quel modo sempre così intervenne allegra Grushenka sorridendo timidamente evidentemente dall'aspetto di mitia si era convinta che quello non intendeva fare scenate però continuava a fissarlo terribilmente incuriosita e ancora con una certa inquietudine c'era qualcosa in lui che la impressionava enormemente e la non si sarebbe mai aspettate che quello entrasse in quel modo in quel momento e si mettesse a parlare così salve signore intervenne languidamente anche il proprietario Maximoff che stava a sinistra e mitia si slanciò anche verso di lui salve anche voi qui come sono felice che ci siate anche voi signori signori io e si rivolse ancora una volta al pan con la pipa evidentemente convinto che fosse la persona più importante lì sono volato sin qui a voi volevo trascorrere l'ultimo giorno e l'ultima mia ora in questa stessa stanza in questa stessa stanza dove ho adorato la mia regina perdonatemi panie gridò freneticamente sono volato sin qui e ho fatto giuramento oh non abbiate paura è la mia ultima notte beviamo panie alla nostra reciproca intesa tra poco serviranno lo champagne e io ho portato questo e chissà per quale ragione in quel momento tiro fuori il suo mucchietto di banconote permettete panie voglio musica chiasso baccano tutto come l'altra volta ma il verme l'inutile verme sparirà strisciando dalla terra e non ci sarà più festeggerò il mio giorno di felicità e la mia ultima notte era quasi sul punto di soffocare voleva dire molte cose molte cose ancora ma gli venivano fuori soltanto esclamazioni strane il pan fissava immobile lui il suo pacchetto di banconote guardava gruschenca ed era palesemente perplesso se la mia crolova lo permette fece per dire ma che significa crolova regina suppongo vero lo interruppe gruschenca bruciapelo mi fa ridere il vostro modo di parlare sediti mitia che cosa ne dici non ci spaventare per favore tu non ci spaventerai vero se non lo farai allora sono felice di vederti io spaventarvi gridò mitia all'improvviso slanciando in alto le braccia ma andate passate pure io non vi ostacolo e a un tratto con gran sorpresa di tutti e certamente anche sua crollò su una sedia e scoppiò in lacrime con la testa girata verso il muro opposto e le braccia avvinghiate allo schienale della sedia come in un abbraccio ma guarda guarda che bel tipo che sei esclamò gruschenca in tono di rimprovero faceva lo stesso quando veniva a trovarmi si metteva a parlare all'improvviso e io non capivo niente e una volta scoppiò persino a piangere e questa è la seconda volta che vergogna ma che hai da piangere come se avesse davvero un motivo per piangere soggiunse con aria sibillina e accentuando con una sorta di irritazione queste sue parole io non piango ecco salve e all'istante si rigirò sulla sedia e scoppiò a ridere non con la sua solita risatina secca e a scatti ma con un'impercettibile risata nervosa prolungata e vibrante ecco che ci risiamo sta allegro sta allegro cercava di persuaderlo Grushenka sono molto felice che tu sia venuto molto felice Mitia hai capito che sono molto felice voglio che stia qui con noi disse in tono imperioso come rivolta a tutti anche se le sue parole erano chiaramente indirizzate all'uomo seduto sul divano lo voglio lo voglio e se lui se ne andrà me ne andrò pure io ecco che vi dico soggiunse con occhi di fuoco quello che comanda la mia regina elegge disse il pan baciando con galanteria la mano di Grushenka invitò il pan a unirsi alla nostra compagnia e si rivolse gentilmente a Mitia Mitia era sul punto di saltar su con la palese intenzione di snocciolare un'altra delle sue tirate ma non gli venivano le parole beviamo panie proruppe invece di fare il discorso e tutti scoppiarono a ridere santo cielo è io che pensavo che volesse parlare ancora esclamò Grushenka nervosa ascolta Mitia continuò con insistenza non ti agitare più ma è carino che tu abbia portato lo champagne anche io ne berrò non posso soffrire i liquori e la cosa migliore è che sia arrivato proprio tu ci annoiavamo a morte sei venuto per far bagordi un'altra volta ma metti in tasca quei soldi dove ne hai presi così tanti Mitia che per tutto quel tempo era rimasto con il mucchietto dei soldi appallottolato nella mano soldi che avevano attratto l'attenzione di tutti soprattutto dei pan si affrettò subito a infilarseli in tasca tutto confuso era avvampato proprio in quel momento il locandiere portò una bottiglia stappata di champagne e dei bicchieri su un vassoio Mitia fece per afferrare la bottiglia ma era così sconcertato che si era dimenticato quello che bisognava fare allora Calganoff gli tolse la bottiglia di mano e versò lo champagne nei bicchieri un'altra un'altra bottiglia gridò Mitia al locandiere e trascurando di far tintinnare il bicchiere del pan che pure aveva solennemente invitato a bere alla loro reciproca intesa si scolò il suo bicchiere senza aspettare nessuno il suo viso si era di colpo trasformato invece dell'espressione tragica e solenne con la quale era entrato ora aveva un'aria puerile sembrava diventato all'improvviso gentile e sottomesso guardava tutti con uno sguardo timido e felice ridacchiava spesso nervosamente con l'aria riconoscente del cagnolino colpevole che i padroni accarezzano e riammettono in casa era come se avesse dimenticato tutto e guardava tutti con un sorriso infantile ed estatico guardava Grushenka ridendo in continuazione e avvicinando sempre più la sedia alla poltrona di lei piano piano aveva preso a sbirciare anche i due pan anche se non si rendeva ancora pienamente conto di loro il pan sul divano lo aveva colpito per il suo portamento dignitoso per il suo accento polacco e soprattutto per la pipa e allora è una buona cosa che fumi la pipa osservò Mitia il viso leggermente inflaccidito di quel pan alle soglie della quarantina con il naso minuto sotto il quale spuntavano due sottilissime baffetti a punta tinti e impudici per il momento non aveva suscitato alcune perplessità in Mitia Mitia non fu nemmeno particolarmente colpito dal malandato parrucchino del pan un prodotto siberiano con tanto di ricciolini stupidissimamente pettinati in avanti sulle tempie vorrà dire che le parrucche vanno così continuava ad osservare con benevolenza l'altro pan invece quello seduto presso la parete più giovane di quello sul divano che guardava tutta la compagnia con aria insolente e provocatoria e ascoltava la conversazione generale con sprezzo silenzioso anche quello colpì Mitia solo per la sua altezza esagerata incredibilmente sproporzionata rispetto a quella del pan sul divano se si alza in piedi sarà alto due metri venne in mente Amitya gli venne pure in mente che quel pan alto con ogni probabilità doveva essere l'amico e lo scagnozzo di quello sul divano una specie di guardia del corpo e che il pan basso quello sul divano sicuramente comandava quello alto ma anche questo Amitya sembrava perfettamente amissibile e indiscutibile e Cagnolino era svanita ogni traccia di rivalità egli non capiva nulla di Grushenka e del tono sibillino di alcune sue frasi capiva soltanto trepidando con tutto il cuore che lei era gentile con lui che lo aveva perdonato e gli permetteva di sedere accanto a lei era astasiato nel vederla assorbire lo champagne dal bicchiere ma ad un tratto fu colpito dal silenzio della compagnia e cominciò a guardarli uno per uno con gli occhi pieni di attesa che stiamo a fare signori qui seduti perché non iniziate a dire qualcosa signori sembrava dire il suo sguardo sorridente ecco lui sta lì che le spara grosse e noi non facevamo che ridere esordia un tratto Calganoff come indovinando i suoi pensieri indicando Maximoff Mitya immediatamente fissò lo sguardo prima su Calganoff poi subito su Maximoff le spara grosse e rideva con la sua risatina secca come rallegrandosi improvvisamente per qualcosa si figuratevi egli afferma che la nostra cavalleria tutta intera negli anni venti ha finito per sposare donne polacche non vi sembra un'assurdità bella e buona vero? donne polacche ripete Mitya completamente estasiato Calganoff comprendeva molto bene l'atteggiamento di Mitya nei confronti di Grushenka aveva intuito la storia del Pan ma tutto questo non lo interessava molto anzi forse non lo interessava affatto ciò che gli interessava più di tutto era Maximoff era capitato per caso da quelle parti in compagnia di Maximoff e aveva incontrato i due Pan lì alla locanda era la prima volta che li vedeva Grushenka invece la conosceva già e una volta era persino andato a trovarla insieme a qualcun altro allora non aveva fatto una buona impressione sulla giovane donna invece adesso e la lo guardava con molta dolcezza prima che arrivasse Mitya lo accarezzava persino ma quello non era rimasto come indifferente era un ragazzo giovane di non più di vent'anni vestito con raffinatezza aveva un visetto bianco molto delicato e dei magnifici capelli folti di un biondo scuro su quel visetto bianco spuntavano due splendidi occhi azzurro chiaro con un'espressione intelligente a volte profonda anche più profonda di quello che ci si sarebbe potuti aspettare da un giovane della sua età sebbene talvolta il giovenotto parlasse e si comportasse proprio come un bambino e non se ne vergognava affatto anche se ne era consapevole in generale era molto strano persino capriccioso ma sempre affabile a volte sul suo viso compariva un'espressione immobile e testarda vi guardava vi ascoltava eppure sembrava che stesse seguendo il corso dei propri pensieri a volte diventava fiacco e pigro altre cominciava ad accitarsi e sovente per motivi molto sciocchi pensate un po' sono quattro giorni che me lo porto dietro proseguì strascicando pigramente le parole senza alcuna affettazione però anzi anzi con un'aria del tutto naturale da quella volta che vostro fratello lo scaraventò fuori della carrozza e lui fece un volo ve lo ricordate presi a interessarmi a lui proprio per quello e lo portai con me in campagna ma adesso non fa che sparare le grosse e io mi vergogno di lui riporterò indietro il pan non ha mai visto pani polacca e dice quello che non può essere osservò il pan con la pipa rivolto a Maximoff il pan con la pipa parlava il russo piuttosto bene o almeno molto meglio di quanto volesse far credere le parole russe quando le usava le storpiava sempre in una forma polacca ma se io stesso sono stato sposato a una donna polacca signore ribatte Maximoff ridacchiando avete forse servito nella cavalleria voi stavate parlando di cavalleria e allora siete forse un cavalleggero si intromisse immediatamente Kaganov sì certo era forse anche lui un cavalleggero gridò Mitia che ascoltava la conversazione con avidità e spostava il suo sguardo interrogativo da uno all'altro degli interlocutori come se si aspettasse di sentire Dio solo sa cosa da ciascuno di loro no signore vedete signore si rivolse a lui Maximoff quello che voglio dire signore è che quelle piccole pani molto carine signore quando ballano la mazzurca con un ostro ulano dopo che una di quelle ha ballato la mazzurca con un ulano quella gli salta subito sulle ginocchia come una gattina signore una gattina bianca e il pan padre e la pani madre vedono tutto e lasciano fare e lasciano fare signore e l'ulano il giorno dopo va a chiedere la mano ecco signore va a chiedere la mano ridacchiò Maximo fa conclusione del suo discorso il pan è un laidac borbottò all'improvviso il pan alto sulla sedia e accavallò una gamba sull'altra Mitia fu colpito soltanto dall'enorme stivale coperto di grasso e dalla spessa suola infangata e in generale tutti e due i pan avevano un aspetto piuttosto sudicio siamo arrivati anche ai laidac come vi permettete di insultare disse ad un tratto Grushenka irritata pani a grippina il pan ha visto in paese polacco solo serve e non pani di buona nascita osservò il pan con la pipa rivolto a Grushenka ci potete scommettere tagliò corto sprezzantemente il pan alto sulla sedia ancora? ma fatelo parlare se ha voglia di parlare perché impedirglielo? almeno ci divertiamo un po' disse Grushenka seccata ma io non glielo impedisco pani ribatté con aria di importanza il pan con il parrucchino soffermandosi con lo sguardo su Grushenka poi rinchiusosi in un dignitoso silenzio cominciò a succhiare la sua pipa ma no ma no il pan ha ragione adesso si infiammò un'altra volta Kalganov come se si stesse discutendo di Dio solo sa quale questione importante se lui non è mai stato in Polonia come fa a parlare della Polonia? non vi siete mica sposati in Polonia voi vero? no signore nel governatorato di Smolensk soltanto che era stato un ulano a portarla in Russia mia moglie voglio dire la futura moglie insieme alla pani madre alle tante e con un'altra parente con un figlio già grande se li era portati dietro dalla Polonia signore per passarli a me era uno dei nostri tenenti un bravo ragazzo all'inizio voleva sposarla lui ma non lo fece perché scoprì che era zoppa così la zoppa ve la siete sposata voi esclamò Kalganov proprio così signore a suo tempo quei due mi hanno un po' ingannato e nascosto le cose io pensavo che lei saltellasse saltellava sempre e pensavo pure che fosse per la contentezza per la felicità di sposarvi si bilò con squillante voce infantile Kalganov sì la signoria proprio così e invece venne fuori che era per tutt'altro motivo poi quando ci sposammo lei la sera stessa del matrimonio mi confessò tutto e mi chiese perdono con molto sentimento mi raccontò che quando era piccola aveva soltanto una pozzanghela e si era fatta male alla gamba Kalganov si lasciò andare alla più infantile delle risate e per poco non cadde sul divano scoppiò a ridere anche Grushenka Mitia era al settimo cielo per la felicità sapete adesso sta dicendo la verità la verità non sta mentendo esclamò Kalganov rivolgendosi a Mitia e sapete è stato sposato due volte adesso stava parlando della prima moglie la seconda moglie invece è fuggita ed è ancora viva lo sapevate questo? ma è proprio vero e Mitia ci girò di scatto verso Maximoff con un'espressione di profondo stupore sì è fuggita signore ho avuto questo dispiacere confermò timidamente Maximoff con un sievo signoria e quel che è peggio già da prima si era fatta intestare per tempo tutto il mio villaggetto tu mi diceva sei un uomo istruito troverai sempre il modo di guadagnare un tozzo di pane e così mi buggerò un venerabile vescovo una volta mi disse hai avuto una moglie zoppa ma l'altra era proprio una gamba lesta ascoltate ascoltate si agitava Kalganov semente e lo fa spesso mente unicamente per far divertire noi non è meschino? sapete a volte gli voglio bene egli è molto meschino ma in modo naturale vero? che ne pensate voi? c'è chi fa il meschino per qualche motivo per trarne un profitto invece lui lo fa per assecondare la sua natura figuratevi un po' e gli afferma per esempio ieri è disquisito su questo per tutto il percorso che Gogol nelle anime morte ha scritto di lui ricordate nel libro si parla di un proprietario Maximoff che era stato fustigato da Nostrev il quale fu condannato per aver arrecato offesa con le verghe al proprietario Maximoff in stato di ubriachezza ve lo ricordate? beh pensate un po' che sostiene di essere lui quel Maximoff che era stato fustigato ma può essere mai il viaggio degli Eikov risale al più tardi agli anni venti ai primi anni venti quindi con il periodo non ci siamo proprio è impossibile che lo abbiano fustigato allora è impossibile impossibile vero? era difficile immaginare il motivo per cui Calganoff si infervolasse tanto ma si infervorava sinceramente e Mitia prese docilmente a cuore l'argomento che lo interessava ma se lo avessero fustigato davvero? gridò ridacchiando non è che mi abbiano proprio fustigato signore ma solo così intervenne ad un tratto Maximoff come così? vi hanno fustigato o no? che c'è ora? il pan con la pipa si rivolse con aria annoiata al pan alto seduto sulla sedia quello per tutta risposta scrollò le spalle entrambi erano senza orologio perché non fare due chiacchiere? che parlino anche gli altri gli altri non dovrebbero parlare solo perché voi vi annoiate? lo aggredì ancora una volta Grushenka con l'evidente intenzione di attaccare Briga qualcosa baluginò per la prima volta nella testa di Mitia questa volta però il polacco rispose con inequivocabile irritazione pani non avere detto Nick contro io non mi sono opposto in alcun modo non ho detto nulla allora va bene raccontaci un po' la tua storia gridò Grushenka rivolta a Maximoff perché ve ne state tutti zitti? non c'è proprio niente da raccontare signora è soltanto una sciocchezza ribatte subito Maximoff con evidente soddisfazione e facendo un po' di smorfie e poi Ngogol è tutto allegorico anche tutti i cognomi li ha messi allegoricamente Nozdrev non era Nozdrev ma Nozhov e Kovsinikov era un nome del tutto diverso era Xvornev mentre Fenardi era proprio Fenardi solo che non era italiano ma russo e Mamselle Fenardi era una ragazza carina con le gambette nella calzamaglia e una gonnellina corta tutta all'ustrini e piroettava certo ma non quattro ore solo quattro minutini e seduceva tutti ma perché ti hanno fustigato allora perché ti hanno fustigato strillò Kalganov per Piron signore rispose Maximoff e chi sarebbe questo Piron gridò Midia il famoso scrittore francese Piron vos signoria ci trovavamo in una numerosa committiva a bere vino in una trattoria durante quella fiera avevano invitato anche me io iniziai con recitare degli epigrammi e tu saresti Boilò ma che abbigliamento ridicolo e Boilò risponde che sta andando a un ballo in maschera cioè al bagno e quelli pensarono che mi riferissi a loro allora mi affrettai a recitarne un altro un altro molto noto a tutte le persone istruite molto caustico vos signoria tu sei saffo e io faone di questo dubbio non vè ma un rammarico cova dentro me la via per il mare tu non sai qual è quelli se la presero ancora di più e cominciarono ad offendermi in maniera sconveniente e io allora per mia disgrazia per aggiustare le cose mi misi a raccontare un aneddoto molto dotto su Piron questi non era stato accettato nell'Accademia di Francia e allora per vendicarsi aveva scritto l'epitaffio per la propria lapide si gite Piron chi ne fu rien pas même accademicien allora mi presero e mi fustigarono ma perché per quale motivo dico io per la mia istruzione basta poco perché la gente si metta a picchiare qualcuno sentenziò l'aconicamente Maximo fin conclusione io ne ho abbastanza è tutto così penoso pensavo che sarebbe stato divertente lo interruppe Grushenka all'improvviso mi ti attrassalì e smise di ridere il pan alto si alzò dal suo posto e con l'aria altezzosa di chi si annoia in un ambiente che non è il suo si mise a camminare da un angolo all'altro della stanza con le mani incrociate dietro alle spalle è quello che si mette a passeggiare disse Grushenka guardandolo con disprezzo Mitia iniziava a preoccuparsi perché aveva notato che il pan sul divano lo guardava con un'espressione irritata pan gridò Mitia beviamo pani eppure con l'altro pan beviamo panovie in un batter d'occhio Mitia mise insieme tre bicchieri e li riempì di champagne allora Polonia panovie bevo alla vostra Polonia alla terra polacca esclamò Mitia mi fa molto piacere signore beviamo disse il pan sul divano con aria grave e benevola e prese il proprio bicchiere e l'altro pan come si chiama eh illustrissimo prendi il bicchiere insistiva Mitia pan Vrublevski suggerì il pan sul divano pan Vrublevski si avvicinò al tavolo con la sua camminata dondolante e prese il suo bicchiere restando in piedi per la Polonia panovie urrà gridò Mitia sollevando il bicchiere bevero tutti e tre Mitia ferrò la bottiglia e riempì immediatamente i tre bicchieri adesso alla Russia panovie fraternizziamo versa anche a noi disse Grushenka alla Russia voglio bere anch'io e anch'io disse Kajganov vorrei anch'io vostra signoria per la dolce Russia la nostra vecchia nonnetta ridacchiò Maximov tutti tutti esclamava Mitia locandiere altre bottiglie portarono tutte e tre le bottiglie avanzate nella cassa che Mitia aveva portato con sé Mitia versò lo champagne per tutti alla Russia urrà annunciò un'altra volta bevero tutti tranne i pan e Grushenka scolò il suo bicchiere tutto d'infiato mentre i panovie non toccarono nemmeno i loro bicchieri come mai panovie esclamò Mitia perché non bevete pan Vrubrevski prese il bicchiere lo sollevò con voce stentoria e disse per la Russia nei confini precedenti al 1772 così sì che va bene gridò l'altro pan e tutti e due si scolarono i bicchieri ma che imbecilli che siete panovie sfuggì a Mitia panie gridarono all'unisono due pan in tono di minaccia attaccando Mitia come una coppia di galletti soprattutto pan Vrubrevski era inferocito si può forse fare a meno di amare il proprio paese proclamò quello tacete non litigate soprattutto niente liti gridò perentoriamente Grushenka e batte con un piede per terra il viso le si era infuocato gli occhi le scintillavano il bicchiere che aveva appena bevuto cominciava a far sentire il suo effetto Mitia si spaventò a morte panovie perdonatemi è stata colpa mia non lo farò più pan Vrubrevski non lo farò più ma sta zitto pure tu sediti ma che stupido che sei Grushenka lo rimperverò con stizza rabbiosa se ne stavano tutti seduti in silenzio si scambiavano occhiate a vicenda signori sono stato io la causa di tutto gli attaccò Mitia incapace di comprendere le parole di Grushenka ma che stiamo a fare qui seduti beh che cosa potremmo fare per divertirci un po' per divertirci ancora infatti non è affatto divertente tutto questo biascicò pigriamente Kalganov e se giocassimo ancora al faraone signori miei come prima gridacchiò all'improvviso Maximov al faraone magnifico colse la palla al barzo Mitia se soltanto i panovie poi no panie ribbricò contro voglia il pan sul divano è vero assentì anche pan vrublevski poi no che cosa vuol dire poi no domandò Grushenka significa tardi pani tardi è ora tarda e spiegò il pan sul divano per lui è sempre tardi per lui per lui non si può mai far niente la voce di Grushenka quasi stridette per la stizza se ne stanno seduti annoiati e vogliono che anche gli altri si annoino prima che tu venissi Mitia se ne stavano zitti e si davano un sacco di alie con me mia dea gridò il pan sul divano come tu dici così sarà vedo che non sei ben disposta e allora mi rattristo sono pronto concluse rivolgendosi a Mitia comincia pure pania lo incalzò Mitia tirando fuori dalla tasca le sue banconote e mettendone sul tavolo due da cento rubli voglio perdere molto con te pan prendi le carte tieni il banco chiederemo le carte al locandiere panie proferì il pan piccoletto con aria grave ed enfatica è il matodo migliore senti pan Vrublevski dal locandiere certo capisco prendiamole dal locandiere avete detto bene panovie carte ordinò Mitia al locandiere questi portò un pacco di carte ancora sigillato e annunciò a Mitia che le ragazze si stavano preparando che gli ebrai con i cembali sarebbero arrivati da lì a poco mentre il carro con le provviste non si era ancora visto Mitia si alzò con un balzo dal tavolo e corse nella stanza attigua per dare immediate disposizioni ma delle ragazze ne erano arrivate soltanto tre e Maria non c'era ancora e poi neanche lui sapeva che disposizioni dare e perché mai era corso lì ordinò soltanto che prendessero i dolcetti dalla cassa le caramelle i fondat e li distribuissero alle ragazze la vodka ad Andriei si affrettò ad ordinare mi sono comportato male con lui in quel momento si sentì toccare una spalla era Maximoff che gli era corso dietro datemi cinque rubli sussurrò a Mitia anche io vorrei rischiare qualcosina al faraone benissimo magnifico prendetene dieci ecco tira fuori un'altra volta tutte le banconote dalla tasca e ne cercò una da dieci rubli e se perdi vieni ancora vieni ancora va bene signore sussurrò il raggiante Maximoff e corse nella stanza dagli altri tornò subito anche Dimitri e si scusò di averli fatti aspettare i pan si erano già seduti e avevano dissigillato il mazzo di carte sembravano molto più alfabili quasi cordiali il pan sul divano si era rimesso a fumare la sua pipa e teneva il banco una certa aria di solennità gli era affiorata sul viso ai vostri posti panovie annunciò pan vrublevski no non giocherà più disse Calganoff da parte sua prima ho perso 50 rubli il pan è stato nietzso e livi ma il pan può essere ancora scesco livi e scramò il pan sul divano del canto suo quant'è il banco? sino a che cifra risponde? domandò Amitya infervorandosi ai vostri ordini panie può essere 100 può 200 quanto volete puntare? un milione ridacchiò Amitya il pan capitano avrà forse sentito parlare di pan Podvizoski quale Podvizoski? a Varsavia c'è un banco e chiunque può andare a puntare quello che vuole arriva Podvizoski vede un migliaio di zoti e punta banco non mal banco dice panie Podvizoski puntate loro o sull'honor? sull'honor panie risponde Podvizoski così molto meglio panie il banco fa carte Podvizoski prende mille zoti aspetta panie dice l'uomo al banco apre il cassetto e dai il milione prendi panie otto gest voi ecco il tuo conto il banco era di un milione io non lo sapevo dice Podvizoski panie Podvizoski dice il banco tu hai puntato sull'honor e anche noi paghiamo sull'honor Podvizoski prese il suo milione non è vero disse Kalganov panie e Kalganov in una compagnia di genti uomini non si parla così come se un baro polacco darebbe mai un milione gridò Mitia ma si controllò immediatamente scusatemi panie è colpa mia è di nuovo colpa mia lo darebbe lo darebbe un milione sull'honor sull'honore polacco hai visto che parlo anche in polacco? ecco punto dieci rubli ma si sul fante e io un rubletto sulla regginetta la regginetta di cuori su una bella panenoica gridò Maximoff tirando fuori la sua regina e come a volerla nascondere dalla vista altrui si esporse direttamente sul tavolo e si fece in fretta e furia il segno della croce sotto il tavolo vinse Mitia vinse anche il rubletto angolo gridò Mitia mentre io punto ancora un rubletto una puntata singola una semplice puntatina singola mormorò Beato Maximoff estagiato per aver vinto il suo rubletto perduto gridò Mitia punto sul sette al raddoppio lo vissero anche sul raddoppio smettetela disse ad un tratto Kaiganov raddoppio raddoppio raddoppiava le puntate Mitia e ogni volta che puntava al raddoppio perdeva mentre le puntate da un rublo continuavano a vincere raddoppio rugì Mitia a dirato avete perso duecento panie volete puntarne ancora duecento si informò il pan sul divano come? ne ha persi già duecento allora altri duecento tutti e duecento al raddoppio e tirati fuori i soldi dalla tasca Mitia fece per puntare duecento rubli sulla regina quando di colpo Kaiganov gliela coprì con la mano basta gridò con la sua voce squillante ma che fate? e Mitia lo fissò dritto negli occhi basta non voglio non giocherete più e perché? perché sì piantatela e venite via ecco non vi farò più giocare Mitia lo guardava attonito lascia stare Mitia forse ha ragione lui hai già perso un mucchio di soldi ribadì Grushenka con uno strano tono di voce entrambi i pan si erano alzati all'improvviso dai loro posti con un'aria terribilmente offesa stai scherzando stai scherzando panie disse il pan piccoletto guardando severamente Kaiganov come osate fare questo? rugì il pan Vrubleski e rivolto a Kaiganov non vi permettete non vi permettete di urlare gridò Grushenka ma senti questi tacchini Mitia guardava ora l'uno ora l'altro ma qualcosa nel viso di Grushenka lo colpì all'improvviso e in quello stesso istante qualcosa di completamente nuovo gli balenò alla mente un nuovo strano pensiero pane a grippina fece per esordire il pan piccoletto tutto rosso dalla rabbia ma ad un tanto Mitia avvicinandosi a lui gli dette un colpetto sulla spalla illustrissimo potrei dirvi due parole? che vuoi? in quella stanza in quel pocoi ti dirò due buone paroline le migliori che ci siano rimarrai soddisfatto il pan piccoletto si meravigliò e guardò timorosamente Mitia comunque accondiscese immediatamente ma a patto che anche Pan Vrubleski andasse con lui è la guardia del corpo vero? e che ci sia anche lui anche lui mi serve anzi è quasi indispensabile che ci sia esclamò Mitia Mars! Panovie! dove state andando? domandò all'armata Grushenka torniamo in un minuto rispose Mitia una specie di audacia una nuova inattesa vivacità brillava nel volto di lui con tutt'altra faccia era entrato in quella stanza un'ora prima e gli condusse i pan nella stanza a destra non in quella grande dove si stava preparando il coro della ragazza e si stava imbandendo la tavola ma in una camera da letto nella quale si trovavano bauli, valigie e due grossi letti con una montagna di cuscini di indiano su ciascuno di essi in un angolo c'era anche una candela che ardeva su un tavolino di legno il pan e Mitia si sedettero proprio a quel tavolino uno di fronte all'altro mentre l'enorme pan rubleschi stava di fianco a loro con le mani dietro alla schiena i pan avevano lo sguardo severo ma erano palesemente incuriositi in che modo posso esservi utile? balbettò il pan piccoletto ecco in che cosa non starà qui a parlare molto eccoti i soldi e ti la fuori le sue banconote se vuoi 3000 rubli prendili e va dove sai il pan lo fissava con alia scrutatrice con tanto d'occhi come se volesse penetrare con lo sguardo nel viso di Mitia zi zi nisce il panie e scambiò un'occhiata con rubleschi zi panovio zi ascolta panie vedo che sei un uomo giudizioso prendi 3000 rubli e vattene al diavolo e portati pure rubleschi mi senti? ma subito in questo stesso istante e per sempre capisci pane? per sempre ed esci direttamente da quella porta che cosa hai di là? il cappotto? la pelliccia? ti porto tutto io facciamo attaccare i cavalli immediatamente e dove zeni panie? ah che ne dici? Mitia aspettava una risposta sicura di sé non aveva il minimo dubbio una espressione estremamente risoluta si leggeva sulla faccia del pan e i rubli? panie? per i rubli faremo così 500 rubli adesso per il viaggio e come caparra e 2500 domani in città vi giuro sul mio onore che li avrete dovessi andarli a prendere sotto terra grida Mitia i palacchi si scambiarono nuovamente un'occhiata il viso di piccoletto sembrava cambiare in peggio 700 700 e non 500 adesso in questo momento sull'unghia aggiunse Mitia che non prevedeva niente di buono che hai pan? non mi credi? non vorrai che ti dia tutti e 3000 e rubli immediatamente se te li do tu torni da lei domani stesso e poi adesso in questo momento non ho con me l'intera somma ce l'ho a casa balbettava Mitia impaurito e perdendo coraggio di parola in parola quanto è vero il dio ce li ho nascosti per un istante uno straordinario senso di dignità ragione il viso del pan piccoletto e non vuole nient'altro? domandò ironicamente pfè a pfè che vergogna e sputò sputò anche pan vrublevski sputi così panie disse Mitia disperato capendo che ormai tutto era perduto perché pensi che potrai spillare di più da grushenka siete un bel paio di capponi ecco che cosa siete sono offeso a morte il pan piccoletto era rosso come un gambero e bruscamente terribilmente indignato uscì dalla camera con l'intenzione di non sentire più una parola lo seguì anche vrubleski dondolando e dietro i due e anche Mitia confuso e sbigottito e gli temeva la reazione di grushenka prevedendo che il pan avrebbe immediatamente suscitato un vespaio e infatti fu così il pan entrò nella stanza e si parò davanti a grushenka in maniera teatrale pani agrippina yes and do i vego kodoknieti fece per esclamare ma all'improvviso grushenka sembra aver perso completamente la pazienza come se fosse stata punta sul vivo in russo parla in russo che non ci sia nemmeno una parola di polacco gli gridò eppure prima parlavi in russo che in cinque anni te ne sei dimenticato era tutta rossa per la rabbia pani agrippina sono agrafena sono grushenka parla in russo altrimenti non voglio ascoltarti il pan sbuffò ferito nel suo honor e pronunciando malamente il russo disse rapidamente e pomposamente la seguente frase pani agrafena sono venuto per dimenticare il passato e perdonarlo dimenticare che cosa è avvenuto sino ad oggi come perdonare tu sei venuto a perdonare me lo interruppe grushenka trasalendo proprio così non sono pusillanime sono magnanimo mi sono meravigliato quando ho visto i tuoi amanti pan mitia in quella stanza voleva darmi zri zi zè per farmi andar via io gli ho sputato in faccia come? ti ha offerto dei soldi per me? gridò istericamente grushenka è vero mitia ma come hai osato sono forse in vendita panie panie sibilò mitia e la è pure luminosa e io non sono mai stato il suo amante è una menzogna come osi difendere me davanti a lui strillò grushenka non sono rimasta pura per virtù e neanche perché avevo paura di kuzma ma per essere fiera davanti a lui e per avere il diritto di dirgli che è un mascalzone quando l'avessi incontrato e tu hai davvero rifiutato il denaro ma lui l'ha accettato l'ha accettato gridò mitia solo che voleva 3000 rubli tutti di colpo mentre io gli offrivo solamente una caparra di 700 capisco ha saputo che ho del denaro ecco perché è venuto a sposarmi pania grippina si mise a urlare il pan io sono un cavaliere io sono un gentiluomo e non un laidac sono venuto a prenderti in moglie ma vedo una pane diversa non quella di prima ma capricciosa e senza pudore allora torna tenendo dove sei venuto ordinerò di cacciarti via immediatamente e ti cacceranno gridò grushenka furiosa che sciocca che sciocca sono stata a tormentarmi per cinque anni e non è stato affatto per lui che mi sono tormentata ma per il mio rancore e lui non è affatto quello che pensavo era forse così prima potrebbe essere il padre di quello che era una volta dove l'avrà pescata una parrucca come quella quello era un falco questo è un anatroccolo quello rideva e mi cantava canzoni e io e io che per cinque anni ho pianto tutte le mie lacrime che maledetta sciocca vila e svergognata e la ricadde sulla poltrona e si coprì il volto con le mani in quel momento dall'altra stanza a sinistra si udì il coro della ragazza di Mocro che si era finalmente riunito e stava cantando una vorticosa canzone da ballo togesso dom ruggì pan vrubleschi improvvisamente locandiere caccia quelle svergognate il locandiere che stava spiando già da un pezzo incuriosito attraverso la porta sentendo quell'urlo e fiutando che gli ospiti avevano litigato comparve subito nella stanza tu che urli a fare vuoi squarciarti la gola disse rivolgendosi a vrubleschi con una scortesia addirittura incomprensibile animale sbraitò pan vrubleschi animale e tu con quali carte giocavi poco fa io te ne ho dato un mazzo e tu le hai nascoste hai giocato con carte truccate posso mandarti in Siberia per aver giocato con carte truccate lo sai questo perché è come spacciare denaro falso e avvicinatosi al divano egli infilò le dita fra lo schienale e il cuscino del divano e tirò fuori da lì un pacco di carte ancora sigillato ecco il mio mazzo ancora sigillato lo sollevò e lo mostrò a tutti dal punto in cui mi trovavo ho potuto vedere come ha infilato il mio mazzo nella fessura e l'ha sostituito con il suo sai un baro e non un pan e io ho visto quel pan che brava due volte gridò Kalganov ah che vergogna che vergogna esclamò Grushenka battendo le mani arrossendo davvero per la vergogna mio dio che uomo è diventato che uomo è diventato ci avevo pensato anch'io gridò Mitia ma non fece in tempo a finire che il pan Vrublesky confuso e infuriato si rivolse a Grushenka e le gridò minacciandola con il pugno donna pubblica ma non fece in tempo a finire che Mitia si scagliò su di lui lo strinse con entrambe le braccia e lo sollevò in alto e in un batter d'occhio lo portò fuori nella stanza di destra in quella stessa dove aveva condotto entrambi poco prima l'ho poggiato sul pavimento di là annunciò tornando immediatamente trafelato dall'agitazione si contorcia il malandrino ma non tornerà non temete e gli chiuse un'anta della porta e tenendo l'altra spalancata gridò al pan piccoletto illustrissimo non vorreste accomodarvi di là anche voi? Batyushka Midei Piodorovi esclamò Trifon Borisier fatti dare indietro i soldi che hai perso con loro è come se te li avessero rubati io non voglio indietro i miei 50 rubli dichiarò da un tratto Kalganov e neanche io voglio i miei 200 rubli esclamò Mitia non li prenderò per nulla al mondo che restino a lui a mo' di consolazione bravo Mitia sei in gamba Mitia gridò Grushenka e una nota di perfidia incontenibile risuonò nella sua voce il pan piccoletto paonazzo dalla rabbia senza però aver perso un granello della propria aria dignitosa fece per avviarsi alla porta ma si fermò e disse all'improvviso rivolgendosi a Grushenka signora se volete vuoi venire con me andiamo altrimenti addio e con aria grave sbuffando per l'indignazione e la vanagloria si dirasse verso la porta era un uomo di polso aveva una tale opinione di se stesso che dopo tutto quello che era successo non perdeva la speranza che la pani l'avrebbe seguito Mitia sbatté la porta dietro di lui chiudete a chiave disse Kalganov ma si udì lo scatto della chiave dalla loro parte si erano chiusi da soli ben fatto gridò nuovamente Grushenka stizzosa e spietata ben fatto così imparano delirio quella che seguì fu quasi un'orgia un banchetto al quale tutti erano ben accetti Grushenka fu la prima a gridare che le versassero da bere voglio bere voglio bere sino ad ubriacarmi come l'altra volta ricordi Mitia ricordi come abbiamo fatto amicizia qui l'altra volta Mitia da parte sua sembrava in preda al delirio e aveva il presentimento della propria felicità Grushenka Grushenka però lo allontanava di continuo da sé bah divertiti di loro che ballino che tutti si divertano muoviti izba muoviti stufa come l'altra volta come l'altra volta continuava a incitare era incredibilmente eccitata e Mitia si precipitava a dare disposizioni il coro si era riunito nella stanza attigua la stanza dove erano stati sino a quel momento era angusta e per di più divisa a metà da una tendina di cotone dietro la quale era collocato un enorme letto con materasso di piume e una pila di cuscini di indiana come nell'altra stanza nel resto in tutte e quattro le stanze pulite della casa c'erano dei letti Lushenka si sistemò proprio all'ingresso Mitia le aveva portato una poltrona era lo stesso posto di allora del giorno della loro prima baldoria e da quella postazione guardava il coro e le danze si erano riunite le stesse ragazze dell'altra volta erano arrivati anche gli ebrei con i violini e le cetre e finalmente era arrivato anche il carro tanto atteso con le bevande e le provviste Mitia si dava un grande affare nella stanza entravano a dare un'occhiata anche degli estranei contadini e contadine che stavano già dormendo ma che si erano svegliati a tratti dalla prospettiva di un meraviglioso rinfresco come quello di un mese prima Mitia salutava e abbracciava quelli che conosceva si ricordava di questo e di quello stappava le bottiglie e versava da bere a tutti quelli che gli capitavano lo champagne se lo divoravano con gli occhi solo le ragazze mentre gli uomini preferivano il rum il cognac e soprattutto il punch caldo Mitia ordinò che si preparasse la cioccolata calda per tutte le ragazze e che si tenessero a bollire tre samovar per tutta la notte in modo che chiunque arrivasse potesse trovare tè e punch pronti chiunque poteva servirsi da solo per farla breve venne fuori un'assurda e caotica confusione ma Mitia si sentiva come nel proprio elemento e più caotica si faceva l'atmosfera tanto più allegro diventava lui se in quel momento un contadino qualsiasi gli avesse chiesto del denaro egli avrebbe tirato fuori tutto il suo mucchietto e avrebbe cominciato a distribuire soldi a destra e a manca senza ritegno ecco perché probabilmente il proprietario Trifon Borisier non faceva che gironzolargli attorno senza posa proprio per sorvegliarlo egli sembrava aver rinunciato all'idea di coricarsi quella notte tuttavia aveva bevuto poco aveva assaggiato soltanto un bicchierino di punch e al suo modo vigilava attentamente sugli interessi di Mitia all'occorrenza egli lo fermava con gentilezza e servilismo e lo convinceva a non distribuire come allora ai contadini sigari e vino del reno e soprattutto soldi Dio ce ne scampi ed era anche molto indignato che le ragazze bevessero liquori e mangiassero dolci sono solo un branco di pidocchiose Mitri Fiodorovic diceva io a quelle le prendo a calci una per una e gli ordino pure di considerarlo un onore ecco che razza di gentaglia sono Mitia si ricordò un'altra volta di Andriei e ordinò che gli venisse portato del punch poco fa l'ho offeso ripeteva con voce fiocca e con mossa Kalganov sulle prime non voleva bere e il coro della ragazza lo lasciava indifferente ma poi dopo un paio di coppe di champagne diventò straordinariamente allegro andava avanti e indietro per la sala rideva e lodava tutti anche le canzoni e la musica Maximoff beato e alticcio non lo abbandonava un attimo Grushenka anche lei sul punto di uriacarsi indicava Kalganov a Mitia dicendo che caro meraviglioso ragazzo Mitia entusiasta correva a baciare sia Kalganov che Maximoff oh e gli aveva molte speranze eppure ella non gli aveva detto ancora nulla anzi sembrava quasi che si trattenesse di parlare ma ogni tanto lo guardava con gli occhi dolci e appassionati finalmente ella gli afferrò la mano e la trasse forte a sé in quel momento stava seduta nella poltrona accanto alla porta come sei entrato prima in che modo sei entrato io mi sono così spaventata così volevi lasciarmi a lui lo volevi davvero non volevo rovinare la tua felicità e babbettava Mitia estasiato ma lei non aveva bisogno delle sue risposte ma va divertiti lo cacciava un'altra volta e non piangere ti chiamerò ancora e lui correva via mentre lei si rimetteva ad ascoltare le canzoni e a guardare la danza seguendolo con lo sguardo per vedere dove era ma dopo un quarto d'ora lo richiamava a sé e lui correva di nuovo beh adesso si editi accanto a me racconta come hai fatto a sapere che ero venuta qui da chi lo hai saputo per primo e Mitia si mise a raccontarle ogni cosa ma in maniera sconnessa disordinata febbrile e stranamente mentre raccontava spesso gli capitava di accigliarsi e fermarsi di colpo perché ti accigli gli domandava lei niente ho lasciato uno che stava male darei dieci anni della mia vita in questo momento se lui potesse guarire per sapere che lui guarirà beh sei malato che Dio lo protegga così volevi spararti domani ma che sciocco e a che scopo mi piacciono i tipi sconsiderati come te balbettava con lingua che le diventava pesante così per me affronteresti tutto eh ma è proprio vero che volevi spararti sciocchino no aspetta un poco forse domani ti dirò una parolina non te la dirò oggi ma domani tu vorresti che te la dicessi oggi no oggi non voglio beh adesso va va divertiti una volta tuttavia lo chiamò piuttosto perplessa e preoccupata perché sei triste vedo che sei triste sì lo vedo soggiunse scrutando attentamente negli occhi di lui anche se te ne stai lì a baciare i contadini e strepiti io vedo che c'è qualcosa su divertiti io mi diverto divertiti anche tu qui c'è qualcuno che amo indovina chi è guarda il mio ragazzo si è addormentato povero caro si è ubriacato stava parlando di Kalganov quello infatti si era davvero ubriacato e si era addormentato in un batter d'occhio seduto sul divano come era e non si era addormentato solo per la sbronza ma all'improvviso per qualche ragione si era sentito triste o meglio come diceva lui annoiato lo avevano rattristato anche le canzoni delle ragazze che verso la fine man mano che si beveva diventavano un po' troppo volgari e licenziose eppure le loro danze due ragazze si erano vestite da orso e Stepanida una ragazza vivace con un bastoncino in mano recitava la parte dell'ammaestratore e si metteva a dargli una lezione più svelta Maria gridava altrimenti ti faccio assaggiare il bastone gli orsi alla fine si arrotolarono sul pavimento in maniera ormai indecente tra le risate sguagliate della folla di contadini e contadine che si accalcava tutto intorno lasciali fare lasciali fare diceva Grushenka in tono sentenzioso con un'espressione estatica sul viso quando mai gli capita un giorno per divertirsi e perché mai non dovrebbero stare allegri ma calgano faveva l'aria di chi si è insudiciato con qualcosa sono tutte bestialità queste usanze popolari commentò mentre andava via come i giochi di primavera quando custodiscono il sole per tutta la notte del solstizio ma gli era riuscita sgradita soprattutto una canzoncina nuova dal vivace motivetto ballabile che parlava di come un padrone andava in giro ad interrogare le ragazze il padrone interrogava le ragazze per sapere se lo amavano o no ma alle ragazze sembrava che non si potesse amare il padrone il padrone forte mi picchierà ma il mio amore non avrà poi arriva uno zicano ma pronunciavano zigano lo zigano interrogava le ragazze per sapere se lo amavano o no ma a quelle sembrava che non si potesse amare neanche lo zigano lo zigano ruberà e soffrire mi farà e così ne passavano molti di uomini che interrogavano le ragazze persino un soldato un soldato interrogava le ragazze per sapere se le ragazze lo amavano o no ma anche il soldato era spinto con disprezzo il soldato lo zaino porterà e io di dietro a quel punto seguiva un verso molto licenzioso che le ragazze cantavano con assoluta franchezza e che faceva furore fra gli spettatori la canzoncina finiva poi con un mercante un mercantuccio interrogava le ragazze per sapere se le ragazze lo amavano o no e risultava che questi aveva conquistato il loro amore considerato che il mercantuccio si arricchirà e sua regina mi farà Calganoff era decisamente indignato ma questa è una canzone ormai superata osservò a voce alta chi è che compone roba del genere ci mancava solo che un ferroviere o un ebreo si mettesse a interrogare le ragazze e avrebbe sbaragliato tutti e come se avesse subito un'offesa personale aveva dichiarato che si stava annoiando si era seduto sul divano e si era assopito immediatamente il suo bel visetto era leggermente impallidito reclinato sul cuscino del divano guarda com'è carino diceva Grushenka conducendo miti accanto a lui poco fa gli ravvivavo la testolina ai capelli proprio come il lino e folti e inchinatasi verso di lui tutta intenerita gli dette un bacio sulla fronte Calganoff aprì immediatamente gli occhi la sbirciò si alzò e con faccia preoccupatissima le domandò dove fosse Maximoff ecco chi vuole lui scoppiò a ridere Grushenka ma resta un po' seduto qui con me mitia tu corri a cercare il suo Maximoff risultò che Maximoff non riusciva a staccarsi dalle ragazze se non percorrere di tanto in tanto a versarsi un bicchierino di liquore mentre di cioccolata ne aveva già bevute due tazze aveva la faccetta rossa e il naso di porpora gli occhi erano umidi e languidi egli si avvicinò e annunciò che con l'accompagnamento di un certo motivetto avrebbe danzato una sabottiere quando ero piccolo mi hanno insegnato tutte queste danze aristocratiche da persona per bene signore su va va con lui Mitya mentre io guarderò da qui come danza allora vado anch'io vado anche io a guardare esclamò Kalganoff respingendo dal più infantile dei modi la proposta di Grushenka di stare seduto accanto a lei e tutti andarono a guardare Maximoff esegui per davvero il suo balletto che non suscitò in nessuno tranne che in Mitya un particolare entusiasmo il suo balletto consisteva semplicemente nel saltare ripetutamente scalciando i piedi verso i lati con le suole in alto e ad ogni salto Maximoff colpiva la suola con il palmo a Kalganoff non piacque affatto mentre Mitya baciò persino il ballerino beh grazie sarai stanco stai guardando da questa parte vuoi un dolcino eh forse vuoi un sigarino una sigaretta vostra signoria non hai voglia di bere prenderei un licorino ma non avreste dei cioccolatini signore ma se ce n'è un mucchio intero sul tavolo scegli quello che vuoi anima mia signore a me piacciono quelli alla vaniglia che vanno bene per i vecchietti signore no fratello di così speciali non ce ne sono ascoltate e il vecchietto si piegò vicino vicino all'orecchio di Mitya quella ragazza la Mariusca vostra signoria come potrei se è possibile fare conoscenza con lei per bontà vostra ma vedi che ti è saltato in mente no fratello stai vaneggiando ma io non faccio niente di male a nessuno signore mormorò Maximoff con aria afflita beh va bene va bene qui fratello cantano e ballano soltanto ma del resto al diavolo aspetta mangia adesso riempiti la pancia bevi e divertiti hai bisogno di soldi più tardi forse sorrise Maximoff va bene va bene Mitya aveva la testa in fiamme uscì dall'andito e salì sulla balconata di legno del piano di sopra che cingeva dall'interno buona parte dell'edificio dalla parte del cortile l'aria fresca lo ravvivò stava da solo al buio in un cantuccio e ad un tratto si averrò la testa fra le mani i pensieri sparpagliati nella sua mente si unirono all'improvviso le sensazioni si fusero in un tutt'uno e il tutto gettava una luce improvvisa una luce terribile orripilante se devo spararmi perché non farlo adesso mi passò per la mente potrei fare un salto a prendere le pistole portarli qui e farla finita in questo stesso buco lurido e buio rimase nell'indecisione quasi per un minuto poco prima quando volava verso Macroe lasciava dietro le spalle l'infamia il furto compiuto ormai perpetrato da lui e quel sangue quel sangue ma allora era tutto più facile molto più facile perché allora era tutto finito l'aveva perduta aveva rinunciato a lei e la era morta per lui ora scomparsa la sentenza di morta era più facile per lui o almeno gli era sembrata immutabile necessaria infatti che cosa gli rimaneva ancora al mondo ma adesso adesso era forse come prima adesso almeno con un fantasma con un mostro spaventoso era finita l'uomo del suo passato l'uomo indiscutibile l'uomo fatale nella vita di lei si era dileguato senza lasciare traccia quel fantasma terribile si era all'improvviso trasformato in qualcosa di piccolo di comico lo avevano trasportato a braccia in camera da letto e lo avevano chiuso a chiave non sarebbe tornata mai più lei ne provava vergogna e si leggeva ormai chiaramente dai suoi occhi chi amava adesso ecco proprio ora avrebbe dovuto vivere ma vivere non poteva non poteva maledizione dio mio restituisci la vita all'uomo che ho abbattuto vicino allo steccato allontana da me questo calice tu che hai compiuto miracoli per peccatori come me e se il vecchio fosse vivo allora potrai cancellare anche l'altra infamia restituire i soldi rubati dall'indietro dovessi scovarli sotto terra non rimarrebbero tracce dell'infamia tranne che nel mio cuore per sempre ma no no sono solo sogni pusillanimi e irrealizzabili oh maledizione tuttavia un raggio di luminosa speranza lo illuminava in quel buio egli si staccò rapidamente dal suo cantuccio e corse nella stanza da lei di nuovo da lei da colei che per sempre sarebbe stata la sua regina un'ora sola un solo minuto del suo amore non valgono forse il resto della vita seppure fra le pene dell'infamia questa folle domanda gli germì il cuore da lei da lei sola guardare lei ascoltare lei e non pensare a niente dimenticare tutto anche se solo per questa notte per un'ora per un istante prima di entrare nell'andito quando si trovava ancora sulla balconata si imbatté nel locandiere Trifon-Borisier questi gli era sembrato cupo e preoccupato e gli era parso che stesse cercando lui che hai Borisier? stavi cercando me? no signore non voi il locandiere sembrava sconcertato perché dovrei cercare voi? ma voi dove siete stato signore? perché sei così cupo? non sarai mica arrabbiato? ancora un po' di pazienza e potrai andare a letto che ora è? saranno le tre forse anche le quattro adesso finiamo adesso finiamo ma fate pure non mi date alcun fastidio signore continuate pure finché vi pare ma che cos'ha? saltò in mente Amitya ed entrò in tutta fretta nella sala dove stavano danzando le ragazze ma lei non era lì non era nemmeno nella stanza azzurra c'era soltanto Kaiganov che sonnecchiava sul divano Amitya sbirciò dietro la tenda e lei era lì era seduta in un angolo su un baule china in avanti con la testa e le braccia stese sul letto di fianco piangeva amaramente trattenendo i singhiozzi come meglio poteva per non farsi sentire nel vedere Amitya lo invitò ad avvicinarsi e quando quello gli fu corso vicino lei gli afferrò forte la mano Amitya Amitya io lo amavo lo sai prese a parlargli in un sussurro l'ho amato tanto per tutti e cinque questi anni per tutto tutto questo tempo ma amavo lui o il mio rancore no lui o proprio lui io mento quando dico che amavo solo il mio rancore e non lui Amitya io avevo solo diciassette anni allora lui era così gentile così divertente con me mi cantava le canzoni oppure così sembrava quella sciocca bambina che ero mentre adesso Dio mio non è più lui è completamente diverso anche il viso non è più lui è diverso non l'ho riconosciuto nemmeno dalla faccia mentre venivo qui con Timofiei non ho fatto che pensare pensare per tutto il percorso quando lo incontrerò che cosa gli dirò come ci guarderemo l'un l'altro mi sentivo morire e quando l'ho visto è stato come se mi avessero gettato una secchiata d'acqua sporca addosso parlava come un maestro di scuola così forbito grave la sua accoglienza è stata così compassata che mi sono sentita perduta non riuscivo ad aprir bocca all'inizio ho pensato che si vergognasse di parlare davanti a quel suo polacco spilungone mi siedo riguardo e penso perché adesso non so più che cosa dirgli sai è stata sua moglie a rovinarlo la donna per la quale mi ha abbandonato e che poi ha sposato è stata lei a trasformarlo così Mitia che vergogna oh Mitia mi vergogno e mi vergognerò per tutta la vita che siano maledetti maledetti questi cinque anni maledetti e scoppiò di nuovo a piangere ma non lasciava la mano di Mitia la teneva stretta fra le sue Mitia caro aspetta non andare via voglio dirti una parolina gli sussurrò e sollevò l'improvviso il viso verso di lui ascoltami dimmi chi amo io io amo una persona che si trova qui chi è questa persona dimmelo tu sul suo viso gonfio di pianto raggiò un sorriso gli occhi le brillavano nella penombra poco fa è entrato un falco e io ho avuto un tuffo al cuore sciocca che non sei altro ecco l'uomo che ami questo mi ha sussurrato subito il cuore ma perché ha paura pensavo perché tu eri impaurito impaurito da morire e non riuscivi a parlare non è di loro che hai paura pensavo può forse farti paura qualcuno era di me che avevi paura pensavo soltanto di me così Fenea ti ha raccontato scioccarello che ad agli oscia avevo gridato dalla finestra che ho amato Mitienka per un'oretta mentre in quel momento stavo andando ad amare quell'altro Mitia come ho potuto stupida che non sono altro pensare di poter amare qualcuno dopo di te mi perdoni Mitia mi perdoni oppure no mi ami mi ami e la balzò in piedi e lo afferrò per le spalle con entrambe le mani Mitia mutolita per la felicità guardava ai suoi occhi il suo viso il suo sorriso e ad un tratto stringendole in un forte abbraccio si mise a coprirla di baci mi perdoni per averti tormentato vi ho tormentati tutti a causa del mio rancore per rabbia ho fatto uscire di senno quel vecchiaccio di proposito ti ricordi di quella volta che stavi bevendo a casa mia e hai rotto il bicchiere l'ha tenuto a mente e oggi anch'io ho rotto un bicchiere bevendo alla salute del mio vile cuore Mitia mio falco perché non mi baci mi hai baciato una volta e poi ti sei tirato indietro e stai lì a guardarmi ad ascoltarmi a che serve ascoltarmi? baciami baciami più forte ecco così se mi ami allora amami da ora in poi sarò la tua schiava schiava per tutta la vita è dolce essere schiava baciami picchiami tormentami fa di me quello che vuoi oh io ho merito di soffrire ferma aspetta più tardi non voglio così e non respissa all'improvviso va via Mitia tra un po' verrò a bere del vino voglio ubriacarmi adesso voglio ubriacarmi e ballare lo voglio lo voglio e la si strappò dal suo abbraccio e scomparve dietro la tenda Mitia la seguì come ubriaco ma sì che accada quel che accada per un solo minuto darai il mondo intero gli balenò nella mente Ruschenka scolò davvero tutto ad un fiato un'intera coppa di champagne e si sentì subito molto brilla affondò nella poltrona al posto di prima con un sorriso beato aveva le guance in fiamme le labbra infuocate gli occhi splendenti e velati il suo sguardo appassionato era un richiamo persino Calganoff avvertì una stretta al cuore e si avvicinò a lei ti sei accorto che poco fa ti ho baciato mentre dormivi gli disse belbettando adesso mi sono ubriacata ecco e tu non sei ubriaco e Mitia perché non beve perché non bevi Mitia io sono ubriaca e tu non bevi ubriaco io sono così ubriaco ubriaco di te ma adesso voglio ubriacarmi anche di champagne e gli beve ancora un bicchiere e sembra strano anche a lui solo quest'ultimo bicchiere lo fece ubriacare ubriacare all'improvviso mentre fino a quel momento era stato del tutto sobrio se lo ricordava bene da quel momento tutto cominciò a girare intorno a lui come in un delirio e gli camminava rideva attaccava discorso con tutti ma tutto come se avesse perso il controllo di sé un'unica sensazione persistente e bruciante si faceva sentire in continuazione come un tizzone ardente nel cuore in seguito l'avrebbe ricordato egli si accostò a lei le si sedette accanto la guardava l'ascoltava ella da parte sua diventò straordinariamente loquace chiamava tutti a sé invitava ora una ora l'altra delle ragazze del coro e quando quelle si avvicinavano lei o le baciava o le lasciava andare oppure alle volte faceva loro il segno della croce ancora un minutino e sarebbe scoppiata a piangere la divertiva molto il vecchietto come chiamava Maximov questi correva da lei in continuazione a baciarle le manine ditino per ditino e alla fine esegui un altro balletto con l'accompagnamento di una vecchia canzoncina che si cantava da solo con particolare vigore egli si scatenava durante il ritornello il maglialino fa scrunch 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 il vitellino fa mu 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 l'anatroccolo fa qua 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 l'occhetta fa ca 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 la gallinella trotterellava nella stanzetta e faceva tru tru ru ai ah 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 dagli qualcosa mitia diceva gruschenca regallagli qualcosa non vedi che è povero ah i poveri gli offesi sai mitia voglio andare in convento no dico sul serio un giorno ci andrò oggi agli oscia mi ha detto una cosa che ricorderò per tutta la vita si ma per oggi balliamo domani è il convento ma oggi balliamo ho voglio di giocare oggi brava gente e allora dio ci perdonerà se io fossi dio perdonerei tutti cari i miei peccatori da oggi vi perdono tutti e io andrò a chiedere perdono perdonate brava gente una stupida donna ecco che cosa sono sono una bestia ecco quello che sono e voglio pregare ho dato una cipollina una malpatrice come me sente il bisogno di pregare mitia lascia che ballino non li fermare tutti gli uomini al mondo sono buoni tutti nessuno escluso si sta bene a questo mondo anche se noi siamo cattivi nel mondo si sta bene noi siamo cattivi e buoni cattivi e buoni no ditemi vi voglio domandare una cosa venite tutti qui e io vi domanderò perché sono così buona infatti sono buona buonissima ecco quello che vi domando perché sono così buona rushenka palbettava il suo discorso sempre più ubriaca e alla fine dichiarò apertamente che aveva voglia di danzare anche lei si alzò dalla poltrona barcollando mitia non mi dare altro champagne non me lo dare anche se te lo dovessi chiedere il vino non dà la tranquillità e tutto gira anche la stufa tutto gira voglio ballare che tutti stiano a guardare come ballo come ballo bene meravigliosamente parlava sul serio tira fuori dalla tasca un candido fazzolettino di batista e lo prese per un lembo con la mano destra per sventolarlo durante la danza mitia si divertiva a fare avanti e indietro le ragazze si fermarono pronte a intonare in coro una canzone da ballo al primo segnale quando maximov sentì che anche grushenka voleva danzare squitti dall'entusiasmo e corse da lei saltellando e cantichiando gambette sottili fianchi armoniosi e la codina arricciata all'insù ma grushenka agitò il fazzoletto verso di lui e lo cacciò ehi mitia perché non vengono che vengono tutti a guardare chiama anche quelli chiusi dentro perché li hai chiusi dentro digli che sto ballando che vengono anche loro a guardare come ballo mitia barcollando ubriaco andò alla porta chiusa a chiave e cominciò a battere con il pugno per chiamare i due pan ehi voi pot bisocchie uscite vuole ballare mi sta chiamando l'aidak gli gridò per tutta risposta uno dei due pan l'aidak sarai tu sei un piccolo mascalzoncello polacco ecco che cosa sei sarebbe ora di smetterla di prendere in giro la polonia sentenziò kalganov anche lui ubriaco da non reggersi in piedi stai zitto ragazzino se ho detto a lui che è un mascalzone non vuol dire che ho detto mascalzone a tutta la polonia un solo mascalzone non fa la polonia sta zitto ragazzino caro mangia un cioccolatino ah che tipi come se non fossero esseri umani perché non fate pace disse grushenka e andò a ballare il coro tuonò oh casetta mia casetta grushenka gettò il capo all'indietro dischiuse le labbra agitò in aria il fazzolettino e all'improvviso con un forte scossone si fermò al centro della stanza come sconcertata sono debole disse con una voce quasi sofferente scusatemi sono debole non ce la faccio spiacente e la si inchinò il coro poi si mise a fare inchini su tutti e quattro i lati in successione spiacente scusate ha bevuto la signora ha bevuto la bella signora si sentiva dire ha bevuto troppo la signora spiegò Maximo fra le ragazze ridacchiando Mitya portami via prendimi Mitya disse Grushenka priva di forze Mitya si slanciò verso di lei la prese in braccio e corse dietro la tenda con la sua preziosa preda beh adesso è il caso che me ne vada pensò Kaiganov e uscendo dalla camera azzurra chiuse dietro di sé entrambe le ante della porta ma il festino nella sala continuava e si faceva sempre più rumoroso Mitya depose Grushenka sul letto e la baciò appassionatamente sulle labbra non mi toccare balbetto lei con voce implorante non mi toccare finché non sarò tua ti ho detto che sono tua ma tu non mi toccare risparmiami in presenza loro con loro nella stanza a fianco non si può lui è lì qui mi ripugna obbedisco non ci penso neanche io ti adoro mormorò Mitya sì qui è ripugnante è abominevole e senza scioglierla dal proprio braccio egli scivolò accanto al letto sul pavimento in ginocchio lo so anche se sei un bruto tu sei pure generoso disse Grushenka articolando pesantemente la lingua deve avvenire in maniera onesta da ora in avanti tutto deve essere onesto anche noi due dobbiamo essere onesti anche noi dobbiamo essere buoni non più bruti ma buoni portami via portami lontano mi senti? qui non voglio che sia lontano lontano oh sì sì certamente disse Mitya stringendola fra le braccia ti porterò via voleremo via oh in questo momento darei tutta la vita in cambio di un anno pur di sapere di quel sangue quale sangue? ripetei Grushenka sconcertata niente replicò Mitya stringendo i denti Grushenka tu vuoi che sia tutto onesto ma io sono un ladro ho rubato i soldi di Katka che infamia che infamia di Katka? della signorina? no tu non li hai rubati restituiscilieli e toglieli a me che urli a fare? adesso tutto quello che è mio è tuo a che ci servono i soldi? li sperpereremmo comunque gente come noi è destinata a sperperare ma io e te andremo a lavorare la terra voglio raschiare la terra con queste mie mani dobbiamo lavorare hai capito? l'ha ordinato a Josha io non sarò la tua amante io ti sarò sempre fedele sarà la tua schiava lavorerà per te noi andremo dalla signorina ci inchineremo tutti e due perché ci perdoni e poi andremo via e se non ci perdonerà andremo via lo stesso e tu le porterai i soldi ma amerai me e non amerai più lei non l'amerai più se l'amerai io la strangolerò le caverò tutti e due gli occhi con uno spillo io amo te soltanto te ti amerò in Siberia perché in Siberia? ma sì anche in Siberia se vorrai fa lo stesso lavoreremo in Siberia se la neve io amo viaggiare sulla neve e che ci sia anche il sonaglino senti sta scampanellando un sonaglino ma dove sta suonando? arriva della gente ecco ora ha smesso di suonare e là priva di forze chiuse gli occhi e si addormentò per un minuto in effetti sarà udito uno scampanellio da qualche parte in lontananza ma poi era cessato all'improvviso Miti appoggiò il capo sul petto di lei ed io non avevo notato che lo scampanellio era cessato e neppure che all'improvviso erano cessati anche i canti e al posto dei canti e dell'abbinazzato trambusto adesso regnava un repentino silenzio di morte riusci in capo gli occhi che è stato? ho dormito? sì il sonaglio ho dormito e ho fatto un sogno viaggiavo sulla neve il sonaglio tintinnava ed io sonnecchiavo viaggiavo con una persona cara dovevi essere tu era lontano lontano ti abbracciavo ti baciavo mi stringevo a te come se facesse freddo e la neve splendeva sai come splende la neve di notte quando brilla la luna? mi sembrava di non essere sulla terra mi sveglio e il mio amato è al mio fianco che bello al tuo fianco sussurrava Mithia baciandole il vestito il petto le mani ma all'improvviso ebbe una strana impressione mi sembrava che ella guardasse dritto davanti a sé ma che non stesse guardando lui il suo viso ma che guardasse qualcosa al di sopra della sua testa con lo sguardo fisso e stranamente immobile di colpo le affiorò sul viso un'espressione di meraviglia quasi di spavento Mithia chi è che ci sta guardando da lì? sussurra all'improvviso Mithia si voltò e vede che in effetti qualcuno aveva sollevato la tenda e li stava come spiando e sembrava pure che non ci fosse una persona sola egli saltò in piedi e avanzò rapidamente verso l'intruso venite qui favorite da questa parte gli disse qualcuno con un tono di voce non alto ma deciso e perentorio Mithia oltrepassò la tenda e rimase di sasso tutta la stanza era gremita di persone ma non erano le persone di prima erano altre un brivido improvviso gli corse su per la schiena ed egli trasalì riconobbe subito quelle persone quel vecchio alto e corpulento con il cappotto e il berretto con la coccarda era il capo della polizia Michael Macarie quello zerbinotto azimato dall'aria tubercolotica con gli stivali eternamente lustri era il sostituto procuratore ha un cronometro che vale 400 rubli me l'ha mostrato e quel piccoletto giovane con gli occhiali Mithia aveva dimenticato il cognome ma sapeva chi era l'aveva già incontrato era il giudice istruttore il giudice istruttore del tribunale arrivato fresco fresco dalla facoltà di giurisprudenza e quell'altro era il capodistretto di polizia Mavrichi Mavrichi anche quello lo conosceva lo conosceva bene e quelli con le placche quelli che sono venuti a fare e poi ancora un paio di ceffi ah ecco lì presso la porta Kalganoff e Trifonborisier signori che significa signori fece per dire Mithia come fuori di sé poi senza sapere quello che stava facendo gridò ad alta voce con tutto il piatto che aveva capisco il giovane con gli occhiali avanzò all'improvviso e giunto vicino a lui disse con gravità ma anche con una certa fretta dobbiamo farvi insomma vi prego di venire da questa parte ecco qui sul divano è assolutamente indispensabile che voi ci diate una spiegazione il vecchio gridava Mithia freneticamente il vecchio è il suo sangue capisco e crollò quasi cadde sulla sedia che gli stava di fianco capisci? ha capito parricida mostro il sangue di tuo padre grida vendetta contro di te ruggì il capo della polizia avanzando bruscamente verso Mithia era fuori di sé paonazzo in viso e tutto tremante ma è impossibile Michael Macarie non così non così vostra signoria vi prego di lasciar parlare me non mi sarei mai aspettato un simile comportamento da parte vostra ma questo è un delirio signori un delirio esclamava il capo della polizia ma guardatelo ubriaco a quest'ora di notte in compagnia di una donna di malaffare e macchiato del sangue di suo padre delirio delirio vi prego caldamente caro Michael Macarie di tenere a freno i vostri sentimenti questa volta sussurrò a velocità strepitosa il sostituto procuratore al vecchio altrimenti mi vedrò costetto a prendere ma il giudice istruttore il piccoletto non lo lasciò finire egli si rivolse a Mithia e con voce ferma alta e grave proferì signor penente in congedo Karamazov è mio dovere comunicarvi che siete accusato dell'omicidio di vostro padre Fyodor Paolović Karamazov perpetrato questa notte egli aggiunse qualcos'altro e anche il procuratore disse qualcosa da parte sua ma Mithia anche se la ascoltava non capiva quello che dicevano li guardava tutti con occhi spiritati grazie a tutti grazie a tutti